storia di aladino o della lampada meravigliosa nella capitale di un regno della cina ricchissimo e vastissimo il cui nome in questo momento mi sfugge viveva un sarto di nome mustafa che altra distinzione non aveva tranne quella datagli dal suo mestiere mustafa il sarto era poverissimo e il suo lavoro gli procurava a malapena lo stretto necessario per far vivere lui sua moglie e un figlio che dio gli aveva mandato il figlio che si chiamava aladino era stato educato in maniera molto trascurata e questo lo aveva spinto a prendere cattive abitudini era ribelle testardo disobbediente con il padre e con la madre appena ebbe raggiunto l'età della ragione i suoi genitori non riuscirono più a trattenerlo in casa usciva la mattina e passava le giornate a giocare nelle strade e nelle pubbliche piazze in compagnia di piccoli vagabondi anche più giovani di lui appena fu in età di imparare un mestiere suo padre che non era in condizione di insegnarne un altro diverso dal suo lo prese nella sua bottega e cominciò a mostrargli come doveva maneggiare l'ago ma né con la dolcezza né con la minaccia di alcun castigo gli fu possibile rendere attenta la volubile mente del figlio non riuscì a costringerlo a frenarsi a diventare assiduo e attaccato al lavoro come sperava appena mustafà gli girava le spalle aladino se ne scappava senza tornare più per tutto il giorno il padre lo puniva ma aladino era incorreggibile e con gran rammarico mustafà fu costretto ad abbandonarlo al suo vagabondaggio questo lo fece soffrire molto e il dolore non poteva far tornare il figlio al proprio dovere gli causò una malattia così ostinata che dopo qualche mese ne morì la madre di aladino vedendo che il figlio non prendeva la via di imparare il mestiere di suo padre chiuse la bottega e con il denaro ricavato dalla vendita di tutti gli arnesi del mestiere insieme con quel poco che guadagnava filando il cotone provvedeva a mantenere se stessa e il figlio aladino che non era più trattenuto dal timore del padre e si preoccupava così poco della madre che aveva perfino il coraggio di minacciare alla minima rimostranza che lei gli faceva si abbandonò allora a un pieno vagabondaggio frequentava sempre più i ragazzi della sua età e non smetteva di giocare con loro con più accanimento di prima continuò questo tipo di vita fino all'età di 15 anni senza sentire interesse per niente e senza riflettere a cosa sarebbe stato un giorno di lui era in questa situazione quando un giorno mentre giocava in mezzo a una piazza con un gruppo di vagabondi come era solito fare uno straniero che passava per quella piazza si fermò a guardarlo questo straniero era un famoso mago che gli autori di questa storia chiamano mago africano così lo chiameremo tanto più volentieri in quanto era davvero nato in africa ed era arrivato solo da due giorni forse perché il mago africano che si intendeva di fisionomie aveva notato sul viso di aladino tutto ciò che era assolutamente necessario all'esecuzione del piano che costituiva il motivo del suo viaggio o per qualche altra ragione si informò abilmente della sua famiglia di chi fosse e delle sue inclinazioni quando ebbe saputo tutto quello che voleva si avvicinò al giovinetto e tirandolo in disparte a qualche passo dai suoi compagni gli chiese figlio mio vostro padre è per caso mustafa il sarto sì signore rispose aladino ma è morto da molto tempo a queste parole il mago africano si gettò al collo di aladino lo abbracciò e lo baciò più volte con le lacrime agli occhi ed emettendo sospiri aladino notando le sue lacrime gli chiese perché piangesse figlio mio esclamò il mago africano come potrei farne a meno io sono vostro zio e vostro padre era il mio buon fratello sono in viaggio da molti anni e nel momento in cui arrivo qui con la speranza di rivederlo e dargli la gioia del mio ritorno voi mi dite che è morto vi assicuro che è un gran dolore per me vedermi privato della consolazione che mi aspettavo ma in parte il mio dolore è alleviato dal fatto che per quanto posso ricordarmene io riconosco i suoi lineamenti sul vostro viso e vedo che non mi sono ingannato rivolgendomi a voi chiese ad aladino portando la mano alla borsa dove abitasse sua madre subito aladino rispose alla sua domanda e allora il mago africano gli diede una manciata di spiccioli dicendogli figlio mio andate da vostra madre presentatele i miei omaggi e ditele che se il tempo me lo consente andrò a trovarla domani per avere la consolazione di vedere il posto in cui mio fratello è vissuto per tanto tempo e dove ha finito i suoi giorni appena il mago africano ebbe lasciato il nipote che si era gli stesso creato aladino corse dalla madre da infelice per il denaro datogli dallo zio mamma le disse arrivando vi prego di dirmi se ho uno zio no figlio mio gli rispose la madre non avete nessuno zio né da parte del defunto vostro padre né da parte mia tuttavia rispose aladino ho appena visto un uomo che si dichiara mio zio da parte di mio padre poiché è il suo fratello a quanto mi ha assicurato si è anche messo a piangere e ad abbracciarmi quando gli ho dato la notizia che mio padre era morto e per dimostrarvi che dico la verità aggiunse facendole vedere gli spiccioli che aveva rubato guardate che cosa mi ha dato mi ha anche incaricato di salutarvi da parte sua e di dirvi che domani se ne avrà il tempo verrà a trovarvi per vedere insieme la casa in cui mio padre è vissuto e morto figlio mio replicò la madre è vero che vostro padre aveva un fratello ma è morto da molto tempo e non gli ho mai sentito dire che ne avesse un altro non dissero di più sul mago africano il giorno dopo il mago africano si avvicinò una seconda volta ad aladino mentre giocava in un'altra parte della città con altri ragazzi lo abbracciò come aveva fatto il giorno prima e mettendogli due monete d'oro in mano gli disse figlio mio portatele a vostra madre ditele che verrò a trovarla stasera e che compri il necessario per la cena per mangiare insieme ma indicatemi prima la strada di casa e gli la indicò e il mago africano lo lasciò andare aladino portò le due monete d'oro alla madre e appena le ebbe riferito l'intenzione dello zio lei uscì per andare a spenderle e tornò con delle buone provviste e poiché non aveva buona parte del vasellame di cui aveva bisogno lo chiese in prestito ai vicini impiegò tutta la giornata per preparare la cena e verso sera quando tutto fu pronto disse ad aladino figlio mio forse vostro zio non sa dov'è la nostra casa andate gli incontro e se lo trovate accompagnatelo qui sebbene aladino avesse indicato la casa al mago africano tuttavia stava per uscire quando bussarono alla porta aladino aprì e riconobbe il mago africano che entrò carico di bottiglie di vino e di parecchie qualità di frutta che portava per la cena dopo aver messo ciò che portava fra le mani di aladino salutò la madre e la pregò di mostrargli il posto che suo fratello mustafa aveva l'abitudine di occupare sul divano lei lo mostrò e subito il mago si prosternò e baciò ripetutamente quel posto con le lacrime agli occhi esclamando a mio povero fratello come sono disgraziato a non essere arrivato in tempo per abbracciarvi ancora una volta prima della vostra morte sebbene la madre di aladino lo pregasse di farlo egli non volle mai sedersi in quello stesso posto no disse me ne guarderò bene ma permettetemi di mettermi qui proprio di fronte affinché se sono privo della soddisfazione di vederlo di persona come padre di una famiglia che mi è tanto cara possa almeno fare come se fosse presente la madre di aladino non insistette e lo lasciò libero di sedersi dove voleva quando il mago africano si fu seduto al posto che aveva scelto cominciò a conversare con la madre di aladino mia buona sorella le diceva non vi stupite di non avermi visto per tutto il tempo che siete stata sposata con mio fratello mustafa di felice memoria ho lasciato da 40 anni questo paese che è il mio come era quello del defunto mio fratello da allora dopo aver viaggiato nelle indie in persia in arabia in siria in egitto e soggiornato nelle più belle città di quei paesi passai in africa dove ho abitato più a lungo alla fine poiché è naturale che l'uomo per lontano che sia dal suo paese natale non lo dimentichi mai così come non dimentica i suoi parenti e quelli che l'hanno allevato mi è venuto il desiderio tanto forte di rivedere il mio paese di venire ad abbrazzare il mio caro fratello quando avevo ancora la forza e il coraggio sufficienti per intraprendere un viaggio così lungo che non ho indugiato a fare i miei preparativi a mettermi in viaggio non vi dico niente di tutto il tempo che ci ho messo di tutti gli ostacoli che ho incontrato e di tutte le fatiche che ho sopportato per arrivare fin qui vi dirò solo che niente mi ha tanto mortificato e addolorato nel corso di tutti i miei viaggi quanto il venire a sapere della morte di un fratello che avevo sempre amato e amavo con affetto veramente fraterno ho notato i suoi lineamenti sul volto di mio nipote nostro figlio e questo me lo ha fatto distinguere fra tutti gli altri ragazzi con i quali era in compagnia egli vi avrà detto in che modo ho avuto la triste notizia che mio fratello non era più al mondo ma bisogna lodare dio per tutte le cose mi consolo di ritrovarlo in un figlio che ne conserva i lineamenti più notevoli il mago africano accorgendoci che la madre di aladino si commuoveva al ricordo del marito rinnovando il suo dolore cambiò discorso e rivolgendosi ad aladino gli chiese il suo nome mi chiamo aladino gli rispose è bene aladino riprese il mago di che cosa vi occupate conoscete qualche mestiere a queste domande aladino abbassa gli occhi e rimase sconcertato ma sua madre rispondendo al suo posto disse aladino è un fannullone suo padre ha fatto tutto il possibile mentre era in vita per insegnargli il suo mestiere e non è potuto giungere a niente da quando il padre è morto nonostante tutto quello che ho potuto dirgli e ripetergli ogni giorno egli non fa altro mestiere salvo quello del vagabondo e passa tutto il tempo a giocare con i ragazzi come voi avete visto senza considerare che non è più un bambino e se voi non gli fate una ramanzina ed egli non ne approfitta vi spero che possa mai valere qualcosa e gli sa che suo padre non ha lasciato nessun bene e vede benissimo che filando cotone per tutto il giorno come faccio io a mala pena riesco a guadagnare di che procurarci un po di pane quanto a me sono deciso a chiudergli la porta in faccia una di questi giorni e a mandarlo a cercarne altrove quando la madre di aladino ebbe detto queste parole scoppiando a piangere il mago africano disse ad aladino questo non sta bene nipote mio dovete pensare ad aiutare voi stesso e a guadagnarvi la vita ci sono mestieri di ogni tipo guardate guardate se ce n'è qualcuno al quale siete più portato che agli altri forse quello di vostro padre non vi piaceva e vi adattereste meglio ad un altro non dissimulate i vostri sentimenti con me io cerco solo di aiutarvi vedendo che aladino non rispondeva aggiunse se siete contrario a imparare un mestiere e volete essere un uomo onesto io vi aprirò una bottega di ricche stoffe e telefini vi metterete in condizioni di venderle e con il denaro che guadagnerete comprerete altre mercanzie e in questo modo vivrete onorevolmente pensateci su e ditemi francamente che cosa ve ne pare mi troverete sempre pronto a mantenere la mia promessa questa offerta ha letto molto aladino a quale non piaceva il lavoro manuale tanto più che gli risultava che le botteghe di questa specie di mercanzia erano eleganti e frequentate e che i mercanti erano ben visti e molto considerati dichiarò al mago africano che lui credeva suo zio che la sua inclinazione lo portava a questo tipo di lavoro più che ad ogni altro e che gli sarebbe stato riconoscente per tutta la vita del bene che voleva fargli poiché questa professione vi piace riprese il mago africano domani mattina vi porterò con me e vi farò vestire con decoro ed eleganza secondo la condizione di uno dei più importanti mercanti di questa città e dopo domani penseremo ad aprire una bottega come dico io la madre di aladino che fino ad allora non aveva creduto che il mago africano fosse fratello di suo marito non ebbe più nessun dubbio dopo tutto il bene che egli prometteva di fare al suo figlio lo ringraziò delle sue buone intenzioni e dopo aver esortato aladino a rendersi degno di tutti i beni che suo zio gli faceva sperare servì la cena la conversazione si agirò sullo stesso argomento per tutta la durata della cena finché il mago vedendo che la notte era inoltrata prese congedo dalla madre e dal figlio e si ritirò la mattina dopo il mago africano non mancò di ritornare dalla vedova di mustafa il sarto come aveva promesso prese aladino con sé e lo portò da un ricco mercante che vendeva solo abiti già confezionati di ogni tipo di belle stoffe per le diverse età e condizioni e ne fece mostrare di adatti alla statura di aladino e dopo aver messo da parte tutti quelli che gli piacevano di più e scartato gli altri che non erano belli come voleva disse ad aladino nipote mio scegliete tra tutti questi abiti quello che più vi piace aladino incantato dalle prodigalità del nuovo zio ne scelse uno il mago lo comprò insieme con tutti gli accessori e pagò il tutto senza mercanteggiare quando si vide così splendidamente vestito da capo a piedi aladino rivolse allo zio tutti i ringraziamenti immaginabili e il mago gli promise ancora una volta di non abbandonarlo e di tenerlo sempre con sé infatti lo portò nei posti più frequentati della città soprattutto in quelli dove si trovavano le botteghe dei ricchi mercanti e arrivati nella via dove c'erano le botteghe delle più ricche stoffe e di telefini disse ad aladino poiché sarete presto mercante come questi che vedete è bene che voi li frequentiate e che essi vi conoscano gli face anche vedere le moschee più belle e più grandi lo portò nei can dove alloggiavano i mercanti stranieri e in tutti i posti del palazzo del sultano dove era consentito entrare infine dopo aver percorso insieme tutti i bei luoghi della città arrivarono nel can dove il mago aveva preso un appuntamento si trovarono alcuni mercanti con i quali aveva cominciato a fare amicizia dopo il suo arrivo e che aveva espressamente riuniti per offrire loro un buon banchetto e nello stesso tempo presentare loro il suo preteso nipote il banchetto finì solo verso sera aladino volle congedarsi dallo zio per tornarsene a casa ma il mago africano non volle lasciarlo andare solo e lo riaccompagnò dalla madre appena una donna vide il suo figlio così ben vestito fu entusiasta dalla gioia e non smetteva di rivolgere mille benedizioni al mago che aveva sostenuto una così forte spesa per suo figlio generoso parente gli disse non so come ringraziarvi per la vostra prodigalità io so che mio figlio non merita il bene che gli fate e che sarebbe assolutamente indegno se non vi sarà riconoscente e se trascurrerà di rispondere alla buona intenzione che avete di dargli una professione così dignitosa quanto a me aggiunse ve ne ringrazio ancora di tutto cuore e vi auguro una vita abbastanza lunga da poter essere testimone della riconoscenza di mio figlio che non può dimostrarvela meglio se non comportandosi secondo i vostri buoni consigli aladino le spose il mago africano è un buon ragazzo mi sta abbastanza a sentire e credo che ne faremo qualcosa di buono mi dispiace solo di non poter fare domani quello che gli avevo promesso è venerdì le botteghe saranno chiuse e non sarà possibile prenderne una in affitto e arredarla mentre i mercanti penseranno solo a divertirsi perciò rimanderemo la cosa a sabato ma domani verrò a prenderlo per portarlo a passeggio nei giardini dove il bel mondo è solito incontrarsi forse non ha ancora visto come ci si diverte lì finora ha frequentato solo dei bambini deve vedere degli uomini il mago africano prese congedo dalla madre e dal figlio e se ne andò intanto aladino che era già molto contento vedendosi così ben vestito per gustò anche la gioia della passeggiata nei giardini appena fuori della città infatti non era mai uscito dalle porte e non aveva mai visto i dintorni che erano molto belli e ridenti il giorno dopo aladino si alzò e si vestì di buon mattino per essere pronto a uscire quando lo zio sarebbe venuto a prenderlo dopo un'attesa che gli sembrò molto lunga l'impazienza lo spinse ad aprire la porta e a restare sulla soglia per vedere se stesse arrivando appena lo vide avvertì la madre e salutandola chiuse la porta e corse verso di lui per raggiungerlo il mago africano fece molta festa ad aladino quando lo vide andiamo caro ragazzo gli disse con aria sorridente oggi vi farò vedere delle belle cose lo fece uscire da una porta della città che portava delle case belle e grandi o meglio a magnifici palazzi ognuno dei quali aveva bellissimi giardini il cui ingresso era libero a ogni palazzo che incontravano il mago chiedeva ad aladino se gli sembrasse bello e aladino prevenendolo appena ne vedeva un altro diceva zio questo è più bello di quello che abbiamo già visti intanto continuavano a inoltrarsi sempre più nella campagna e l'astuto mago che voleva spingersi più lontano per mettere in atto il disegno che aveva in mente colse l'occasione per entrare in uno di questi giardini si sedette accanto a una grande fontana la cui acqua limpidissima scorreva da una bocca di leone di bronzo e finse di essere stanco per far riposare aladino nipote mio gli disse dovete essere stanco come lo sono io riposiamoci qui per riprendere le forze avremo più animo per continuare la nostra passeggiata quando si furono seduti il mago africano tirò fuori da un panno legato alla sua cintura dei dolci e parecchie qualità di frutta di cui aveva fatto provvista e lo stese sull'orlo della vasca diviso un dolce a metà con aladino e quanto alla frutta lo lasciò libero di scegliere quella che più gli piaceva durante questa merendina diede al preteso nipote molti consigli che tendevano a esortarlo a staccarsi dalla compagnia dei ragazzi e ad avvicinarsi piuttosto agli uomini saggi e prudenti ad ascoltarli e ad avvalersi dei loro discorsi tra non molto sarete uomo come loro gli diceva e non sarà mai troppo presto perché vi abituiate a dire cose sagge seguendo il loro esempio quando ebbero finito di mangiare si alzarono e ripresero a passeggiare attraverso i giardini che erano separati gli uni dagli altri soltanto da fossatelli che ne seguivano i limiti ma che non impedivano il passaggio la buona fede faceva sì che i cittadini di quella capitale non prendessero precauzioni più grandi per impedire di nuocersi a vicenda a poco a poco il mago africano portò aladino molto lontano oltre i giardini e gli fece attraversare dei campi che lo portarono quasi vicino alle montagne aladino che in vita sua non aveva mai percorso tanta strada si sentì stanchissimo di una così lunga passeggiata zio disse al mago africano dove andiamo abbiamo lasciato i giardini molto dietro di noi e vedo solo montagne se andiamo ancora avanti non so se avrò la forza sufficiente per ritornare fino in città fatevi coraggio nipote mio gli disse il falso zio voglio farvi vedere un altro giardino che supera tutti quelli che avete visto fino ad ora non è lontano da qui sono soltanto pochi passi e quando vi saremo arrivati voi stesso mi direte se non vi sarebbe dispiaciuto di non averlo visto dopo esserci arrivato tanto vicino aladino si lasciò convincere e il mago lo fece camminare ancora a lungo raccontandogli diverse storie divertenti per rendergli la strada meno noiosa e la stanchezza più sopportabile arrivarono fra due montagne non molto alte e quasi uguali separate da una valle molto stretta era questo il fatidico posto dove il mago aveva voluto portare aladino per attuare un grande progetto che l'aveva fatto venire dall'estremità dell'africa fino alla cina ci fermiamo qui disse ad aladino voglio farvi vedere delle cose straordinarie e sconosciute a tutti i mortali e quando le avrete viste mi ringrazierete di essere stato testimone di tante meraviglie che nessuno tranne voi avrà viste mentre io batto all'acciarino raccogliete i fuscelli più secchi che troverete per accendere il fuoco c'era una così grande quantità di sterpaglia chiaradino ne raccolse presto un mucchio più che sufficiente mentre il mago accendeva l'esca vi diede fuoco e nell'istante in cui la sterpaglia si infiammò il mago africano vi gettò sopra un profumo che aveva già pronto si innalzò un fumo molto denso che gli sventolò da un lato e dall'altro pronunciando delle magiche parole di cui aladino non capì niente nello stesso momento la terra tremò un po e si spalancò in quel punto davanti al mago e ad aladino mettendo allo scoperto una pietra quadrata di circa un piede mezzo di lato e profonda circa un piede sistemato orizzontalmente con un anello di bronzo conficcato nel mezzo che serviva per sollevarla aladino spaventato da tutto quello che succedeva sotto i suoi occhi avrebbe voluto fuggire ma egli era necessario a quel mistero e il mago lo trattenne e lo sgridosse veramente dandogli uno schiaffo appioppato con tanta forza che lo gettò a terra e per poco non gli fece conficcare i denti nelle labbra come sembrò dal sangue che ne usciva un povero aladino tutto tremante e con le lacrime agli occhi esclamò piangendo zio che cosa ho fatto dunque per aver meritato che mi colpiate così brutalmente ho le mie ragioni per farlo rispose il mago io sono vostro zio che ora vi fa da padre e voi non dovete replicare ma figlio mio aggiunse calmandosi non avete niente da temere vi chiedo solo di ubbidirmi esattamente se volete approfittare e rendervi degno dei grandi favori che voglio farvi queste belle promesse del mago calmarono un po la paura e il risentimento di aladino e quando il mago lo vide completamente rassicurato continuò avete visto che cosa ho fatto in virtù del mio profumo e delle parole che ho pronunciato ora dovete sapere che sotto questa pietra che vedete è nascosto un tesoro che vi è destinato e che ogni giorno vi renderà più ricco del più grande re della terra questo è così vero che a nessuno al mondo fuorché a voi è permesso toccare questa pietra e sollevarla per entrare anche a me è proibito toccarla e mettere piede nel nascondiglio del tesoro quando sarà stato aperto perciò è necessario che voi eseguate alla lettera quello che vi dirò senza sbagliare la cosa è della massima importanza sia per voi che per me aladino sempre in preda allo stupore per ciò che vedeva e per tutto quanto aveva sentito dire dal mago su quel tesoro che avrebbe dovuto renderlo per sempre felice dimenticò tutto quanto era successo ebbene zio disse il mago alzandosi di che si tratta ordinate sono prontissimo ad obbedirvi sono felice figlio mio gli disse il mago africano abbracciandolo che abbiate scelto questo partito venite avvicinatevi prendete quest'anello e sollevate la pietra ma zio riprese aladino io non sono abbastanza forte da sollevarla bisogna che mi aiutiate no replicò il mago africano non avete bisogno del mio aiuto e se vi aiutassi non combineremmo niente né voi né io dovete sollevarla da solo pronunciate solo il nome di vostro padre e di vostro nonno tenendo l'anello e tirate vedrete che la pietra si solleverà senza fatica aladino fece come gli aveva detto il mago sollevò la pietra con facilità e la posò gli accanto quando la pietra fu tolta apparve un sotterraneo profondo tre o quattro piedi con una porticina e dei gradini per scendere più in basso figlio mio disse allora il mago africano ad aladino fate esattamente tutto quello che sto per dirvi scendete nel sotterraneo quando sarete in fondo alla scala che vedete troverete una porta aperta attraverso la quale entrerete in una grande stanza a volta vi vi sentra grandi sale una dopo l'altra in ognuna vedrete a destra e a sinistra quattro vasi di bronzo grandi cometini pieni d'oro e d'argento ma guardatevi bene dal toccarli prima di entrare nella prima sala sollevatevi il vestito e stringetelo bene attorno alla vita quando vi sarete entrato passate nella seconda sala senza fermarvi e poi nella terza sempre senza fermarvi soprattutto state attento a non avvicinarvi ai muri e a non sfiorarli nemmeno con il vostro vestito infatti se li toccaste morireste immediatamente perciò vi ho detto di tenerla stretta intorno al corpo in fondo alla terza sala c'è una porta attraverso la quale entrerete in un giardino pieno di bagli alberi tutti carichi di frutti camminate dritto e attraversate questo giardino passando per un sentiero che vi porterà a una scala di 50 gradini che arriva ad una terrazza quando sarete sulla terrazza vedrete davanti a voi una nicchia e nella nicchia una lampada accesa prendete la lampada spegnetela e quando avrete gettato il lucignolo e versato il liquido che contiene mettetevela in seno e portatemela non temete di macchiarvi il vestito il liquido non è olio e la lampada si asciugherà appena l'avrete svuotata se i frutti del giardino vi fanno gola potete coglierne quanti ne volete questo non vi è proibito dette quelle parole il mago africano prese un anello che aveva nel dito e lo mise al dito di aladino dicendogli che serviva a proteggerlo contro tutto quello che poteva capitargli di male purché avesse osservato attentamente quello che gli aveva ordinato andate figlio mio gli disse dopo avergli dato quelle istruzioni scendete con coraggio tra poco saremo entrambi ricchi per tutta la vita aladino saltò con agilità nel sotterraneo e scese fino in fondo ai gradini trovò le tre sale di cui il mago africano gli aveva fatto la descrizione le attraversò con precauzione tanto maggiore in quanto temeva di morire se non avesse accuratamente osservato ciò che gli era stato prescritto attraversò il giardino senza fermarsi salì sulla terrazza prese la lampada accesa dalla nicchia gettò il lucignolo e il liquido poi vedendola asciutta se la mise in seno scese dalla terrazza e si fermò nel giardino ad ammirarne i frutti che prima aveva visto solo di sfuggita tutti gli alberi dal giardino erano carichi di frutti straordinari ogni albero ne aveva di diversi colori ce ne erano di bianchi di lucenti e trasparenti come il cristallo di rossi alcuni più scuri altri meno di verdi di azzurri di viola e alcuni che tendevano al giallo e di molti altri colori quelli bianchi erano perle quelli lucenti e trasparenti diamanti quelli rossi più scuri rubini quelli meno scuri rubini balasci quelli verdi smeraldi quelli azzurri turchesi quelli viola ametiste quelli che tendevano al giallo zaffiri e così di seguito e questi frutti erano tutti di una grandezza e di una perfezione come non si era visto ancora al mondo aladino che non ne conosceva né il pregio né il valore non fu colpito dalla vista di quei frutti che non erano di suo gusto come lo sarebbero stati i fichi l'uva e l'altra eccellente frutta che è comune nella cina non aveva ancora l'età per conoscerne il pregio pensò che tutti questi frutti fossero solo dei vetri colorati e non valessero di più tuttavia la diversità di tanti bei colori la bellezza e la grandezza straordinaria di ogni frutto gli diedero il desiderio di coglierne di ogni tipo infatti ne prese parecchi di ogni colore e se ne riempì le due tasche e le due borse nuovissime comprategli dal mago insieme con il vestito che gli aveva regalato per non fargli indossare niente che non fosse nuovo e poiché le due borse non entravano nelle sue tasche già piene egli le legò alla cintura una su ogni fianco mise anche dei frutti nelle pieghe della cintura che era di seta ampia e avvolta parecchie volte intorno alla vita e li sistemò in modo che non potessero cadere non dimenticò neppure di mettersene in petto tra il vestito e la camicia intorno al corpo aladino così carico senza saperlo di tante ricchezze riprese in fretta la strada delle tre sale per non far attendere troppo a lungo il mago africano e dopo averle attraversate con la stessa precauzione di prima risali da dove era sceso e si presentò all'ingresso del sotterraneo dove il mago africano lo aspettava con impazienza appena aladino lo vide gli disse zio vi prego di darmi la mano per aiutarmi a salire il mago africano gli rispose figlio mio datemi prima la lampada essa potrebbe darvi fastidio scusate zio riprese aladino essa non mi dà fastidio ve la darò appena sarò salito il mago africano si ostinò a volere che aladino gli mettesse la lampada fra le mani prima di tirarlo fuori dal sotterraneo e aladino che aveva messo sopra alla lampada tutti i frutti di cui si era imbottito in ogni parte rifiutò assolutamente di dargliela finché non fosse uscito dal sotterraneo allora il mago africano esasperato dalla resistenza del ragazzo fu preso da una furia spaventosa gettò un po del suo profumo sul fuoco che aveva avuto cura di mantenere acceso e appena ebbe pronunciato due parole magiche la pietra che serviva a chiudere l'entrata del sotterraneo si mise da sola al suo posto con la terra sopra nella stessa posizione in cui era all'arrivo del mago africano e di aladino è certo che il mago africano non era fratello di mustafa il sarto come si era voluto far credere e di conseguenza zio di aladino era veramente africano e in africa era nato e poiché quello è un paese in si appassionati di magia più che in ogni altro paese e gli vi si era dedicato fin dalla gioventù e dopo circa 40 anni di incantesimi di operazioni di geomazia di fumigazioni e di lettura di libri di magia era infine arrivato a scoprire che al mondo esisteva una lampada così meravigliosa il cui possesso lo avrebbe reso più potente di qualsiasi sovrano dell'universo se fosse riuscito ad entrarne in possesso con un'ultima operazione di geomazia aveva saputo che questa lampada si trovava in un posto sotterraneo al centro della cina nel luogo e con tutte le circostanze che abbiamo raccontato totalmente convinto della verità di questa scoperta era partito dall'estremità dell'africa come abbiamo detto e dopo un viaggio così lungo e faticoso era arrivato nella città tanto vicina al tesoro ma sebbene la lampada fosse sicuramente nel posto che lui conosceva tuttavia non gli era permesso di prenderla personalmente né di entrare personalmente nel sotterraneo dove essa si trovava era necessario che un altro vi scendesse andasse a prenderla e gliela mettesse tra le mani perciò si era rivolto ad aladino che gli era sembrato un ragazzo sprovveduto e adattissimo rendergli il servigio che si aspettava da lui e era ben deciso appena avesse avuto la lampada tra le mani a fare l'ultima fumigazione che abbiamo detto e a pronunciare le due parole magiche che dovevano avere l'effetto che abbiamo visto e sacrificare il povero aladino alla propria cupidigia e alla propria malvagità così da non avere testimoni lo schiaffo dato ad aladino e l'autorità che aveva preso su di lui altro scopo non avevano se non quello di abituarlo a temerlo e a ubbidirlo esattamente affinché quando gli avesse chiesto di dargli la famosa lampada magica egli gliela consegnasse subito ma accadde tutto il contrario di quanto si era proposto insomma egli ricorsa alla sua malvagità con tanta precipitazione per sbarazzarsi del povero aladino solo perché temeva che se avesse discusso ancora con lui qualcuno avrebbe potuto sentirli e rendere pubblico quello che lui voleva tenere ben segreto quando il mago africano vide le sue grandi e belle speranze fallite per sempre altro non pote fare se non tornarsene in africa e partì lo stesso giorno passò per vie traverse per non rientrare nella città da cui era uscito con aladino aveva paura infatti di essere notato da parecchie persone che potevano averlo visto passeggiare con il ragazzo e ritornare solo secondo tutte le apparenze non si sarebbe più dovuto parlare di aladino ma proprio quello che aveva creduto di rovinarlo per sempre aveva dimenticato di avergli messo al dito un anello che poteva servire a salvarlo infatti questo anello fu la salvezza di aladino che non ne conosceva affatto la virtù e c'è da stupirsi che la perdita dell'anello aggiunta a quella della lampada non abbia ridotto quel mago all'estrema disperazione ma i maghi sono così abituati alle disgrazie agli avvenimenti contrari ai loro desideri che non smettono per tutta la loro vita di nutrirsi di fumigazioni di chimere e di visioni aladino che non si aspettava la malvagità del suo falso zio dopo le affettuosità e il bene che gli aveva fatto fu preso da uno stupore più facile da immaginare che da descrivere con le parole quando si vide sepolto vivo chiamò mille volte lo zio gridando che era pronto a dargli la lampada ma le sue grida erano inutili e non c'era più modo di essere ascoltato perciò rimase nelle tenebre e nell'oscurità infine dopo aver dato un po' di tregua alle sue lacrime scese fino in fondo alla scala del sotterraneo per andare a cercare la luce del giardino che aveva già attraversato ma il muro che si era aperto per incantesimo si era chiuso e congiunto con un altro incantesimo va un po' innanzi a tentoni a destra e a sinistra per parecchie volte e non trova più la porta raddoppia le sue grida e i suoi pianti e si siede su un gradino del sotterraneo disperando di rivedere mai più la luce anzi con la triste certezza di passare dalle tenebre in cui era in quelle di una prossima morte aladino resta due giorni in questo stato senza mangiare né bere nel terzo giorno infine considerando la morte inevitabile congiunse le mani alzandole al cielo e con completa rassegnazione alla volontà di dio esclamò non c'è forza e potenza se non in dio l'alto il grande e congiungere le mani sfregò senza farci caso l'anello che il mago africano gli aveva messo al dito e di cui non conosceva ancora la virtù subito un genio dalla figura enorme e dallo sguardo spaventoso si alzò davanti a lui come se venisse da sottoterra fino a raggiungere la volta con la testa e disse ad aladino queste parole che vuoi sono pronto a obbedirti come tuo schiavo e schiavo di tutti quelli che hanno l'anello al dito io e gli altri schiavi dell'anello in un altro momento in un'altra occasione aladino che non era abituato a simili visioni sarebbe stato preso dal terrore e avrebbe potuto perdere la parola vedendo una figura così straordinaria ma preoccupato soltanto del pericolo presente in cui si trovava rispose senza esitare chiunque tu sia fammi uscire da questo posto se ne ha il potere appena ebbe pronunciato queste parole la terra gli si spalancò ed egli si trovò fuori dal sotterraneo proprio nel posto in cui il mago l'aveva portato non bisogna stupirsi se aladino che era rimasto così a lungo nelle tenebre più fitte in un primo momento stentasse a sopportare la piena luce a poco a poco i suoi occhi vi si abituarono e guardandosi intorno fu molto stupito di non vedere nessuna apertura nella terra non riuscì a capire come avesse potuto trovarsi così rapidamente fuori delle sue viscere solo il posto in cui era stata bruciata la sterpaglia secca gli fece riconoscere all'incirca dove fosse il sotterraneo poi rivolgendosi verso la città la vida in mezzo ai giardini che la circondavano riconobbe il sentiero lungo il quale il mago africano l'aveva guidato e lo imboccò rendendo grazie a dio di rivedersi di nuovo al mondo dopo aver disperato di mai più ritornarvi arrivò fino alla città e si trascinò a casa con molta fatica entrando in casa di sua madre la soia di rivederla unita alla debolezza per non aver mangiato da quasi tre giorni gli procurò uno svenimento che durò un po di tempo la madre che l'aveva già pianto come perduto come morto vedendolo in quello stato non tralasciò niente per farlo tornare in sé finalmente egli si riebbe dallo svenimento e le prime parole che pronunciò furono mamma prima di ogni cosa vi prego di darmi da mangiare da tre giorni non tocco cibo sua madre gli portò quello che aveva e mettendoglielo davanti gli disse figlio mio non mangiate in fretta è pericoloso mangiate poco per volta e a vostro agio abbiate prudenza che ne avete bisogno non voglio neanche che mi parliate avrete abbastanza tempo per raccontarmi quello che vi è successo quando vi sarete ben ristabilito sento una grande consolazione rivedendovi dopo il dolore del quale sono preda da venerdì e tutte le pene che mi sono presa per sapere che cosa vi fosse capitato appena vidi che era notte e non eravate tornato a casa aladino seguì il consiglio di sua madre mangiò tranquillamente e poco per volta e bevva in proporzione quando ebbe finito disse mamma dovrei rivolgervi molti rimproveri per avermi abbandonato con tanta leggerezza alla discrezione di un uomo che aveva l'intenzione di rovinarmi e che ora mentre vi parlo considera la mia morte così inevitabile da essere certo che io sia già morto o che stia per morire ma voi avete creduto che fosse mio zio e io l'ho creduto come voi potevamo pensare altro di un uomo che mi riempiva di carezze e di beni e mi faceva tante altre lusinghiere promesse sappiate mamma che è solo un traditore un malvagio e un fante mi ha fatto tanto bene tante promesse solo per arrivare allo scopo che ci era prefisso quello di rovinarmi come ho detto senza che né voi né io possiamo indovinarne la causa quanto a me posso assicurare che non gli ho dato nessun motivo per meritare il minimo maltrattamento lo capirete voi stessa dal fedele racconto che ora vi farò di tutto quello che è successo dal momento in cui mi sono separato da voi fino all'esecuzione del suo terribile disegno aladino cominciò a raccontare alla madre tutto ciò che gli era successo col mago dal venerdì quando era venuto a prenderlo per portarlo a vedere i palazzi ai giardini che sorgevano fuori della città ciò che accadde lungo il percorso fino alle due montagne dove doveva operarsi il grande prodigio del mago come con un profumo gettato sul fuoco e qualche parola magica la terra si fosse spalancata in un momento e avesse mostrato l'ingresso in un sotterraneo che conduceva a un tesoro inestimabile non dimenticò lo schiaffo che aveva ricevuto dal mago né di raccontare in che modo quello dopo essersi un po' calmato lo avesse esortato con grandi promesse mettendogli il suonello al dito a scendere nel sotterraneo non ho mise nessun particolare di tutto quanto aveva visto passando ripassando nelle tre sale nel giardino e sulla terrazza dove aveva preso la lampada meravigliosa che mostrò a sua madre tirandosela fuori del petto insieme con tutti i frutti trasparenti e di differenti colori che aveva colto nel giardino sulla via del ritorno ai quali aggiunse due borse piene che diede alla madre e dalle quali ella fece poco caso questi frutti erano tuttavia pietre preziose lo splendore brillante come il sole che si emanavano alla luce di una lampada che rischiarava la stanza doveva far capire il loro grande valore ma la madre di aladino non aveva in questo campo maggiori conoscenze di suo figlio era stata allevata in condizioni molto mediocri e suo marito non aveva avuto beni sufficienti per regalarle quel tipo di pietre preziose d'altronde lei non ne aveva mai viste a nessuna delle sue parenti o delle sue vicine perciò non bisogna stupirsi se le considerava solo cose di poco valore e buone al massimo a rallegrare la vista con la varietà dei loro colori così che aladino le mise dietro uno dei cuscini del divano sul quale era seduto finì di raccontare la sua avventura dicendole che quando fu tornato dal giardino e si fu presentato all'ingresso del sotterraneo pronto ad uscire avendo rifiutato il mago di dargli la lampada che egli gli chiedeva l'ingresso del sotterraneo si era richiuso in un istante grazie al potere del profumo che il mago aveva gettato nel fuoco che non aveva lasciato spegnere e delle parole che aveva pronunciato ma non pote dire altro senza piangere descrivendole il disgraziato stato in cui si era trovato quando si era visto sepolto vivo nel fatale sotterraneo fino al momento in cui era uscito e in cui per così dire era ritornato al mondo toccando il suo anello del quale non conosceva ancora le virtù quando ebbe finito questo racconto disse a sua madre non è necessario dirvi altro il resto lo conoscete ecco quale avventura e quale pericolo corso da quando non mi avete visto la madre di aladino ebbe la pazienza di ascoltare senza interromperlo questo racconto fantastico e stupefacente insieme così doloroso per una madre che amava teneramente il figlio nonostante i suoi difetti tuttavia nei punti più commoventi e che meglio dimostravano la perfidia del mago africano e la non poter impedirsi di dimostrare quanto lo detestava con segni di indignazione ma appena aladino ebbe finito si scagliò in mille ingiurie contro quell'impostore lo chiamò traditore perfido barbaro assassino ingannatore mago nemico e distruttore del genere umano sì figlio mio aggiunse è un mago e i maghi sono una peste pubblica sono in rapporto con i demoni per mezzo dei loro incantesimi e delle loro stregonerie benedetto sia dio che non ha permesso a quella sterminata malvagità di avere il suo effetto contro di voi dovete ringraziarlo molto della grazia che vi ha fatto la morta era inevitabile per voi se non vi foste ricordato di lui e non aveste implorato il suo aiuto lei disse ancora molte cose sempre contro il tradimento che il mago aveva fatto a suo figlio ma mentre parlava si accorse che aladino che non aveva dormito da tre giorni aveva bisogno di riposo lo fece coricare e poco dopo si coricò anche lei aladino che non si era affatto riposato nel sotterraneo dove era stato sepolto affinché perdesse la vita dormì tutta la notte di un sonno profondo e si svegliò solo il giorno dopo molto tardi si alzò e per prima cosa disse a sua madre che aveva bisogno di mangiare e che lei non poteva fargli piacere maggiore di quello di dargli la colazione ahimè figlio mio gli rispose la madre non posso darvi neppure un pezzo di pane ieri sera avete mangiato le poche provviste che c'erano in casa abbiate un po di pazienza non starò a lungo senza portarvene ho un po di cotone che ho già filato vado a venderlo per comprarvi del pane o qualcosa per il pranzo mamma disse aladino riservate il vostro cotone per un'altra occasione e datemi la lampada che ho portato ieri andrò a venderla e il denaro che ne ricaverò ci servirà a comprare il necessario per far colazione pranzare e forse anche cenare la madre di aladino prese la lampada da dove l'aveva messa eccola disse il figlio ma è molto sporca se la puliamo un po credo che verrà qualcosa di più prese dell'acqua e un po di sabbia fine per pulirla ma appena ebbe cominciato a strofinare la lampada subito in presenza del figlio un orribile genio di statura gigantesca si innalzò e comparve davanti a lei e le disse con voce tonante che vuoi sono pronto a obbedirti come tuo schiavo schiavo di tutti quelli che hanno la lampada in mano io e gli altri schiavi della lampada la madre di aladino non era in condizioni di rispondere il suo sguardo non era riuscito a sopportare l'orribile spaventosa figura del genio e alle prime parole che quello aveva pronunciato il suo terrore era stato così grande che era caduta svenuta aladino che nel sotterraneo aveva già avuto un'apparizione quasi simile senza perder tempo e neppure la testa afferrò subito la lampada e sostituendosi alla madre rispose per lei in tono fermo ho fame disse il genio portami da mangiare il genio scomparve e un momento dopo tornò portando sulla testa un grande vassoio d'argento con dodici piatti dello stesso metallo pieni di cibi squisiti sei grandi pani bianchi come neve due bottiglie di vino eccellente e tenuto in mano due coppe d'argento posò tutto sul divano e subito sparì questo avvenne così rapidamente che la madre di aladino non si era ancora riavuta del suo svenimento quando il genio sparì per la seconda volta aladino che aveva già cominciato a gettarle l'acqua in viso senza risultato si accinse a ricominciare per farla rinvenire ma sia che i suoi sensi che si erano dispersi si fossero infine riuniti o che l'odore dei cibi portati dal genio vi contribuisse in qualche modo e la tornò in sé mamma le disse aladino non è niente alzatevi e venite a mangiare ecco quel che ci vuole per farvi star meglio e nello stesso tempo e nello stesso tempo per soddisfare il mio grande bisogno di mangiare non lasciamo raffreddare dei cibi così buoni e mangiamo la madre di aladino fu grandemente stupita vedendo il grande vassoio i dodici piatti i sei pani le due bottiglie e le due coppe e sentendo l'odore delizioso che veniva da tutti quei piatti figlio mio chiese ad aladino da dove ci viene questa abbondanza e a chi siamo debitori di tanta prodigalità forse il sultano è venuto a conoscenza della nostra povertà e ha avuto compassione di noi mamma riprese aladino mettiamoci a tavola e mangiamo ne avete bisogno quanto me risponderò a quanto mi chiedete dopo che avremmo mangiato si misero a tavola e mangiarono con tanto più appetito in quanto né la madre né il figlio si erano mai trovati a una tavola così ben fornita mentre mangiavano la madre di aladino non poteva stancarsi di ammirare il vassoio e i piatti anche se non sapeva distinguere bene se fossero d'argento o di un altro materiale così poco era abituata a vederne di simili e a dire il vero senza considerare il loro valore che ignorava la sua ammirazione era provocata solo dalla novità e suo figlio aladino non ne sapeva più di lei aladino e sua madre che pensavano di fare solo una semplice colazione stavano ancora a tavola all'ora di pranzo quei cibi eccellenti avevano stuzzicato il loro appetito e dato che erano ancora caldi essi pensarono di non far male a riunire i due pasti insieme e a farne uno solo finito il doppio pasto restò loro non solo il necessario per cenare ma anche abbastanza cibo da fare due pasti ugualmente sostanziosi il giorno dopo quando la madre di aladino ebbe sparecchiato e conservato i cibi che non avevano toccato andò a sedersi sul divano vicino al figlio aladino gli disse aspetto con impazienza di sentire il racconto che mi avete promesso aladino le raccontò esattamente tutto ciò che era successo tra lui e il genio dal momento in cui lei era svenuta fino a quando era tornata in sé la madre di aladino era grandemente stupita dal discorso del figlio e dall'apparizione del genio ma figlio mio riprese che significano questi geni da chi sono al mondo non ho mai sentito dire che nessun mio conoscente ne abbia visti per quale ragione quel brutto genio si è presentato a me perché si è rivolto a me e non a voi visto che vi era già apparso nel sotterraneo del tesoro mamma replicò aladino l'insegno che avvia apparso non è lo stesso che è apparso a me si rassomigliano in un certo senso per la loro statura da giganti ma la loro espressione e i loro vestiti sono completamente diversi perciò essi appartengono a padroni diversi se ricordate quello che ho visto io si è dichiarato schiavo dell'anello che ho al dito e quello apparso a voi si è dichiarato schiavo della lampada che avete in mano ma non credo che voi l'abbiate sentito infatti mi pare che siate svenuta appena cominciato a parlare come esclamò la madre di aladino è dunque a causa della vostra lampada che quel brutto genio si è rivolto a me piuttosto che a voi figlio mio levatemela da davanti agli occhi e mettetemela dove volete non voglio più toccarla preferisco che sia gettata o venduta piuttosto che correre il rischio di morire di terrore toccandola se date retta a me dovete disfarvi anche dell'anello non bisogna avere rapporti con i geni sono demoni e il nostro profeta l'ha detto mamma rispose aladino col vostro permesso ora mi guarderò bene dal vendere come stavo per fare poco fa una lampada che sarà tanto utile a entrambi non vedete che cosa ci ha procurato essa deve continuare a fornirci di che nutrirci e mantenersi dovete capire come me che il mio falso e cattivo zio non aveva fatto tanta fatica e non aveva intrapreso un viaggio così lungo e faticoso senza ragione ma per entrare in possesso di questa lampada meravigliosa che gli aveva preferito a tutto l'oro e l'argento che sapeva esserci nelle sale che io stesso ho visto proprio come mi aveva detto e gli conosceva troppo bene il merito e il valore di questa lampada da chiedere altre cose al posto di un tesoro così ricco poiché il caso ce ne ha fatto scoprire la virtù facciamone un uso che ci sia utile ma senza chiasso in modo da non attirarci l'invidia e la gelosia dei nostri vicini ve la toglierò da davanti agli occhi e la metterò in un posto dove la troverò quando ce ne sarà bisogno visto che i geni vi fanno tanta paura quanto all'anello non saprei decidermi a gettarlo senza quest'anello non mi avreste mai rivisto e se in questo momento fossi stato ancora vivo lo sarei stato solo per pochi momenti permettetemi dunque di tenerlo e di portarlo sempre al dito con molta precauzione chissà forse mi capiterà qualche altro pericolo che né voi né io possiamo prevedere dal quale potrà liberarmi poiché il ragionamento di aladino sembrava molto giusto sua madre non ebbe niente da replicare figlio mio gli disse fate come volete quanto a me non vorrei avere a che fare con dei geni vi dichiaro che me ne lavo le mani e non ve ne parlerò più la sera dopo finito di cenare non restò niente dei buoni cibi portati dal genio il giorno dopo aladino che non voleva aspettare che la fame lo pungolasse prese uno dei piatti d'argento se lo mise sotto l'abito e uscì fin dal mattino per andare a venderlo si rivolse a un ebreo incontrato lungo la strada lo prese in disparte mostrandogli il piatto gli chiese se voleva comprarlo l'ebreo furbo e d'accordo prende il piatto lo esamina e appena ebbe capito che era di buon argento chiesa ad aladino quanto volesse aladino che non ne conosceva il valore e non aveva mai fatto commercio di questi articoli si accontentò di dirgli che lui doveva ben sapere quanto potesse valere il piatto e che si rimetteva alla sua buona fede l'ebreo si trovò imbarazzato dall'ingenuità di aladino non sapendo con certezza se aladino ne conoscesse la materia e il valore tirò fuori dalla borsa una moneta d'oro che malapena costituiva la sessantaduesima parte del valore del piatto e gliela diede aladino si affrettò a prendere la moneta e appena la ebbe fra le mani se ne andò con tanta rapidità che l'ebreo non contento dell'esorbitante guadagno da lui ottenuto con quell'acquisto si seccò molto di non aver capito che aladino ignorava il valore di quello che gli aveva venduto e che perciò egli avrebbe potuto dargli molto di meno fu sul punto di correre dietro al ragazzo per cercare di avere un po di resto dalla sua moneta d'oro ma aladino correva ed era già così lontano che avrebbe faticato a raggiungerlo aladino mentre tornava dalla madre si fermò da un fornaio dove acquistò del pane per sé per sua madre pagandolo con la moneta d'oro che il fornaio gli cambiò arrivando a casa diede il resto a sua madre e andò al mercato a comprare le provviste necessarie al loro vitto di qualche giorno continuarono così a vivere in economia cioè aladino vendette tutti i piatti all'ebreo uno dopo l'altro fino al dodicesimo come aveva venduto il primo via via che il denaro veniva a mancare l'ebreo che aveva pagato il primo una moneta d'oro non lo so offrirgli di meno per gli altri temendo di perdere un così buon guadagno inaspettato li pagò tutti allo stesso prezzo quando il denaro dell'ultimo piatto fu speso aladino ricorse al vassoio che da solo pesava dieci volte ogni piatto vuole portarlo al solito mercante ma il gran peso del vassoio glielo impedì fu dunque costretto ad andare a chiamare l'ebreo e a portarlo da sua madre e l'ebreo dopo aver soppesato il vassoio gli diede subito dieci monete d'oro di cui aladino si accontentò finché durarono le dieci monete d'oro servirono alla spesa giornaliera della casa intanto aladino abituato ad una vita oziosa dopo la sua avventura con il mago africano aveva preso l'abitudine di giocare coi ragazzi della sua età passava le giornate a passeggiare a intrattenersi con persone con le quali aveva fatto conoscenza a volte si tratteneva nelle botteghe dei ricchi mercanti dove prestava attenzione ai discorsi della gente distinta che vi si fermava o che vi si ritrovava come a una specie di appuntamento e a poco a poco questi discorsi fecero sì che egli cominciasse ad avere una certa conoscenza del mondo quando le dieci monete d'oro furono finite aladino ricorse alla lampada la presa in mano cercò lo stesso punto in cui l'aveva toccata sua madre e appena lo trovò grazie al segno che la sabbia vi aveva lasciato la strofinò come aveva fatto lei e subito il genio apparso la prima volta si presentò davanti a lui ma poiché aladino aveva strofinato la lampada più leggermente di quanto avesse fatto la madre anche il genio vi parlò con tono più dolce che vuoi gli disse con le stesse parole dell'altra volta sono pronto a ubbidirti come tuo schiavo e schiavo di tutti coloro che hanno la lampada in mano io e gli altri schiavi della lampada aladino gli disse ho fame portami da mangiare il genio scomparve e tornò poco dopo portando un servizio da tavola simile a quello che aveva portato la prima volta lo posò sul divano e subito sparì la madre di aladino informata dell'intenzione del figlio era uscita di proposito per qualche affare per non trovarsi in casa all'apparizione del genio tornò poco dopo vide la tavola e la credenza molto ben fornita e restò meravigliata quasi come la prima volta vedendo il prodigioso effetto della lampada aladino e la madre si misero a tavola e dopo il pasto restò loro ancora di che vivere largamente per i due giorni seguenti appena aladino vide che in casa non c'era più pane né altre provviste né denaro per comprarne prese un piatto d'argento e andò a cercare l'ebreo che conosceva per venderglielo lungo il percorso passò davanti alla bottega di un orefice rispettabile per la sua vecchiaia un uomo onesto e di grande onestà l'orefice che lo aveva visto lo chiamò e lo fece entrare figlio mio gli disse vi ho già visto passare parecchie volte portando un pacco come ora incontrarvi con un ebreo e ripassare poco dopo senza il pacco ho pensato che voi gli vendete quello che portate ma forse non sapete che quell'ebreo è un imbroglione e anche più imbroglione degli altri ebrei e che nessuno di quelli che lo conoscono vuole avere a che fare con lui del resto vi dico questo solo per farvi un piacere se volete mostrarmi quello che state portando adesso e volete venderlo vi darò esattamente il suo giusto valore se questo mi conviene altrimenti vi indirizzerò da altri mercanti che non vi inganneranno la speranza di ricavare più denaro dal piatto fece sì che aladino lo tirasse fuori da sotto il vestito e lo mostrasse all'orefice il vecchio accorgendosi subito che il piatto era d'argento fino gli chiese se ne avesse venduti di simili all'ebreo e quanto questi gli le avesse pagati aladino gli disse in germamente di avergliene venduti 12 e di aver ricevuto dall'ebreo solo una moneta d'oro per ciascuno a che ladro esclamò l'orefice figlio mio aggiunse quel che è fatto è fatto non bisogna pensarci più ma quando vi avrò detto quanto vale il vostro piatto e che è del migliore argento di cui ci serviamo nelle nostre botteghe capirete quanto l'ebreo vi abbia ingannato l'orefice prese la bilancia pesò il piatto e dopo aver spiegato ad aladino che cosa fosse un marco d'argento quanto valesse e quali fossero le sue suddivisioni gli dichiarò che per il suo peso il piatto valeva 72 monete d'oro che subito gli pagò in moneta contante questo disse è il giusto valore del vostro piatto se ne dubitate potete rivolgervi a uno dei nostri orefici a vostra scelta e se vi dice che vale di più vi prometto di pagarvelo il doppio noi guadagniamo solo la lavorazione sull'argenteria che compriamo e questo non lo fanno neppure gli ebrai più onesti aladino ringraziò calorosamente l'orefice per la buona accoglienza che gli aveva fatto e dalla quale ricavava già un così gran vantaggio successivamente non si rivolse più ad altri se non a lui per vendere gli altri piatti e il vassoio il cui giusto valore gli fu sempre pagato in proporzione al peso sebbene aladino e sua madre avessero nella lampada una fonte inesauribile di denaro potendosene procurare quanto le volevano quando fosse venuto a mancare tuttavia continuarono sempre a vivere con la stessa frugalità di prima a parte quello che aladino riservava per vivere onestamente e procurarsi le comodità necessarie alla loro piccola famiglia sua madre d'altra parte prendeva il denaro per i suoi abiti solo da quello che guadagnava filando il cotone con un tenore di vita così sobrio è facile capire quanto tempo doveva essere durato loro il denaro dei dodici piatti e del vassoio al prezzo a cui aladino li aveva venduti all'orefice vissero così per lunghi anni con l'aiuto della lampada alla quale aladino ricorreva ogni tanto intanto aladino che continuava a frequentare con molta assiduità le persone distinte che si riunivano nelle botteghe dei più ricchi mercanti di drappi ricamati d'oro e d'argento di stoffe di seta delle tele più fini e di gioiellerie e che a volte interveniva nelle loro conversazioni finì di educarsi e pian piano acquistò tutte le maniere del bel mondo appunto frequentando i gioiellieri si ricredette sulla sua idea che i frutti trasparenti che aveva colti nel giardino del sotterraneo fosse lo solo vetro colorato e seppe che erano pietre di grande valore vedendo continuamente vendere e comprare nelle loro botteghe tutti i tipi di queste pietre cominciò a conoscerle e a valutarle e poiché non ne vedeva di simili alle sue né per la bellezza né per grossezza capì che invece di pezzi di vetro che gli aveva considerato delle bagatelle possedeva un inestimabile tesoro ebbe la prudenza di non parlarne a nessuno nemmeno a sua madre e certamente il suo silenzio gli valse l'alta condizione che come vedremo poi egli raggiunse un giorno mentre passeggiava in uno dei quartieri della città aladino sentì proclamare a voce alta l'ordine del sultano di sbarrare le botteghe e le porte delle case e di richiudersi tutti in casa finché la principessa badrul budura figlia del sultano non fosse passata per andare al bagno e non ne fosse ritornata il bando pubblico fece nassere ad aladino la curiosità di vedere la principessa senza velo ma poteva farlo solo entrando in una casa di conoscenti e attraverso la persiana e che non lo accontentava perché la principessa secondo la tradizione andando al bagno doveva portare un velo sul viso per prendersi questa soddisfazione architettò un piano che gli riuscì andò a sistemarsi dietro la porta del bagno disposta in modo tale che egli non avrebbe potuto non vederla in viso quando sarebbe arrivata aladino non aspettò a lungo la principessa parve e lui la vide arrivare attraverso una fessura abbastanza larga per vedere senza essere visto era accompagnata da una gran folla di schiave e di eunuchi che le camminavano al fianco e che la seguivano quando arrivò a tre o quattro passi dalla porta del bagno si tolse il velo che ricopriva il viso e che la infastidiva molto e così facendo chiede modo ad aladino di vederla tanto più a suo agio in quanto veniva dritta verso di lui fino a quel momento aladino non aveva visto altre donne a viso scoperto tranne sua madre che era anziana e non era mai stata tanto bella da fargli immaginare che le altre donne fossero più belle certamente poteva aver sentito dire che ne esistevano di sorprendente bellezza ma per quante parole si usino per mettere in risalto il merito di una bellezza esse non fanno mai l'impressione causata dalla bellezza stessa quando aladino ebbe visto la principessa badrul budura perse l'idea che tutte le donne dovessero assomigliare all'incirca a sua madre i suoi sentimenti furono ben diversi e il suo cuore non poteva rifiutare tutta la sua inclinazione per la creatura che lo aveva affascinato infatti la principessa era la più bella bruna che si potesse vedere al mondo aveva gli occhi grandi a fior di testa vivaci e brillanti lo sguardo dolce e modesto il naso di giusta proporzione e senza difetti la bocca piccola le labbra vermiglie piene di incanto per la loro gradevole simmetria in una parola i lineamenti del suo viso erano di una perfetta regolarità non bisogna dunque stupirsi se aladino fu abbagliato e uscì quasi di sé vedendo riunite tante meraviglie che gli erano sconosciute oltre tutte queste perfezioni la principessa aveva anche una bella statura un'aria e un portamento maestosi che solo a vederla attiravano il rispetto che le era dovuto quando la principessa fu entrata nel bagno aladino restò per un po' turbato e come in estasi trazzando ed imprimendosi profondamente nella memoria l'immagine di una creatura di cui era affascinato e penetrato fino in fondo al cuore infine tornò in sé e considerando che la principessa era passata e sarebbe stata quindi inutile restare dove era per rivederla mentre usciva dal bagno poiché lei gli avrebbe dato la schiena e sarebbe stata velata prese la decisione di abbandonare il suo posto e di ritirarsi aladino rientrando a casa non riuscì a nascondere il suo turbamento e la sua inquietudine tanto bene da evitare che la madre se ne accorgesse e rimase stupita vedendolo così triste e trassognato contrariamente al suo solito gli chiese se gli fosse capitato qualcosa o se non si sentisse bene ma aladino non le rispose proprio e si sedette negligentemente sul sofà dove restò nella stessa posizione sempre intento a ricordare l'affascinante immagine della principessa badrul budura sua madre che preparava la cena non insistette oltre quando la cena fu pronta la servì accanto a lui sul divano e si mise a tavola ma accorgendosi che suo figlio non ci pensava per niente lo sollecitò a mangiare e sono molto male in cuore e gli cambiò atteggiamento mangiò molto meno del solito con gli occhi sempre bassi e in un silenzio così profondo che alla madre non fu possibile tirargli fuori la minima parola nonostante tutte le domande che gli rivolse per cercare di conoscere la causa di un cambiamento così straordinario dopo cena cercò di nuovo di sapere la ragione di tanta malinconia ma non ottenne niente e aladino decise di andare a dormire piuttosto che dare alla madre la minima soddisfazione su quel punto senza dire in che modo aladino invaguito dalla bellezza e dalle grazie della principessa badrul budura passò la notte noteremo solo che il giorno dopo mentre era seduto sul divano di fronte alla madre intenta a filare del cotone come al solito le parlò così madre mia le disse rompo il silenzio che ho mantenuto da ieri quando sono tornato dalla città esso vi ha preoccupato e me ne sono accorto non ero malato come mi è sembrato che voi credeste e non lo sono ancora ma non posso dirvi quello che sentivo e quello che non smetto ancora di sentire è qualcosa di peggio di una malattia non so bene che male sia ma non dubito che quanto sentirete ve lo farà capire in questo quartiere non si è saputo e perciò voi non avete potuto saperlo che ieri la principessa badrul budura figlia del sultano nel pomeriggio si recò al bagno seppi questa notizia passeggiando in città diedero l'ordine di chiudere le botteghe e di ritirarsi ognuno a casa propria per rendere alla principessa l'onore che lei è dovuto e sgombrare la strada lungo le vie in cui sarebbe dovuta passare poiché non ero lontano dal bagno la curiosità di vederla viso scoperto mi fece nascere l'idea di andare a mettermi dietro la porta del bagno pensando che poteva succedere che lei si togliesse il velo prima di entrarvi voi conoscete la posizione della porta e voi stessa siete in grado di capire che potevo vederla a mio agio se fosse successo quello che avevo immaginato infatti nell'entrare lei si tolse il velo ed ebbi la fortuna di vedere l'amabile principessa con la più grande soddisfazione del mondo questo madre mia è il vero motivo dello stato in cui mi vedeste ieri quando rientrai e la causa del silenzio che ha mantenuto fino ad ora amo la principessa di un amore la cui violenza è tale che non saprei esprimervela e poiché la mia passione viva e ardente aumenta incessantemente sento che essa non potrà essere soddisfatta se non con il possesso dell'amabile principessa badrù budura il che mi ha spinto a prendere la decisione di farla chiedere in moglie al sultano la madre di aladino aveva ascoltato il discorso del figlio con molta attenzione fino a queste ultime parole ma quando ebbe sentito che aveva l'intenzione di far chiedere la principessa badrù il budura in moglie non potrei fare a meno di interromperlo con una sonora risata aladino voleva continuare ma interrompendolo ancora lei gli disse figlio mio ma che pensate dovete aver perso la testa per farmi un simile discorso mamma ripresa aladino posso assicurarvi che non ho perso il senno sono completamente in me ho previsto le accuse di follia e di stravaganza che mi fate e quelle che potreste farmi ma tutto questo non mi impedirà di dirvi ancora una volta che ho preso la decisione di far chiedere la principessa badrù il budura in moglie al sultano in verità figlio mio replicò la madre molto seriamente non posso impedirmi di dirvi che voi siete completamente uscito di senno e anche se voleste mettere in atto la vostra decisione non vedo da chi io sareste far rivolgere questa domanda al sultano proprio voi replicò subito il figlio senza esitare da me esclamò la madre con un'aria di stupore di sbalordimento al sultano mi guarderò bene dall'impegnarmi in una simile impresa e chi siete voi figlio mio continuò per avere il coraggio di pensare alla figlia del vostro sultano avete dimenticato di essere il figlio di uno dei più modesti sarti della sua capitale e di una madre cui antenati non sono di origine più elevata sapete che i sultani non si degnano di dare le loro figlie in moglie nemmeno dei figli di sultani che non hanno la speranza di regnare un giorno come loro madre mia replicò aladino vi ho già detto che ho previsto tutto questo che mi state dicendo e anche tutto quello che potete aggiungervi nei vostri discorsi nelle vostre rimostranze mi faranno cambiare idea vi ho già detto che farò chiedere in moglie la principessa badrul budura da voi è una grazia che vi chiedo con tutto il rispetto che vi devo e vi supplico di non negarmela a meno che non preferiate vedermi morire piuttosto che darmi la vita per la seconda volta la madre di aladino fu molto imbarazzata vedendo con quale ostinazione il figlio insisteva in un progetto così privo di buon senso figlio mio disse ancora io sono vostra madre e come una buona madre che vi ha messo al mondo non c'è niente di ragionevole e di adatto al mio stato e al vostro che io non sia pronta a fare per amor vostro se si trattasse di parlare del vostro matrimonio con la figlia di uno dei nostri vicini di condizione simile alla nostra o quasi non tralascerei niente e mi adopererei volentieri in tutto ciò che fosse il mio potere e anche in questo caso per riuscirvi dovreste avere dei beni o qualche rendita o conoscere un mestiere quando la povera gente come noi vuole sposarsi deve pensare prima di tutto ad avere il necessario per vivere ma senza pensare all'oscurità della vostra origine al poco merito e ai pochi beni che avete voi spiccate il volo fino al più alto gradino della fortuna e la vostra pretesa è solo quella di voler chiedere in moglie e di sposare la figlia del vostro sovrano a quale basta dire una parola per precipitarvi e annientarvi lascio da parte quello che vi riguarda tocca a voi fare le riflessioni necessarie se avete un po di buon senso io mi fermo a quello che mi riguarda come vi è potuta venire in mente l'idea così straordinaria di chiedermi di andare dal sultano a proporgli di darvi in moglie la principessa sua figlia supponiamo che io abbia non dico il coraggio ma la sfrontatezza di andare a presentarmi davanti a sua maestà per fargli una domanda così stravagante a chi mi rivolgerò per essere introdotta credete forse che il primo a cui ne parlerò non mi tratterà da folle e non mi scaccerà indegnamente come meriterei supponiamo ancora che non ci siano difficoltà per presentarsi all'udienza del sultano so che non ce ne sono quando ci si presenta a lui per chiedere giustizia ed egli la rende volentieri ai suoi sudditi quando gliela chiedono so anche che quando ci si presenta a lui per chiedergli una grazia egli l'accorda con piacere quando vede che essa è meritata e se ne è degni ma questo è il caso vostro e credete di aver meritato la grazia che volete farmi chiedere per voi ne siete degno che cosa avete fatto per il vostro principe o per la vostra patria e in che vi siete distinto se voi non avete fatto niente per meritare una grazia tanto grande ed altronde non ne siete degno con quale coraggio potrò io chiederla come potrei soltanto aprire la bocca per proporla al sultano la sua presenza così maestosa e lo splendore della sua corte mi chiuderebbero subito la bocca a me che tremavo davanti al defunto mio marito vostro padre quando dovevo chiedergli la minima cosa da un'altra ragione figlio mio alla quale non pensate sapete che non ci si presenta davanti ai nostri sultani senza portare un dono quando si deve chiedere loro qualche grazia i doni danno almeno questo vantaggio che se viene rifiutata la grazia per una ragione o per l'altra almeno sono ascoltati senza ripugnanza la domanda è quello che la rivolge ma voi che regalo potete fare e anche se aveste qualche cosa che fosse degna della minima attenzione di un così grande sovrano che proporzione ci sarebbe fra il vostro dono e la domanda che volete rivolgergli rientrate in voi e pensate che aspirate a una cosa che vi è impossibile ottenere aladino ascolta molto tranquillamente tutto quello che sua madre pote dirgli per cercare di dissuaderlo dal suo progetto e dopo aver riflettuto su tutti i punti della sua obiezione cominciò a parlare e le disse ammetto mamma che è una grande temerarietà osare di spingere le mie pretese tanto lontano come faccio e che sono stato molto sconsiderato a esigere da voi con tanta foga e sollecitudine che andaste a fare la mia proposta di matrimonio al sultano senza prima prendere le misure adatte a procurarvi un'udienza e un'accoglienza favorevoli me ne chiedo perdono ma in preda alla violenta passione che mi possiede non stupirei se non ho pensato prima tutto quello che può servire a procurarmi la pace che cerco amo la principessa badrul budura più di quanto voi possiate immaginare o piuttosto l'adoro e insisto sempre nel disegno di sposarla è cosa stabilita e decisa nella mia mente vi sono grato di quanto mi avete manifestato lo considero come il primo passo che deve procurarmi il successo che mi riprometto voi mi dite che la consuetudine vuole che non ci si presenti al sultano senza portare un dono e che io non ho niente che sia degno di lui sono d'accordo per il dono e vi confesso che non ci avevo pensato ma quanto al fatto come voi dite che io non abbia niente da potergli offrire non credete mamma che quanto ho portato il giorno in cui fui salvato da un'inevitabile morte nel modo che sapete possa costituire un dono molto gradito per il sultano parlo di ciò che ho portato nelle due borse nella cintura e che voi e io avevamo scambiato per vetri colorati ma ora mi sono disingannato e vi comunico mamma che sono pietre di inestimabile valore che si addicono soltanto ai grandi monarchi ne ho capito il valore frequentando le botteghe dei gioiellieri e potete credermi sulla parola tutte quelle che ho visto dai nostri gioiellieri non erano paragonabili a quelle che noi abbiamo né per grandezza né per bellezza e tuttavia essi le valutano a prezzi altissimi in verità noi ignoriamo il valore delle nostre comunque sia da quanto posso giudicare per la mia poca esperienza sono convinto che il dono potrà essere sicuramente molto gradito al sultano voi avete un vaso di porcellana abbastanza grande e di forma molto adatta per contenerle portatemelo e vediamo l'effetto che faranno le pietre quando ve le avremo disposte secondo i loro diversi colori la madre di aladino portò il vaso e il figlio prese le pietre preziose dalle due borse e le sistemò nel vaso l'effetto che fecero alla luce del sole per la varietà dei loro colori per il loro splendore e la loro lucentezza fu tale che la madre e il figlio ne restarono quasi abbagliati ne furono sommariamente stupiti perché le avevano viste sia l'uno sia l'altra solo alla luce di una lampada è vero che aladino le aveva viste ognuna sul suo albero come frutti che dovevano formare uno spettacolo incantevole ma essendo ancora un ragazzo aveva considerato quelle pietre preziose solo come pietre per giocare e se ne era caricato soltanto a questo scopo senza averne cognizione dopo aver ammirato per un po la bellezza allo splendore del dono aladino riprese a parlare madre mia disse ora non vi opporrete a presentarvi al sultano con il pretesto di non avere un dono da portargli eccone uno mi sembra che vi farà ricevere con un'accoglienza delle più favorevoli sebbene la madre di aladino nonostante la bellezza allo splendore del dono non lo considerasse di un valore così alto come lo stimava suo figlio tuttavia pensò che potesse essere gradito e capiva di non aver niente da obiettargli su questo punto ma lei tornava sempre alla domanda che aladino voleva farle rivolgere al sultano con il favore del dono ciò la preoccupava sempre molto figlio mio gli diceva non fatico a credere che il dono avrà il suo effetto e che il sultano vorrà considerarmi con benevolenza ma quando dovrò rivolgergli la domanda che voi volete che gli faccia sento bene che non ne avrò la forza e resterò senza parole perciò non solo avrò perso il mio tempo ma anche il dono che secondo voi è di un valore così straordinario e tornerò mortificata ad annunciarvi che siete stato frustrato nelle vostre speranze ve l'ho già detto e siate sicuro che sarà così ma aggiunse ammesso che io mi faccia forza per sottomettermi alla vostra volontà e che abbia abbastanza coraggio da rivolgere la domanda che volete certamente accadrà o che il sultano si burlerà di me e mi manderà via credendomi pazza oppure andrà giustamente in collera ed io e voi ne saremmo immancabilmente le vittime la madre di aladino portò ancora diverse altre ragioni al figlio per cercare di fargli cambiare idea ma le grazie della principessa badrul budura avevano fatto un'impressione troppo forte sul suo cuore perché si potesse distoglierlo dal suo progetto aladino insistette ad esigere che la madre eseguisse quello che lui aveva deciso e sia per la tenerezza che lei aveva per lui sia per la paura che egli si abbandonasse a qualche spiacevole eccesso vinse la propria ripugnanza e condiscese alla volontà del figlio poiché era troppo tardi ed era ormai passato per quel giorno il tempo per andare a palazzo a presentarsi al sultano la cosa fu rinviata il giorno seguente la madre e il figlio non parlarono d'altro per tutto il resto della giornata e aladino ebbe gran cura di ispirare alla madre tutto ciò che gli venne in mente per confermarla della decisione che lei aveva finalmente accettato di andare a presentarsi al sultano nonostante tutte le ragioni del figlio la madre non riusciva a convincersi di poter riuscire mai in quest'impresa e per la verità bisogna ammettere che aveva tutti i motivi per dubitarne figlio mio disse ad aladino se il sultano mi riceve favorevolmente come spero per amor vostro se ascolta con calma la proposta che voi volete che io gli faccia ma se dopo una buona accoglienza vuole chiedermi dove sono i vostri beni le vostre ricchezze i vostri stati perché prima di ogni cosa si informerà di questo più che della persona se dico mi rivolge questa domanda che cosa volete che gli risponda madre mia rispose aladino non preoccupiamoci fin da adesso di una cosa che forse non succederà vediamo prima che accoglienza vi farà il sultano e la risposta che vi darà nel caso che lui voglia essere informato di tutto quello che avete detto vedrò allora quale risposta dargli ho fiducia che la lampada grazie alla quale ci sosteniamo da qualche anno mi verrà in aiuto se servirà la madre di aladino non ebbe niente da replicare alle parole del figlio riflette sul fatto che la lampada di cui parlava poteva ben servire a meraviglie più grandi di quelle di procurare loro semplicemente quanto serve per vivere questo la contentò ed eliminò tutte le difficoltà che ancora avrebbero potuto distoglierla dal servigio che aveva promesso di rendere al figlio presso il sultano aladino intuendo il pensiero della madre le disse madre mia ricordatevi almeno di mantenere il segreto da questo dipende tutto il successo che io e voi dobbiamo aspettarci da questa faccenda aladino e sua madre si separarono per riposare un po ma l'amore intenso ai grandi progetti di un'immensa felicità che riempivano la mente di aladino impedirono di passare la notte così tranquillamente come avrebbe desiderato si alzò prima dell'alba e andò subito a svegliare la madre la sollecitò a vestirsi il più rapidamente possibile per andare davanti alla porta del palazzo del sultano per entrarvi quando veniva aperta nel momento in cui il gran visir i visir subalterni e tutti i grandi dignitari dello stato vi entrano per la seduta del divano alla quale il sultano assisteva sempre di persona la madre di aladino fece tutto quello che volle suo figlio prese il vaso in cui era il dono di pietre preziose lo avvolse in due panni uno molto sottile e pulito l'altro meno fine e li legò per le quattro cocchie per portarlo più agevolmente uscì infine con grande soddisfazione di aladino e si diresse al palazzo del sultano il gran visir accompagnato dagli altri visir e i signori più importanti della corta erano già entrati quando lei arrivò alla porta la folla di tutti quelli che avevano affari al divano era grande e la madre di aladino entrò con gli altri fino al divano era una bellissima sala profonda e spaziosa la cui entrata era grande e magnifica lei si fermò e si sistemò in modo da trovarsi di fronte il sultano il gran visir e i signori che in consiglio sedevano a destra e a sinistra furono chiamati gli interessati gli uni dopo gli altri secondo l'ordine delle richieste che avevano presentato e i loro affari furono riferiti perorati e giudicati fino all'ora ordinaria della seduta del divano allora il sultano si alzò congedò il consiglio e rientrò nel suo appartamento dove fu seguito dal dove fu seguito dal gran visir gli altri visiri e i ministri del consiglio si ritirarono tutti quelli che si erano ritrovati per affari privati fecero lo stesso alcuni soddisfatti per aver vinto la causa altri scontenti del giudizio emesso contro di loro e altri infine con la speranza di essere giudicati nel corso di un'altra seduta la madre di aladino che aveva visto il sultano alzarsi e ritirarsi pensò con ragione che per quel giorno egli non sarebbe più riapparso vedendo che tutti uscivano perciò prese la decisione di tornarsene a casa aladino vedendola rientrare col dono destinato al sultano in un primo momento non seppe che pensare dell'esito della sua missione nel timore in cui era che ella dovesse annunciargli qualcosa di funesto non aveva la forza di aprire la bocca per chiederle che notizia gli portasse la buona donna che non aveva mai messo piede nel palazzo del sultano e che non aveva la minima conoscenza degli usi in vigore liberò il figlio dell'inquietudine in cui si trovava dicendogli con grande ingenuità figlio mio ho visto il sultano e sono proprio convinta che anche egli mi abbia vista ero proprio di fronte a lui e nessuno gli impediva di vedermi ma era tanto occupato con tutti quelli che gli parlavano a destra e a sinistra che mi faceva compassione vedendo la pena e la pazienza che si prendeva per ascoltarli questo è durato così a lungo che credo che alla fine si sia annoiato infatti inaspettatamente si è alzato e si è ritirato piuttosto bruscamente senza voler ascoltare molte altre persone che erano in fila per parlargli a loro volta tuttavia ciò mi ha fatto molto piacere infatti cominciavo a perdere la pazienza ed ero stanchissima di restare così a lungo in piedi ma niente è perduto non mancherò di tornarci domani forse il sultano non sarà tanto occupato aladino per quanto fosse innamorato fu costretto ad accontentarsi di questa scusa e ad armarsi di pazienza ebbe se non altro la soddisfazione di vedere che sua madre aveva fatto il passo più difficile quello cioè di sostenere la vista del sultano e di sperare che seguendo l'esempio di quelli che gli avevano parlato in sua presenza anche lei non avrebbe esitato ad eseguire l'incarico che le aveva affidato quando le si sarebbe presentato il momento favorevole per parlargli il giorno dopo sempre di buon'ora come il giorno precedente la madre di aladino andò ancora al palazzo del sultano col dono delle pietre preziose ma il suo viaggio fu inutile trovò chiusa la porta del divano e seppe che il consiglio si teneva solo ogni due giorni e che sarebbe perciò dovuta ritornare il giorno dopo andò a portare questa notizia al suo figlio che fu costretto a pazientare ancora vi tornò altre sei volte nei giorni stabiliti mettendosi sempre di fronte al sultano ma con lo stesso scarso successo della prima volta e forse vi sarebbe tornato inutilmente altre cento volte se il sultano che la vedeva sempre di fronte a lui in ogni seduta non l'avesse notata questo è tanto più probabile in quanto soltanto quelli che dovevano presentare qualche richiesta si avvicinavano a turno al sultano per perorare la loro causa secondo il loro ordine e non era questo il caso della madre di aladino finalmente quel giorno dopo la chiusura del consiglio quando il sultano fu rientrato nel suo appartamento disse al gran visir già da un po di tempo ho notato una donna che viene regolarmente ogni giorno in cui tengo consiglio e che porta qualcosa avvolto in un fazzoletto la sta in piedi dall'inizio dell'udienza fino alla fine e cerca di mettersi di fronte a me sapete cosa vuole il gran visir che non ne sapeva più del sultano non volle tuttavia restare muto sire rispose vostra maestà non ignora che le donne hanno spesso da lamentarsi per cose da niente evidentemente questa di cui parliamo viene a lamentarsi con vostra maestà perché l'è stata venduta una farina cattiva o per qualche altro torto dello stesso genere il sultano non fu soddisfatto da questa risposta il prossimo giorno di consiglio riprese se quella donna torna non mancate di farla chiamare affinché possa ascoltarla il gran visir rispose soltanto baciandosi la mano e mettendosela in testa per dimostrare che era pronto a perderla se non avesse eseguito l'ordine del sultano la madre di aladino aveva già preso tanta confidenza nell'apparire al consiglio di fronte al sultano a non far caso alla propria stanchezza pur di far sapere al figlio che non tralasciava niente di tutto ciò che dipendeva da lei per accontentarlo tornò dunque al palazzo il giorno di consiglio e si mise all'ingresso del divano come al solito proprio di fronte al sultano il gran visir non aveva ancora cominciato il suo rapporto su nessun affare quando il sultano vide la madre di aladino preso da compassione per la lunga pazienza della quale era stato testimone disse il gran visir prima di ogni cosa per paura che lo dimentichiate ecco la donna di cui vi parlai ultimamente fatela venire cominciamo con l'ascoltarla e sbrigiamo la faccenda che la porta qui subito il gran visir indicò la donna al capo degli uscieri il quale era in piedi pronto a ricevere i suoi ordini e gli ordinò di andare a chiamarla e di farla avvicinare il capo degli uscieri si avvicinò alla madre di aladino e al suo cenno lei lo seguì fino ai piedi del trono del sultano dove l'uscere la lasciò per andare a prendere il suo posto vicino al gran visir la madre di aladino istruita dall'esempio di tante altre persone che aveva visto avvicinarsi al sultano si prosternò con la fronte sul tappeto che ricopriva i gradini del trono e restò in questa posizione finché il sultano non le ordinò di rialzarsi e la si alzò e allora il sultano le disse buona donna da molto tempo vi vedo venire al mio divano e restare sulla porta dall'inizio alla fine che cosa vi porta qui la madre di aladino si prosternò una seconda volta dopo aver ascoltato queste parole e quando si fu rialzata disse sovrano superiore a tutti i sovrani del mondo prima di esporre a vostra maestà la ragione straordinaria è quasi incredibile che mi porta davanti al vostro trono sublime supplico di perdonare l'ardire per non dire l'impudenza della richiesta che vengo a fare questa è così poco comune che tremo e ho vergogna di rivolgerla al mio sultano per darle completa libertà di spiegarsi il sultano ordinò che tutti uscissero dal divano e che lo lasciassero solo quel gran visir e poi le disse che poteva parlarle e spiegarsi senza timore la madre di aladino non si accontentò della bontà del sultano che le risparmiava l'imbarazzo che lei poteva avere di parlare davanti a tutti volle anche mettersi al riparo dall'indignazione che doveva temere per la proposta che doveva fargli e che lui non si aspettava sire disse ricominciando a parlare oso ancora sopplicare vostra maestà nel caso giudichi la mia domanda minimamente offensiva o ingiuliosa di assicurarmi prima il suo perdono e di accortarmi nella grazia qualunque possa essere replicò il sultano ve la perdono fin da ora e non vi suterà niente parlate senza timore quando la madre di aladino ebbe preso tutte queste precauzioni la donna che temeva la collera del sultano per una proposta così delicata come quella che doveva fargli gli raccontò fedelmente in quale occasione aladino aveva visto la principessa badrul budura l'intenso amore che questa visita fatale gli aveva ispirato la rivelazione che egli ne aveva fatta tutto quello che lei gli aveva detto per distoglierlo da una passione non meno ingiuliosa per sua maestà che per la principessa sua figlia ma continuò mio figlio ben lontano dall'approfittarne dal riconoscere il suo ardire si è ostinato a perseverarvi fino al punto di minacciarmi di qualche atto disperato se avessi rifiutato di venire a chiedere la principessa in moglie a vostra maestà e solo dopo essermi fatta grande violenza mi sono costretta ad accontentarlo perciò supplico ancora una volta vostra maestà di voler accordare il perdono non solo a me ma anche a mio figlio aladino per aver avuto il temerario pensiero di aspirare a una così alta parentela il sultano ascoltò tutto questo discorso con molta dolcezza e bontà senza dare nessun segno di collera o di indignazione e senza neppure burlarsi della domanda ma prima di rispondere a quella brava donna le chiese che cosa aveva portato a volto in quel panno subito lei prese il vaso di porcellana che aveva messo ai piedi del trono prima di prosternarsi lo scoprì e lo diede al sultano non è possibile esprimere la meraviglia e lo stupore del sultano quando vide riunite in quel vaso tante pietre di così gran valore così preziosi così perfette così splendenti e di tale grandezza che non ne aveva ancora viste di simili per qualche minuto fu in preda un'ammirazione tanto grande da restare immobile dopo essersi ripreso ricevette il dono dalle mani della madre di aladino esclamando in un impeto di gioia ah come sono belle sono magnifiche dopo aver ammirato e toccato tutte le pietre preziose le une dopo le altre valutando ognuna per ciò che le distingueva si rivolse al gran visire mostrandogli il vaso disse guarda e ammetti che al mondo non si può vedere niente di più ricco né di più perfetto il visir ne fu incantato ebbene continuò il sultano che ne dici di un simile dono non è degno della principessa mia figlia e non posso darla a questo prezzo a colui che me la fa chiedere in moglie queste parole misero il gran visire in una strana agitazione da un po di tempo il sultano gli aveva fatto capire che aveva l'intenzione di dare la principessa in moglie al suo figlio e gli temette non senza ragione che il sultano abbagliato da un dono così ricco e così straordinario cambiasse idea si avvicinò al sultano e parlando all'orecchio gli disse sire non si può negare che il dono non sia degno della principessa ma supplico vostra maestà di accordarmi tre mesi prima di decidersi spero che prima di allora mio figlio su quale come avete avuto la bontà di dirmi avete messo gli occhi potrà fargiene uno più pregiato di questo di aladino che vostra maestà non conosce il sultano sebbene fosse convinto che non era possibile che il suo gran visire potesse trovare per suo figlio un dono dello stesso valore da fare alla principessa tuttavia lo ascoltò ugualmente e gli accordò questa grazia perciò rivolgendosi alla madre di aladino le disse andate brava donna tornate a casa e dite a vostro figlio che gradisco la proposta che mi avete fatto da parte sua ma non posso far sposare la principessa mia figlia prima di averle fatto arredare un appartamento che sarà pronto soltanto fra tre mesi perciò ritornate allo scadere di questo termine la madre di aladino tornò a casa in preda a una gioia tanto maggiore in quanto per la sua condizione aveva dapprima considerato impossibile l'accesso presso il sultano e perché d'altra parte aveva ottenuto una risposta così favorevole mentre si era aspettata un rifiuto che l'avrebbe coperta di vergogna due cose fecero pensare ad aladino quando vide entrare la madre che lei gli portava una buona notizia la prima che tornava più presto del solito l'altra che aveva il viso contento ed aperto ebbene madre mia le disse devo sperare devo morire di disperazione dopo essersi tolta il velo ed essersi seduta accanto a lui sul divano la madre gli disse figlio mio per non tenervi troppo nell'incertezza comincerò con il dirvi che ben lungi dal pensare a morire avete tutte le ragioni per essere contento continuando a parlare e gli raccontò in che modo avesse ottenuto udienza prima di tutti e perciò fosse tornata così presto le precauzioni che aveva preso per fare al sultano senza che se ne offendesse la sua proposta di matrimonio con la principessa badrul budura e la risposta completamente favorevole che il sultano le aveva dato personalmente ella aggiunse che da quanto poteva giudicare dai segni manifestati dal sultano soprattutto il dono aveva avuto un potente effetto sul suo animo per deciderlo alla risposta favorevole che lei gli portava tantomeno me lo aspettavo disse ancora in quanto il gran visir mi ha parlato all'orecchio prima che il sultano mi rispondesse e temevo che egli volesse distoglierlo dalla buona volontà che egli poteva avere per voi aladino si considerò il più felice dei mortali apprendendo questa notizia ringraziò sua madre di tutte le pene che si era presa per farlo riuscire nel suo disegno il cui successo era tanto importante per la sua pace e impaziente come era di ottenere l'oggetto della sua passione benché tre mesi gli sembrassero lunghissimi tuttavia si disposa ad aspettare con pazienza fidandosi della parola del sultano che egli considerava irrevocabile mentre contava non solo le ore i giorni e le settimane ma perfino i minuti nell'attesa che fosse passato il termine erano passati circa due mesi quando una sera la madre volendo accendere la lampada si accorse che non c'era più olio in casa e la uscì per andare a comprarlo e mentre camminava per la città vide che tutto era in festa infatti le botteghe invece di essere chiusa erano aperte venivano ornate di foglie si preparavano luminarie tutti si sforzavano di farlo con più pompa e magnificenza per meglio manifestare il proprio zelo tutti insomma davano dimostrazioni di gioia e di allegria le vie erano anche piene di ufficiali in abito da cerimonia che montavano cavalli riccamente bardati ed erano circondati da un gran numero di valletti a piedi che andavano e venivano lei chiese al mercante dal quale comprò l'olio che cosa significasse tutto questo da dove venite mia buona signora le disse il mercante non sapete che questa sera il figlio del gran visir sposa la principessa badrud budura figlia del sultano tra poco lei uscirà dal bagno e gli ufficiali che vedete si riuniscono per scortarla fino a palazzo dove avverrà la cerimonia la madre di aladino non volle saperne di più tornò indietro così in fretta che entrò in casa quasi senza fiato trovò il figlio che tutto si aspettava meno la brutta notizia che lei gli portava figlio mio esclamò tutto è perduto per voi voi contavate sulla bella promessa del sultano non se ne farà niente aladino preoccupato da queste parole rispose mamma perché dite che il sultano non manterrà la sua promessa come lo sapete questa sera replicò la madre il figlio del gran visir sposa la principessa badrud budura a palazzo e raccontò in che modo lo aveva saputo con tanti particolari che egli non ebbe motivo di dubitarne a questa notizia aladino restò immobile come se fosse stato colpito da un fulmine chiunque altro al suo posto ne sarebbe stato abbattuto ma una segreta gelosia gli impedì di rimanere a lungo in quello stato di colpo si ricordò della lampada che gli era stata così utile fino ad allora e senza lasciarsi andare a vane parole contro il sultano contro il gran visir o contro il figlio di questo ministro disse soltanto mamma il figlio del gran visir forse non sarà questa notte felice come si ripromette mentre vado un momento in camera mia preparate la cena la madre di aladino capì benissimo che il figlio voleva fare uso della lampada per impedire se possibile che il matrimonio del figlio del gran visir con la principessa giungesse fino alla consumazione e non si ingannava infatti quando aladino fu in camera sua prese la lampada meravigliosa che gli aveva messo lì per toglierla dalla vista della madre da quando l'apparizione del genio l'aveva tanto spaventata prese dico la lampada e la strofinò allo stesso punto delle altre volte subito il genio gli comparve davanti che vuoi disse ad aladino sono pronto a dubbi dirti come tuo schiavo e schiavo di tutti quelli che hanno la lampada in mano io e gli altri schiavi della lampada ascolta gli disse aladino fino ad ora mi hai portato da mangiare quando ne ho avuto bisogno ora si tratta di un affare di tutt'altra importanza ho fatto chiedere il moglie al sultano la principessa madrù budura sua figlia e gli me la promessa e mi ha chiesto una proroga di tre mesi invece di mantenere la sua promessa questa sera prima che il termine scadesse egli la sposa è il figlio del gran visir ha saputo in questo momento e la cosa è sicura ti chiedo che non appena i novelli sposi saranno coricati tu li prenda e li porti qui entrambi nel loro letto padrone mio rispose il genio sarai ubbidito hai altro da comandare nient'altro per il momento rispose aladino subito il genio sparì aladino tornò dalla madre se no con lei con la stessa tranquillità di sempre dopo cena si intrattenne per un po con lei sul matrimonio della principessa come se la cosa non lo preoccupasse più tornò nella sua camera e lasciò la madre libera di coricarsi egli non si coricò ma aspettò il ritorno del genio e l'esecuzione dell'ordine che gli aveva dato intanto tutto era stato preparato con grande magnificenza nel palazzo del sultano per la celebrazione delle nozze della principessa e la serata passò fra le cerimonie e i festeggiamenti fino a notte molto inoltrata quando tutto fu finito il figlio del gran visir al segnale del capo degli unuchi della principessa se la svignò accortamente e quest'ufficiale lo introdusse nell'appartamento della principessa sua sposa fino alla camera dove era preparato il letto nuziale egli si coricò per primo poco dopo la sultana accompagnata dalle sue ancelle e da quelle della principessa sua figlia portò la novella sposa ella faceva grandi resistenze come l'usanza voleva che le novelle spose facessero la sultana l'aiutò a spogliarsi la mise nel letto come a forza e dopo averla abbracciata augurandole la buona notte si ritirò con tutte le ancelle e l'ultima che uscì chiuse la porta della camera appena la porta della camera fu chiusa il genio come schiavo fedele della lampada è pronto a eseguire gli ordini di quelli che la possedevano senza dare il tempo allo sposo di fare la minima carezza alla sua sposa solleva il letto con lo sposo e la sposa con grande stupore di entrambi e in un istante lo trasporta nella camera di aladino dove lo posa aladino che aspettava questo momento con impazienza non sopportò che il figlio del gran visir rimanesse coricato con la principessa prendi il novello sposo disse al genio chiudilo nel camerino e torna domani mattina un po dopo l'alba il genio tirò subito fuori il figlio del gran visir dal letto in camicia e lo trasportò nel posto indicato gli da aladino dove lo lasciò dopo avergi gettato addosso un soffio che egli sentì dalla testa ai piedi e che gli impedì di muoversi di lì sebbene la passione di aladino per la principessa badrul budura fosse molto violenta tuttavia quando si vide solo con lei non fece un lungo discorso non temete nulla adorabile principessa le disse con aria molto appassionata qui siete al sicuro e nonostante il mio intenso amore per la vostra bellezza e per le vostre grazie esso non mi farà mai uscire dai limiti del profondo rispetto che vi devo se sono stato costretto continuò a giungere a questo estremo non è stato con l'intenzione di offendervi ma per impedire che un ingiusto rivale vi possedesse contrariamente alla parola data dal sultano vostro padre in mio favore la principessa che non sapeva niente di queste circostanze prestò pochissima attenzione a tutto quello che aladino pote dirle non era affatto in condizioni di rispondergli il terrore lo stupore in cui era per un'avventura così stupefacente e così poco attesa l'avevano messa in un tale stato che aladino non riuscì a tirarle fuori nemmeno una parola aladino non si accontentò di questo prese la risoluzione di spogliarsi e si coricò al posto del figlio del gran visir con la schiena rivolta alla principessa dopo aver preso le precauzioni di mettere una sciabola tra loro due per significare che egli avrebbe meritato di essere punito se avesse attentato al suo onore aladino contento di aver così privato il suo rivale della felicità di cui si era lusingato di godere quella notte dormì abbastanza tranquillamente non fu così per la principessa badroul budura ma in vita sua era capitato di passare una notte così incresciosa e così spiacevole e se si riflette al posto e allo stato in cui il genio aveva lasciato il figlio del gran visir si converrà che il novello sposo l'aveva passata in maniera ben più triste il giorno dopo aladino non ebbe bisogno di strofinare la lampada per chiamare il genio egli tornò all'ora che gli era stata indicata mentre aladino stava finendo di vestirsi eccomi disse ad aladino quali sono i tuoi ordini da riprendere il figlio del gran visir là dove l'hai portato gli disse aladino rimettilo in questo letto e riportano nel palazzo del sultano al posto in cui l'hai preso il genio andò a liberare il figlio del gran visir e aladino stava riprendendo la sua sciabola quando egli riapparve mise lo sposo accanto alla principessa e in un istante riportò il letto nuziale nella stessa camera del palazzo del sultano dove l'aveva preso bisogna notare che in tutto questo tempo il genio non fu visto né dalla principessa né dal figlio del gran visir il suo orribile aspetto sarebbe stato capace di farli morire di terrore non sentirono neppure i discorsi tra lui e aladino e si accorsero solo che il letto veniva smosso e di essere trasportati da un posto all'altro era già abbastanza perché essi provassero il terrore che è facile immaginare il genio aveva appena rimesso il letto nuziale al suo posto quando il sultano curioso di sapere come la principessa sua figlia avesse passato la sua prima notte di nozze entrò nella sua camera per augurarle il buongiorno il figlio del gran visir interizzita dal freddo patito per tutta la notte e che non aveva ancora avuto il tempo di riscaldarsi appena sentì la porta aprirsi andò subito in uno spogliatoio dove la sera prima si era svestito il sultano si avvicinò al letto della principessa la baciò tra gli occhi secondo le abitudini augurandole il buongiorno e le chiese sorridendo come aveva passato la notte ma alzando la testa e guardandola con più attenzione fu grandemente stupito vedendola così malinconica e notando che lei non gli dimostrava né con il rossore che avrebbe potuto imporporarle le guance né con nessun altro segno quello che avrebbe potuto soddisfare la sua curiosità ella gli lanciò uno sguardo tristissimo in un modo che dimostrava una grande tristezza o un grande scontento e gli le disse ancora qualcosa ma vedendo che non riusciva a tirarle fuori una parola pensò che tacesse per pudore e si ritirò però sospettò che nel suo silenzio ci fosse qualcosa di straordinario e questo lo costrinse ad andare immediatamente nell'appartamento della sultana alla quale fece il racconto dello stato in cui aveva trovato la principessa e dell'accoglienza che gli aveva fatto sire gli disse la sultana questo non deve stupire vostra maestà non c'è novella sposa che non abbia lo stesso ritegno il giorno dopo le nozze non sarà più così fra due o tre giorni allora lei riceverà il sultano suo padre come deve vado a trovarla aggiunse mi inganno molto se non mi farà la stessa accoglienza quando la sultana fu vestita andò nell'appartamento della principessa che non si era ancora alzata si avvicinò al letto e le diede il buongiorno abbracciandola il suo stupore fu sommo non solo perché la figlia non le rispose niente ma anche perché guardandola si accorse che era in un grande abbattimento e questo le fece pensare che le fosse successo qualcosa che non riusciva a penetrare figlia mia le disse la sultana perché rispondete così male alle mie carezze proprio con vostra madre dovete assumere questo atteggiamento credete che io non sappia che cosa può capitare in una circostanza simile a quella in cui vi trovate voi voglio proprio credere che non abbiate questo pensiero allora vi deve essere capitato qualche altra cosa confessatemela francamente non lasciatemi più a lungo in questa inquietudine che mi opprime la principessa badroul budura ruppe in silenzio con un profondo sospiro signore onoratissima madre sclamò perdonatemi se ho mancato al rispetto che vi devo ho la mente così assorta nelle cose straordinarie che mi sono capitate questa notte che non mi sono ancora completamente ripresa dal mio stupore né dai miei terrori e che stento persino a raccappezzarmi allora le raccontò coi colori più vivaci in che modo un istante dopo essersi messa a letto insieme col suo sposo il letto era stato sollevato e trasportato in un attimo in una camera sporca e scura dove si era trovata sola e separata dal suo sposo senza sapere che cosa fosse successo di lui e dove aveva visto un giovane il quale dopo aver detto alcune parole che il terrore le aveva impedito di sentire si era coricato al posto del suo sposo dopo aver messo la sua sciabola tra di loro e che il suo sposo l'era stato reso e il letto riportato al suo posto altrettanto rapidamente tutto questo era appena avvenuto aggiunse quando il sultano mio padre è entrato in camera mia io ero così accasciata dalla tristezza che non ho avuto la forza di rispondergli una sola parola perciò sono sicura che egli si è indignato per la maniera in cui ho ricevuto l'onore che mi ha fatto ma spero che mi perdonerà quando saprà la mia triste avventura e il pietoso stato in cui mi trovo ancora in questo momento la sultana ascolta molto tranquillamente tutto quello che la principessa volle raccontarle ma non volle prestarvi fede figlia mia le disse avete fatto bene a non parlare di questo al sultano vostro padre guardatevi dal dirne qualcosa ad alcuno vi prenderebbero per pazza se vi sentissero parlare così signora riprese la principessa posso assicurarvi che vi parlo essendo completamente in me potete chiederlo al mio sposo vi dirà la stessa cosa glielo chiederò replicò la sultana ma anche se mi confermasse quello che mi avete raccontato non ne sarai più convinta di ora alzatevi intanto e scazzate dalla vostra mente questa fantasia bella cosa turbare per una visione simile le feste ordinate per le vostre nozze che devono continuare per parecchi giorni in questo palazzo e in tutto il regno non sentite già il suono delle fanfare e i concerti delle trombe i timpani e i tamburi tutto questo deve ispirarvi la gioia e il piacere e farvi dimenticare tutte le fantasie di cui mi avete parlato nello stesso tempo la sultana chiamò le ancelle della principessa e dopo che esse l'ebbero aiutata ad alzarsi la sultana quando ebbe visto la figlia alla specchiera andò nell'appartamento del sultano gli disse che in verità la figlia doveva aver avuto qualche fantasia per la mente ma che non era niente fece chiamare il figlio del visir per sapere da lui qualche cosa di quanto le aveva detto la principessa ma il figlio del visir che si considerava infinitamente onorato di imparentarsi col sultano aveva deciso di fingere mio caro genero gli disse la sultana ditemi siete in preda alla stessa fissazione della vostra sposa signora rispose il figlio del visir posso osare chiedervi per quale ragione mi fate questa domanda basta così replicò la sultana non voglio sapere altro voi siete più saggio di lei a palazzo i festeggiamenti durarono per tutto il giorno e la sultana che non abbandona mai la principessa non tralasò niente per ispirare la gioia e per farle prendere parte ai divertimenti che le offrivano con diversi generi di spettacolo ma lei era tanto colpita dal pensiero di ciò che le era successo la notte che come era facile vedere ne era completamente assorta il figlio del gran visir non era meno prostrato dalla brutta notte che aveva passato ma la sua ambizione lo indusse a dissimulare e vedendolo nessuno dubitò che non fosse uno sposo felicissimo Aladino che era ben informato di quanto accadeva a palazzo fu sicuro che gli spogi si sarebbero coricati insieme nonostante la spiacevole avventura capitata loro la notte precedente Aladino non aveva nessuna voglia di lasciarli tranquilli perciò appena cominciò a scendere la notte ricorse alla lampada subito il genio apparve e rivolse ad Aladino lo stesso complimento delle altre volte offrendogli i suoi servizi il figlio del gran visire la principessa Badrul Budura gli disse Aladino devono ancora dormire insieme questa notte va e appena si saranno coricati portami qui il letto come ieri il genio osservì Aladino con la stessa fedeltà e precisione del giorno prima il figlio del visire passò la notte nello stesso brutto modo come aveva già fatto e la principessa ebbe la stessa mortificazione di avere Aladino come compagno di letto con la sciabola posta tra loro due il genio seguendo gli ordini di Aladino ritornò la mattina dopo rimise lo sposo accanto alla sposa prese il letto e lo riportò nella camera del palazzo dove l'aveva preso il sultano dopo l'accoglienza che la principessa Badrul Budura gli aveva riservata il giorno prima preoccupato di sapere come avesse passato la seconda notte e se l'accogliesse di nuovo nello stesso modo andò nella sua camera sempre di buon mattino per informarsene il figlio del gran visire più vergognoso e più mortificato del fallimento di quest'ultima notte che della prima appena sentì venire il sultano si alzò precipitosamente e si slanciò nello spogliatoio il sultano si avvicinò al letto della principessa augurandole il buongiorno e dopo averle fatto le stesse carezze del giorno prima le chiese ebbene figlia mia questa mattina siete dello stesso cattivo umore di ieri volete dirmi come avete passato la notte la principessa mantenne lo stesso silenzio e il sultano si accorse che aveva l'animo molto meno tranquillo e che era più abbattuta della prima volta non dubitò che fosse successo qualcosa di straordinario allora irritato dal mistero che lei ne faceva le disse molto adirato e con la sciabola in pugno figlia mia o mi dite quel che mi nascondete o vi taglio subito la testa la principessa più spaventata dal tono e dalla minaccia del sultano offeso che dalla vista della sciabola sguainata ruppe infine il silenzio mio caro padre il sultano esclamò con le lacrime agli occhi chiedo perdono a vostra maestà se l'ho offesa spero dalla vostra bontà e dalla vostra clemenza che farete subentrare la compassione alla collera quando vi avrò fatto il racconto fedele del triste e pietoso stato in cui mi sono trovata per tutta questa notte e per tutta la notte scorsa dopo questo preambolo che calmò e intenerì un po' il sultano gli raccontò fedelmente tutto quello che era successo in quelle due orribili notti ma in modo così commovente che egli ne fu vivamente addolorato per l'amore e la tenerezza che provava per lei lei finì con queste parole se vostra maestà ha il minimo dubbio sul racconto che gli ho fatto può informarsene dallo sposo che mi ha dato sono sicura che egli confermerà la verità di quanto ho detto il sultano condivise interamente l'estrema sofferenza che un'avventura così stupefacente doveva aver causato alla principessa figlia mia le disse avete fatto molto male a non spiegarvi con me fin da ieri su una faccenda così strana come quella che mi avete raccontata alla quale non sono meno interessato di voi io non vi ho fatto sposare con l'intenzione di rendervi infelice ma piuttosto con lo scopo di rendervi felice e contenta e di farvi godere di tutta la felicità che meritate e che potevate sperare con uno sposo che mi era sembrato adatto a voi cancellate dalla vostra mente il brutto ricordo di tutto quello che mi avete raccontato farò in modo che non vi capitino più notti così spiacevoli e così poco sopportabili come le due che avete passato appena il sultano fu rientrato nel suo appartamento mandò a chiamare il gran visir visir gli disse avete visto vostro figlio? non vi ha detto niente? poiché il gran visir gli rispose di non averlo visto il sultano gli fece il racconto di tutto ciò che gli aveva narrato la principessa Badrul Budura e finendo aggiunse non dubito che mia figlia mi abbia detto la verità sarei lieto tuttavia di averne la conferma dalla testimonianza di vostro figlio andate da lui e chiedetegli come stanno le cose il gran visir non tardò ad andare a raggiungere il suo figlio lo mise a conoscenza di quanto il sultano gli aveva comunicato e gli comandò di non nascondergli la verità e di dirgli se tutto ciò era vero non ve la nasconderò padre mio gli rispose il figlio tutto quello che la principessa ha detto al sultano è vero ma non ha potuto dirgli i cattivi trattamenti che sono stati inflitti solo a me eccoli dopo il mio matrimonio ho passato le due notti più crudeli che si possono immaginare e non ho parole per descrivervi esattamente e con tutte le loro circostanze i dolori che ho sopportato non vi parlo del terrore che ho provato sentendomi portare via quattro volte nel mio letto senza vedere chi sollevava il letto o lo trasportava da un posto all'altro e senza riuscire ad immaginare come questo fosse possibile giudicherete voi stesso l'orribile stato nel quale mi sono trovato quando vi dirò che ho passato due notti in piedi e in camicia in una specie di stretto camerino senza avere la libertà di muovermi dal posto dove ero stato messo senza poter fare nessun movimento sebbene apparentemente non vedessi nessun ostacolo che potesse verosimilmente impedirmelo detto questo non è necessario che io aggiunga altro per raccontarvi i particolari delle mie sofferenze non vi nasconderò che questo non mi ha impedito di avere per la principessa mia sposa tutti i sentimenti d'amore di rispetto e di riconoscenza che lei merita ma vi confesso in buona fede che con tutto l'onore e tutto lo splendore che mi derivano dall'aver sposato la figlia del mio sovrano preferirei morire piuttosto che avere più a lungo l'onore di una così illustre parentela se è necessario sopportare trattamenti così sgradevoli come quelli che ho già patiti non dubito affatto che la principessa non provi i miei stessi sentimenti e lei sarà sicuramente d'accordo che la nostra separazione non è meno necessaria alla sua tranquillità che alla mia perciò padre mio vi supplico per lo stesso affetto che vi ha portato a procurarmi un così grande onore di far accettare al sultano che il nostro matrimonio sia dichiarato nullo per quanto grande fosse l'ambizione del gran vizir di vedere il suo figlio genero del sultano tuttavia vedendo la sua ferma decisione di separarsi dalla principessa ritenne che non era opportuno proporgli di aver pazienza almeno per qualche giorno ancora per vedere se questa faccenda avesse termine lo lasciò e andò a riferire la sua proposta al sultano al quale confessò sinceramente che la cosa era fin troppo vera dopo quanto aveva sentito dal figlio senza neppure aspettare che il sultano gli parlasse di rompere il matrimonio cosa alla quale lo vedeva molto ben disposto lo supplicò di permettere che suo figlio lasciasse il palazzo e ritornasse a casa sua prendendo a pretesto che non era giusto sporre la principessa neppure un minuto di più a una preoccupazione così terribile per amore di suo figlio il gran vizir non ebbe difficoltà a ottenere quello che chiedeva subito il sultano che aveva già deciso la cosa diede ordine di far cessare i festeggiamenti a palazzo e in città e anche in tutto il suo regno dove fece spedire ordini che revocavano i primi e in brevissimo tempo tutte le manifestazioni di gioia e i pubblici festeggiamenti cessarono in tutta la città e nel regno questo cambiamento repentino e così inatteso fece nascere molte diverse supposizioni ci si chiedeva reciprocamente il motivo di questo contrattempo e altro non si diceva se non che si era visto il gran vizir uscire da palazzo e ritornarsene a casa accompagnato dal figlio tutti e due con aria molto triste solo aladino conosceva il segreto e si rallegrava dentro di sé del successo procurategli dalla lampada perciò appena ebbe saputo con certezza che il suo rivale aveva abbandonato il palazzo e che il matrimonio con la principessa era definitivamente annullato non ebbe più bisogno di strofinare ulteriormente la lampada né di chiamare il genio per impedire che venisse consumato stranamente nel sultano e nel gran vizir che avevano dimenticato aladino e la domanda che lui aveva fatto fare ebbero il minimo dubbio che egli potesse avere a che fare con l'incantesimo che aveva provocato lo scioglimento del matrimonio della principessa intanto aladino lasciò passare i tre mesi che il sultano aveva stabilito come termine per far celebrare il suo matrimonio con la principessa Badrul Budura egli ne aveva contato tutti i giorni con grande cura e appena trascorsi non mancò di mandare subito la madre a palazzo per ricordare al sultano la parola che aveva dato la madre di Aladino andò a palazzo come il suo figlio le aveva detto e andò a mettersi all'ingrasso del divano nello stesso punto delle altre volte appena il sultano alzò gli occhi su di lei la riconobbe e si ricordò contemporaneamente della domanda che gli aveva fatto e del periodo al quale lui l'aveva rinviata in quel momento il gran visir stava facendogli il rapporto di un affare visir gli disse il sultano interrompendolo vedo la brava donna che qualche mese fa ci fece un così bel dono fatela venire riprenderete il vostro rapporto dopo che l'avrò ascoltata il gran visir guardando verso l'ingresso del divano vede anche lui la madre di Aladino subito chiamò il capo degli usceri indicandogliela e gli dà dell'ordine di farla venire avanti la madre di Aladino avanzò fino ai piedi del trono dove si prosternò secondo la sua abitudine dopo che si fu rialzata il sultano le chiese che cosa volesse sire gli rispose mi presento ancora davanti al vostro trono per ricordarvi il nome di mio figlio Aladino che i tre mesi fissati per accogliere la domanda che avevo avuto l'onore di rivolgervi sono passati e vi supplico di avere la bontà di ricordarvene il sultano rinviando di tre mesi la sua risposta alla domanda di quella brava donna la prima volta in cui l'aveva vista aveva pensato che non avrebbe più sentito parlare di un matrimonio che egli considerava poco adatto alla principessa sua figlia soltanto considerando la bassa condizione e la povertà della madre di Aladino la quale si presentava da lui vestita molto modestamente tuttavia l'intimazione di mantenere la sua parola che la veniva a fargli gli sembrò imbarazzante non ritenne opportuno rispondere subito consultò il gran visir e gli manifestò quanto gli ripugnasse concludere il matrimonio della principessa con uno sconosciuto il quale come immaginava doveva possedere un patrimonio molto inferiore al più mediocre il gran visir non esitò ad esprimere la sua opinione al sultano sire gli disse mi sembra che ci sia un mezzo infallibile per evitare un matrimonio così sproporzionato senza che Aladino anche se fosse sconosciuto da vostra maestà possa lamentarsene mettere la principessa a un prezzo così alto che le sue ricchezze quali che possono essere non possano bastare sarà il mezzo per farlo rinunciare a un progetto tanto ardito per non dire temerario al quale non deve certamente aver ben pensato prima di impegnarvisi il sultano approvò il consiglio del gran visir si rivolse verso la madre di Aladino e dopo qualche minuto di riflessione le disse mia brava donna i sultani devono mantenere la loro parola sono pronto a mantenere la mia e a rendere vostro figlio felice facendogli sposare la principessa mia figlia ma poiché non posso dargliela in sposa senza sapere quale vantaggio lei vi troverà direte a vostro figlio che manterrò la mia parola appena egli mi avrà inviato 40 grandi vassoi di oro massiccio pieni delle stesse cose che mi avete già offerto da parte sua portati da uno stesso numero di schiavi negri che dovranno essere accompagnati da altri 40 schiavi bianchi giovani ben fatti e di bella statura tutti vestiti con grande ricchezza queste sono le condizioni alle quali sono pronto a dargli la principessa mia figlia andate brava donna aspetterò che mi portiate la sua risposta la madre di aladino si prosternò davanti al trono del sultano e andò via per strada rideva tra sé della folla immaginazione di suo figlio dove troverà diceva tanti vassoi d'oro e una così grande quantità di quei vetri colorati da riempirli ritornerà nel sotterraneo il cui ingresso è chiuso per coglierli dagli alberi e tutti questi schiavi così ben fatti come vuole il sultano dove li prenderà la sua pretesa lo porta molto lontano e credo che non sarà affatto contento della mia ambasciata quando fu tornata a casa con la mente presa da tutti questi pensieri che le facevano credere che aladino non avesse più niente a sperare gli disse figlio mio vi consiglio di non pensare più al matrimonio con la principessa Badrul Budura il sultano per la verità mi ha ricevuto con molta bontà e credo che fosse ben intenzionato verso di voi ma il Gran Vizir se non mi inganno mi ha fatto cambiare idea e potete presumerlo come me da quanto ora sentirete dopo aver fatto notare a sua maestà che i tre mesi erano passati e che lo pregavo da parte vostra di ricordarsi della sua promessa ho notato che mi ha dato la risposta che ora vi riferirò solo dopo aver parlato per un po' a bassa voce col Gran Vizir la madre di Aladino fece un racconto esattissimo a suo figlio di tutto quello che il sultano le aveva detto e delle condizioni alle quali avrebbe acconsentito al suo matrimonio con la principessa sua figlia e finendo gli disse figlio mio e gli aspetta la vostra risposta ma detto tra di noi continuò sorridendo credo che aspetterà a lungo non così a lungo come pensate madre mia rispose Aladino e anche il sultano si sbaglia se ha creduto con le sue esose richieste di mettermi in condizione di non pensare più alla principessa Badrù il Budura io mi aspettavo altre difficoltà insuperabili o che mettesse la mia incomparabile principessa a un prezzo molto più alto ma ora sono contento e quello che lui mi chiede è poca cosa in confronto a quanto sarei in condizione di dargli per poterla possedere mentre io penserò a soddisfarlo andate a comprare il necessario per il pranzo e lasciatemi fare appena la madre di Aladino fu uscita per andare a fare la spesa Aladino prese la lampada e la strofinò subito il genio gli si presentò davanti e negli stessi termini che abbiamo già detto gli chiese che cosa avesse da ordinargli dicendo che era pronto a servirlo Aladino gli rispose il sultano mi concede la mano della principessa sua figlia ma mi chiede prima quaranta grandi vassoi d'oro massiccio e ben pesanti colmi dei frutti del giardino in cui ho preso la lampada della quale tu sei lo schiavo vuole ancora da me che questi quaranta vassoi siano portati da altrettanti schiavi negri preceduti da quaranta schiavi bianchi giovani ben fatti di bella corporatura e vestiti molto riccamente va e portami al più presto questi doni affinché io li invio al sultano prima che finisca la seduta del divano il genio gli disse che il suo ordine sarebbe stato immediatamente eseguito e sparì pochissimo tempo dopo il genio riapparve accompagnato da quaranta schiavi negri ognuno dei quali portava sulla testa un vassoio d'oro massiccio del peso di venti marchi pieno di perle diamanti rubini e smeraldi scelti meglio anche per bellezza e grandezza di quelli che erano già stati offerti al sultano ogni vassoio era coperto da una tela d'argento a fiori d'oro tutti quegli schiavi negri e bianchi insieme con i piatti d'oro occupavano quasi tutta la casa che era piuttosto piccola con un piccolo cortile davanti e un giardinetto sul retro il genio chiese ad aladino se fosse contento e se avesse da dargli qualche altro ordine aladino gli disse che non aveva bisogno di altro e subito il genio sparì la madre di aladino tornò dal mercato ed entrando fu enormemente stupita di vedere tante persone e tante ricchezze dopo aver posato le provviste volle togliersi il velo che le copriva il viso ma aladino glielo impedì madre mia disse non c'è tempo da perdere prima che il sultano tolga la seduta del divano dovete ritornare a palazzo e portare subito il dono e la dote della principessa Badrul Budura che egli mi ha richiesto affinché dalla mia sollecitudine e dalla mia precisione si renda conto dello zelo ardente e sincero che ho di procurarmi l'onore di imparentarmi con lui senza aspettare la risposta della madre aladino aprì la porta di strada e fece sfilare successivamente tutti questi schiavi alternando sempre uno schiavo bianco a uno schiavo negro che portava un vassoio d'oro sulla testa e così fino all'ultimo quando sua madre fu uscita seguendo l'ultimo schiavo negro chiuse la porta e rimase tranquillamente in camera sua con la speranza che il sultano dopo questo dono che era proprio come aveva richiesto avrebbe finalmente consentito ad accettarlo come genero il primo schiavo bianco uscito dalla casa di aladino aveva fatto fermare tutti i passanti che lo avevano visto e prima che gli 80 schiavi uno bianco alternato a un negro fossero tutti usciti la strada si era riempita di una grande massa di popolo che accorreva da ogni parte per vedere uno spettacolo così splendido e straordinario il vestito di ogni schiavo era così ricco per stoffe e pietre preziose che migliori intenditori non credettero di sbagliare valutando il prezzo di ogni abito a più di un milione la grande eleganza la forma ben studiata di ogni abito la grazia il bell'aspetto la bella statura uniforme di ogni schiavo il loro passo maestoso a quale distanza l'uno dall'altro insieme con lo splendore delle pietre preziose di enorme grandezza incastonate intorno alle loro cinture di oro massiccio in bella simmetria e le insegne di pietre preziose attaccate ai loro berretti di un gusto tutto particolare suscitarono in tutta questa folla di spettatori un'ammirazione così grande che non potevano stancarsi di guardarli e di seguirli con gli occhi il più lontano possibile ma le vie erano così stracolme di popolo che nessuno poteva muoversi dal proprio posto poiché per arrivare al palazzo del sultano bisognava attraversare parecchie strade questo fece sì che una buona parte della città gente di ogni certo condizione fosse testimone di uno sforzo così affascinante il primo degli ottanta schiavi arrivò alla porta del primo cortile del palazzo e i portinai che avevano fatto ala appena si accorsero che questo meraviglioso corteo si avvicinava lo scambiarono per un re tanto era riccamente e magnificamente vestito essi gli andarono incontro per baciargli l'orco della veste ma lo schiavo istruito dal genio li fermò e disse loro gravemente noi siamo soltanto schiavi il nostro padrone arriverà quando sarà il momento il primo schiavo seguito da tutti gli altri continuò fino al secondo cortile che era spaziosissimo e nel quale i dignitari del sultano si sistemavano durante la seduta del divano gli ufficiali alla testa di ogni drappello erano vestiti con grande ricchezza ma essa fu cancellata di fronte agli ottanta schiavi portatori del dono di aladino niente sembrò così bello e così ricco in tutto il seguito del sultano e tutto lo splendore dei dignitari della sua corte che lo circondavano non era niente in confronto a quello che in quel momento gli si presentava allo sguardo poiché il sultano era stato avvertito del corteo e dell'arrivo di questi schiavi egli aveva dato ordine di farli entrare perciò appena arrivarono trovarono libero l'ingresso del divano e vi entrarono in bell'ordine una parte a destra e l'altra a sinistra quando tutti furono entrati ed ebbero formato un grande semicerchio davanti al trono del sultano gli schiavi negri posarono ciascuno il proprio vassoio sul tappeto si prosternarono tutti assieme battendo la fronte contro il teppeto tutti gli schiavi bianchi fecero la stessa cosa contemporaneamente si rialzarono tutti assieme e i negri nel farlo scoprirono abilmente i vassoi che avevano davanti e restarono tutti in piedi con le mani incrociate sul petto con grande modestia la madre di Aladino che intanto era arrivata fino ai piedi del trono dopo essersi prosternata disse al sultano sire mio figlio Aladino non ignora che questo dono che gli manda a vostra maestà è molto inferiore a quanto merita la principessa Badrul Budura tuttavia egli spera maestà che lo gradiate e che vi compiacerete di farlo gradire anche alla principessa con tanta maggiore fiducia in quanto egli ha cercato di conformarsi alla condizione che voi avete voluto imporgli il sultano non era in grado di prestare attenzione al complimento della madre di Aladino nel primo sguardo lanciato sui quaranta vassoi d'oro pieni fino all'orlo delle gemme più brillanti più splendenti e più preziose che mai si fossero viste al mondo e sugli ottanta schiavi che sembravano altrettanti re sia per il loro bell'aspetto sia per la ricchezza la stupefacente magnificenza dei loro abbigliamenti l'aveva colpito tanto che non poteva riprendersi dalla sua ammirazione invece di rispondere al complimento della madre di Aladino si rivolse a gran visir che non riusciva lui stesso a capire da dove potesse essere arrivata una così grande profusione di ricchezze ebbene visir disse a voce alta che pensate di colui chiunque possa essere che mi invia un dono così ricco e così straordinario e che ne voi ne io conosciamo lo giudicate indegno di sposare la principessa Badrul Budura mia figlia nonostante la gelosia e il dolore che il gran visir ebbe nel vedere che uno sconosciuto sarebbe diventato il genero del sultano al posto di suo figlio egli non osò tuttavia nascondere il suo pensiero era assai evidente che il dono di Aladino era più che sufficiente da meritare che egli fosse accolto in una così illustre parentela rispose dunque al sultano e condividendo la sua opinione disse Sire ben lontano dal pensare che colui che ha fatto a vostra maestà un dono tanto degno sia immeritevole dell'onore che voi volete fargi oserei dire che meriterebbe di più se non fossi convinto che non esiste al mondo tesoro abbastanza ricco da essere messo sulla bilancia con la principessa figlia di vostra maestà i signori della corte che partecipavano alla seduta del consiglio dimostrarono con i loro applausi che la loro opinione non era diversa da quella del gran visir il sultano non aspettò oltre non pensò neppure ad informarsi se aladino avesse altre qualità necessarie a colui che poteva aspirare a diventare il suo genero la sola vista di tante immense ricchezze e la sollecitudine con la quale aladino aveva soddisfatto la sua richiesta senza aver mosso la minima difficoltà a condizioni tanto esorbitanti quanto quelle che gli aveva imposto lo convinsero facilmente che non gli mancava niente di tutto quello che poteva renderlo perfetto e come lui voleva perciò per congedare la madre di aladino con la soddisfazione che lei poteva desiderare le disse brava donna andate a dire a vostro figlio che lo aspetto per riceverlo a braccia aperte e abbracciarlo e che quanto più sollecitamente verrà a ricevere dalla mia mano il dono che gli ho fatto della principessa la mia figlia tanto più mi farà piacere appena la madre di aladino fu andata via con la gioia di cui una donna della sua condizione può essere capace vedendo il figlio elevato a così alto onore contro le proprie attese il sultano mise fine all'udienza di quel giorno e alzandosi dal trono ordinò che gli eunuchi addetti al servizio della principessa venissero a prendere i vassoi d'oro per portarli nell'appartamento della loro padrona dove andò subito per esaminarli con lei a suo agio e quest'ordine fu eseguito immediatamente con la sollecitudine del capo degli eunuchi gli 80 schiavi bianchi e neri non furono dimenticati li fecero entrare nell'interno del palazzo e poco dopo il sultano che aveva appena parlato della loro magnificenza alla principessa Badrul Budura ordinò di farli venire davanti all'appartamento affinché lei li esaminasse attraverso le persiane e li conoscesse che lontano dall'avere esagerato nulla nel racconto che le aveva fatto egli gliene aveva detto molto meno della realtà la madre di Aladino intanto arrivò a casa con un'aria che lasciava già vedere la buona notizia che portava al figlio figlio mio gli disse avete tutte le ragioni per essere contento siete arrivato alla realizzazione dei vostri desideri anche se io non ci credevo e voi sapete che cosa ve ne avevo detto per non tenervi troppo a lungo in ansia il sultano con il plauso di tutta la sua corte ha dichiarato che siete degno di possedere la principessa Badrul Budura vi aspetta per abbracciarvi e concludere il vostro matrimonio tocca a voi pensare preparativi per questo incontro affinché esso corrisponda all'alta opinione che egli si è fatta della vostra persona ma dopo quanto ho visto sulle meraviglie che sapete fare sono convinta che niente vi farà difetto non devo dimenticarmi di dirvi ancora che il sultano vi aspetta con impazienza perciò non perdete tempo e andate da lui Aladino estasiato da questa notizia e tutto assorto nel pensiero della donna che lo aveva incantato disse poche parole a sua madre e si ritirò in camera sua la prese la lampada che gli aveva reso tanti servizi fino a quel momento in tutte le sue necessità e in tutto quello che aveva desiderato e appena l'ebbe strofinata il genio continuò a dimostrare la sua obbedienza apparendo subito senza farsi aspettare genio gli disse Aladino ti ho chiamato perché tu mi faccia subito fare un bagno e dopo che l'avrò fatto voglio che tu tenga pronto per me l'abito più ricco e più magnifico che mai monarca abbia indossato aveva appena pronunciato queste parole che il genio rendendolo invisibile come lui lo prese e lo trasportò in un bagno tutto di marmo finissimo e di diversi colori tra i più belli e svariati senza vedere chi lo servisse fu spogliato in un vasto salone molto elegante dal salone lo fecero entrare nel bagno dove il calore era moderato e là fu massaggiato e lavato con diverse qualità di acque profumate dopo averlo fatto passare attraverso tutte le gradazioni di calore secondo le differenti stanze del bagno ne uscì ma completamente diverso da quando vi era entrato il suo colorito divenne fresco bianco vermiglio e il suo corpo molto più agile e vigoroso rientrò nel salone e non trovò più il vestito che vi aveva lasciato il genio aveva avuto cura di mettere al suo posto quello che egli aveva richiesto aladino fu stupito vedendo la magnificenza dell'abito che avevano sostituito al suo si vestì aiutato dal genio ammirando ogni capo via via che lo indossava tanto ognuno superava ciò che lui avrebbe potuto immaginare quando ebbe finito il genio lo riportò a casa nella stessa camera in cui l'aveva preso allora gli chiese se avesse altro da chiedergli sì rispose aladino ti chiedo di portarmi al più presto un cavallo che superi in bellezza e docilità il cavallo più pregiato della scuderia del sultano che abbia la gualdrappa la sella la briglia e tutti i finimenti di un valore superiore al milione ti chiedo anche di farmi venire nello stesso tempo venti schiavi vestiti altrettanto riccamente e altrettanto elegantemente di quelli che hanno portato il dono affinché camminino ai miei lati e al mio seguito in gruppo e altri venti simili per camminare davanti a me in due file fai anche venire sei schiave per servire mia madre ognuna vestita almeno con la stessa ricchezza delle schiave della principessa madrù il budura e ognuna deve portare un abito completo magnifico e sfarzoso come se fosse per la sultana mi occorrono anche diecimila monete d'oro divise in dieci borse ecco aggiunse quello che dovevo ordinarti va e fai alla svelta appena aladino ebbe finito di dargli i suoi ordini il genio scomparve e tornò poco dopo col cavallo ai quaranta schiavi dieci dei quali portavano ognuno una borsa con mille monete d'oro e con sei schiave ognuna delle quali portava sulla testa un abito diverso per la madre di aladino avvolto in una tela d'argento e il genio presentò tutto ad aladino aladino prese solo quattro delle dieci borse e le diede alla madre dicendole che servivano per le sue necessità le altre sei le lasciò tra le mani degli schiavi che le portavano con l'ordine di reggerle e di gettare manciate di monete d'oro al popolo attraverso le strade che dovevano percorrere per andare al palazzo del sultano ordenò ancora che lo precedessero insieme con gli altri schiavi tre a destra e tre a sinistra infine presentò alla madre le sei schiave dicendole che le appartenevano e poteva servirsene da padrone e che gli abiti che essi avevano portato erano per suo proprio uso quando aladino ebbe predisposto ogni cosa disse al genio congedandolo che l'avrebbe chiamato quando avesse avuto bisogno dei suoi servigi e subito il genio sparì allora aladino ad altro non pensò se non ad esaudire al più presto il desiderio che il sultano aveva manifestato di vederlo mandò anche d'urgenza al palazzo uno dei 40 schiavi non dirò il più bello perché lo erano tutti in egual misura con l'ordine di rivolgersi al capo degli uscieri e di chiedergli quando egli avrebbe potuto avere l'onore di andare a gettarsi ai piedi del sultano lo schiavo non impiegò molto ad eseguire l'ordine venne con la risposta che il sultano lo attendeva con impazienza aladino salì subito a cavallo e si mise in cammino nell'ordine che abbiamo indicato sebbene egli non fosse mai andato a cavallo tuttavia lo fece per la prima volta con tanta grazia che il più esperto cavaliere non l'avrebbe preso per un novellino le vie che attraversò si riempirono quasi in un attimo di una innumerevole folla di popolo che faceva risuonare l'aria di acclamazioni di grida di ammirazione e di benedizioni soprattutto ogni volta che i sei schiavi che portavano le borse lanciavano in aria manciate di monete d'oro a destra e a sinistra tuttavia queste acclamazioni non venivano da quelli che si spingevano e si abbassavano per raccogliere le monete ma da quelli che di condizione superiore al popolino non potevano impedirsi di rendere pubblicamente alla liberalità di aladino le lodi che essa meritava non solo quelli che ricordavano di averlo visto giocare nelle strade già grandicello come un vagabondo non lo riconoscevano più anche quelli che l'avevano visto più di recente faticavano a riconoscerlo tanto i suoi lineamenti erano cambiati questo derivava dal fatto che la lampada aveva la proprietà di procurare gradualmente a coloro che la possedevano le doti convenienti allo stato al quale essi giungevano grazie al buon uso che ne facevano perciò si prestò molta più attenzione alla persona di aladino che non al fasto che lo accompagnava la maggior parte infatti avevano già ammirato quello sforzo lo stesso giorno durante il corteo degli schiavi che avevano portato o accompagnato il dono tuttavia il cavallo fu ammirato dai buoni intenditori i quali seppero riconoscerne la bellezza senza lasciarsi abbagliare né dalla ricchezza né dal fulgore dei diamanti e delle altre pietre da cui era ricoperto poiché si era sparsa la voce che il sultano dava alla principessa Badrul Budura in moglie ad Aladino nessuno senza far caso alla sua origine portò invidia alla sua fortuna e all'alto grado al quale stava per essere elevato tanto ne sembrò degno Aladino arrivò al palazzo dove tutto era pronto per riceverlo giunto alla seconda porta volle scendere a terra per adeguarsi all'uso osservato dal gran vizir dai generali d'armata e dai governatori di provincia di primo grado ma il capo degli uscieri che lo stava aspettando per ordine del sultano glielo impedì e lo accompagnò fino alla sala del consiglio e dell'udienza dove lo aiutò a scendere da cavallo sebbene Aladino vi si opponesse risolutamente e non volesse permetterlo ma gli fu impossibile intanto gli uscieri formavano una doppia ala all'ingresso della sala il loro capo mise Aladino alla sua destra e dopo averlo fatto passare al centro lo portò fino al trono del sultano non appena il sultano ebbe visto Aladino si stupì enormemente di vederlo vestito più riccamente e più magnificamente di quanto egli stesso non lo fosse mai stato fu anche stupito del suo aspetto della sua bella statura e da una certa aria di grandezza ben lungi dall'aria di messa con cui la madre era apparsa davanti a lui il suo stupore e la sua meraviglia non gli impedirono tuttavia di alzarsi e scendere due o tre gradini del trono abbastanza prontamente da impedire ad Aladino di gettarsi ai suoi piedi e per abbracciarlo con una dimostrazione piena d'amicizia dopo questa cortesia Aladino volle ancora gettarsi ai piedi del sultano ma il sultano lo trattenne con la mano e lo costrinse a salire e a sedersi tra lui e il visir allora Aladino cominciò a parlare e disse sire io ricevo gli onori che vostra maestà mi fa perché ha la bontà e il piacere di farmeli mi permetterete di dirvi che non ho affatto dimenticato di essere nato vostro schiavo che conosco la grandezza della vostra potenza e non ignoro quanto la mia origine mi ponga più in basso dello splendore e dello sfarzo del sommo grado della vostra maestà se c'è qualche cosa aggiunse per la quale posso aver meritato un'accoglienza così favorevole confesso che lo devo soltanto allardire che per puro caso ha fatto innalzare i miei occhi i miei pensieri e i miei desideri fino alla divina principessa che è l'oggetto dei miei sogni chiedo perdono a vostra maestà della mia temerarietà ma non posso nascondere che morirei di dolore se perdessi la speranza di vederli esauditi figlio mio rispose il sultano abbracciandolo una seconda volta mi fareste torto a dubitare un solo momento della sincerità della mia parola la vostra vita mi è troppo caro ormai perché io non ve la conservi offrendovi il rimedio di cui dispongo preferisco il piacere di vedervi e di ascoltarvi a tutti i miei tesori uniti ai vostri dette queste parole il sultano fece un segnale e subito si sentì l'aria di suonare del suono delle trombe degli oboi e dei timpani e nello stesso tempo il sultano portò Aladino in un magnifico salone dove fu servito un sontuoso banchetto il sultano mangiò solo con Aladino il gran visire e i signori della corte ognuno secondo la propria dignità e il proprio grado tennero loro compagnia durante il pranzo il sultano che aveva sempre gli occhi fissi su Aladino tanto provava piacere a guardarlo fece cadere il discorso su parecchi argomenti differenti nel corso della conversazione che ebbero insieme durante il pranzo e qualunque argomento egli toccasse Aladino parlò con tanta cognizione di causa e tanta saggezza che finì di convalidare la buona opinione che subito il sultano si era fatta di lui finito il pranzo il sultano fece chiamare il primo giudice della sua capitale e gli ordinò di stendere e mettere subito in bella copia il contratto di matrimonio tra la principessa Badrù Budura sua figlia e Aladino intanto il sultano si intrattenne con Aladino su parecchie cose indifferenti in presenza del gran visire dei signori della sua corte che ammirarono la solidità del suo ingegno la sua grande facoltà di parola e di espressione e i pensieri fini e delicati con i quali infiorava la sua conversazione quando il giudice ebbe finito di stendere il contratto con tutte le dovute forme il sultano chiese ad Aladino se volesse restare a palazzo per concludere la cerimonia del matrimonio quello stesso giorno Sire rispose Aladino nonostante la mia grande impazienza di godere in pieno della bontà della maestra vostra vi supplico di volermi permettere di rinviare le nozze finché non avrò fatto costruire un palazzo per ricevervi la principessa secondo il suo merito e la sua dignità vi prego perciò di accordarmi un posto conveniente nell'area del vostro palazzo affinché abbia più agio di venirvi a presentare i miei omaggi non tralascerò niente per fare in modo che il palazzo sia finito con la maggior sollecitudine possibile figlio mio gli disse il sultano prendete tutto il terreno che credete necessario c'è troppo spazio libero davanti al mio palazzo e avevo io stesso già pensato di occuparlo ma ricordatevi che voglio vedervi unito al più presto con mia figlia per portare al culmine la mia gioia dette queste parole abbracciò ancora Aladino e si congedò dal sultano con la stessa educazione come se fosse stato allevato e avesse sempre vissuto a corte Aladino risalì a cavallo e tornò a casa nello stesso modo come era venuto in mezzo alla stessa folla e alle stesse acclamazioni del popolo che gli augurava ogni sorta di felicità e di prosperità appena rientrato e sceso a terra si ritirò da solo in camera sua prese la lampada e chiamò il genio come ne aveva l'abitudine il genio non si fece aspettare apparve e gli offrì i suoi servizi genio gli disse Aladino ho tutte le intenzioni per lodare la tua precisione nell'eseguire esattamente tutto quello che finora ho preteso da te grazie alla potenza di questa lampada tua padrona oggi si tratta di questo per amor suo devi mostrare se possibile più celo e più fretta di quanto hai fatto finora ti chiedo dunque che nel minor tempo possibile tu mi faccia costruire proprio di fronte al palazzo del sultano a un'adeguata distanza un palazzo degno di accogliere la principessa Badrul Budura mia sposa ti lascio libera scelta dei materiali cioè porfido di aspro agata lapislazzoli e il marmo più pregiato e dei più svariati colori e del resto dell'edificio ma voglio che nel punto più alto del palazzo tu faccia innalzare un salone a cupola con quattro pareti uguali i cui mattoni siano unicamente di oro e argento massiccio messi alternativamente con dodici finestre sei da ogni lato e le persiane di ogni finestra a eccezione di una sola che voglio sia lasciata incompiuta siano arricchite con arte e simmetria da diamanti rubini e smeraldi in modo tale che al mondo non si sia mai visto niente di simile voglio voglio che questo palazzo sia completato da un cortile anteriore da una corte e da un giardino ma sopra ogni cosa voglio che ci sia in un posto che mi indicherai una stanza del tesoro piena di oro e di denaro contante voglio anche che nel palazzo vi siano cucine dispense magazzini depositi pieni di mobili preziosi per tutte le stagioni adatti alla magnificenza del palazzo scuderie piene dei più bei cavalli con i loro scudieri e i loro palafrenieri senza dimenticare una completa attrezzatura da caccia devono anche esservi camerieri addetti alla cucina e alla dispensa e delle schiave necessarie al servizio della principessa devi aver capito la mia intenzione va e torna quando ciò sarà fatto il sole era appena tramontato quando aladino finì di dare al genio l'incarico della costruzione del palazzo che aveva immaginato il giorno dopo all'alba aladino al quale l'amore per la principessa impediva di dormire tranquillamente si era appena alzato quando gli si presentò il genio signore disse il vostro palazzo è finito venite a vedere se ne siete soddisfatto aladino aveva appena accettato di andarvi quando il genio ve lo trasportò in un attimo aladino lo giticò così superiore alla sua aspettativa che non si stancava di ammirarlo il genio lo portò in tutti i posti e dovunque egli trovò soltanto ricchezze eleganza e magnificenza con servitori e schiavi tutti vestiti secondo il loro grado e secondo il servizio al quale erano destinati non mancò di fargli vedere come una delle cose principali la stanza del tesoro la cui porta fu aperta dal tesoriere e aladino divide cumuli di borse di diverse misure secondo le somme che contenevano che arrivavano fino al soffitto e disposte in un ordine gradito alla vista uscendo il genio lo assicurò della fedeltà del tesoriere poi lo portò alle scuderie e là gli fece vedere i più bei cavalli che ci fossero al mondo e i palafrenieri in grande attività intenti a governarli poi gli fece visitare i depositi pieni di tutte le provviste necessarie sia per i finimenti dei cavalli sia per il loro nutrimento quando aladino ebbe esaminato tutto il palazzo di appartamento in appartamento e di stanza in stanza da cima a fondo e particolarmente il salone delle ventiquattro finestre e dopo avervi ammirato delle ricchezze e una magnificenza unite a ogni tipo di comodità ben oltre quanto si era ripromesso disse al genio genio non si può essere più contenti di quanto lo sono io e avrei torto a lamentarmi resta solo una cosa che non ti avevo detto perché non ci avevo pensato devi stendere cioè dalla porta del palazzo del sultano fino alla porta dell'appartamento destinato alla principessa di questo palazzo un tappeto del più bel velluto affinché lei vi cammini sopra venendo dal palazzo del sultano torno in un attimo disse il genio ed era appena sparito quando poco dopo aladino fu stupito vedendo il suo ordine eseguito senza sapere come ciò fosse avvenuto il genio riapparve e riportò aladino a casa sua nel momento in cui la porta del palazzo del sultano stava per essere aperta i portinai del palazzo che avevano aperto la porta e che fino a quel momento avevano sempre visto uno spazio libero dove ora sorgeva il palazzo di aladino furono molto stupiti vedendolo limitato e notando un tappeto di velluto che venendo da quella parte arrivava fino alla porta del palazzo del sultano in un primo momento non distinsero bene che cosa fosse ma la loro meraviglia aumentò quando ebbero visto distintamente lo splendido palazzo di aladino la notizia di una meraviglia così stupefacente si diffuse in pochissimo tempo in tutto il palazzo il gran visir che era arrivato quasi all'apertura della porta del palazzo non era stato meno stupito degli altri da questa novità la comunicò al sultano per primo cercando di convincerlo che si trattava di un incantesimo visir rispose il sultano perché volete che sia un incantesimo sapete bene come me che si tratta del palazzo fatto costruire da aladino con il permesso che gli ho accordato in presenza vostra per la principessa mia figlia dopo le prove che ci ha dato delle sue ricchezze può sembrarci strano che gli abbia fatto costruire questo palazzo in così poco tempo egli ha voluto sballordirsi e farci vedere che con il denaro contante si possono fare miracoli simili da un giorno all'altro confessatemi che l'incantesimo di cui avete voluto parlare deriva da un po' di gelosia l'ora di entrare al consiglio gli impedì di continuare più a lungo questo discorso aladino dopo essere stato trasportato a casa sua e aver congedato lì il genio trovò sua madre già alzata sul punto di indossare uno degli abiti che gli aveva fatto portare all'incirca all'ora in cui il sultano stava uscendo dal consiglio aladino disse alla madre di andare a palazzo con le stesse schiave procuratele dal genio la pregò se vedeva il sultano di dichiarargli che andava da lui per avere l'onore di accompagnare verso sera la principessa quando fosse stata pronta per passare nel suo palazzo la madre partì ma sebbene lei e le schiave che la seguivano fossero vestite come sultane tuttavia non si riunì una gran folla al loro passaggio tanto più che erano velate e un discreto mantello ricopriva la ricchezza e la magnificenza dei loro abiti intanto aladino salì a cavallo e dopo essere uscito dalla casa paterna per non tornarvi mai più senza aver dimenticato la lampada meravigliosa il cui aiuto gli era stato così utile per giungere al culmine della sua fortuna andò pubblicamente al suo palazzo con lo stesso sfarzo con il quale si era presentato al sultano il giorno prima appena i portinai del palazzo del sultano videro la madre di aladino avvertirono il sultano subito fu dato l'ordine ai suonatori di trombe di timpani di tamburi di pifferi e di oboi che erano già pronti in vari punti delle terrazze del palazzo e in un momento l'aria risuonò di fanfare e di concerti che comunicarono la gioia a tutta la città i mercanti incominciarono ad adornare le loro botteghe con bei tappeti cuscini e fogliame e a preparare le luminarie per la notte gli artigiani lasciarono il loro lavoro e il popolo andò allora tra il palazzo del sultano e quello di aladino quest'ultimo attirò subito la loro attenzione non tanto perché erano abituati a vedere solo il palazzo del sultano quanto perché questo non poteva garezzare con quello di aladino ma quello che li stupì più di tutto fu di non riuscire a capire per quale meraviglia inaudita essi vedevano un così magnifico palazzo in un posto dove il giorno prima non c'erano né materiali né fondamenta preparati la madre di aladino fu ricevuta con onore nel palazzo e introdotta nell'appartamento della principessa madrù budura dal capo degli eunuchi appena la principessa la vide andò ad abbracciarla e la fece sedere sul divano e mentre le sue ancelle finivano di vestirla e di adornarla con i più preziosi gioielli donati da aladino lei le offrì una magnifica merenda il sultano che veniva per restare il più possibile vicino alla principessa sua figlia prima che si separasse da lui per passare nel palazzo di aladino fece anche a lei grandi onori la madre di aladino aveva parlato parecchie volte al sultano in pubblico ma egli non l'aveva mai vista senza velo come era in quel momento sebbene fosse già in età un po' avanzata si notavano ancora sul suo viso dei segni che facevano facilmente capire che in gioventù era stata nel numero delle belle il sultano che l'aveva sempre vista vestita molto semplicemente per non dire poveramente era ammirato vedendola vestita con la stessa ricchezza e la stessa magnificenza della principessa sua figlia questo lo indusse a riflettere sul fatto che aladino era ugualmente saggio prudente e intelligente in ogni cosa quando arrivò la notte la principessa prese congedo dal sultano suo padre i loro addi furono teneri e mescolati alle lacrime i due si abbracciarono parecchie volte senza dirsi niente e infine la principessa uscì dal suo appartamento e si incamminò con la madre di aladino alla sua sinistra seguita da cento schiave vestite con grandissima magnificenza tutti i gruppi di suonatori che non avevano smesso di farsi sentire dall'arrivo della madre di aladino si erano riuniti e precedevano il corteo essi erano seguiti da cento shau ed altre tanti eunuchi negri disposti in due file con gli ufficiali alla loro testa quattrocento giovani paggi del sultano in due ali che marciavano ai lati ognuno con una fiaccola in mano facevano una luce che aggiunta alle illuminazioni del palazzo del sultano e di quello di aladino suppliva ammirevolmente alla mancanza della luce del giorno in quest'ordine la principessa procedette sul tappeto disteso dal palazzo del sultano fino al palazzo di aladino e via via che avanzava gli strumenti che aprivano il corteo avvicinandosi e mescolandosi a quelli che si facevano sentire dall'alto delle terrazze del palazzo di aladino formarono un concerto che per straordinario e confuso che sembrasse accresceva ugualmente la gioia non solo nella piazza piena di una gran folla ma anche nei due palazzi in tutta la città e ben lontano nei dintorni la principessa arrivò al nuovo palazzo e aladino corse con tutta la gioia immaginabile alla porta dell'appartamento che era destinato per riceverla la madre di aladino aveva avuto cura di far notare il suo figlio alla principessa in mezzo agli ufficiali che lo circondavano e la principessa vedendolo lo giudicò così ben fatto che ne fu incantata adorabile principessa vedisse aladino avvicinandosi e salutandola molto rispettosamente se avessi la disgrazia di esservi dispiaciuto con la mia temerarietà di aspirare al possesso di una così amabile principessa oso dirvi che dovreste rimproverare i vostri begli occhi e le vostre grazie e non me principe poiché ora sono in diritto di chiamarvi così gli rispose la principessa ubbidisco alla volontà del sultano mio padre e mi basta avervi visto per dirvi che gli ubbidisco senza riluttanza aladino felice per una risposta così favorevole e soddisfacente per lui non lasciò più a lungo la principessa in piedi dopo il cammino che aveva fatto e al quale non era per niente abituata le prese la mano la baciò con una grande dimostrazione di gioia e la guidò in una grande sala illuminata da un'infinità di candele dove per le cure del genio la tavola si trovò apparecchiata per un sontuoso banchetto i piatti erano di oro massiccio e pieni dei cibi più deliziosi i vasi i vassoi i bicchieri di cui la credenza era ben fornita erano anch'essi d'oro e di mirabile fattura gli altri ornamenti e tutte le decorazioni della sala corrispondevano perfettamente a questa grande ricchezza la principessa incantata di vedere tante magnificenze riunite in uno stesso luogo disse ad aladino principe io credevo che niente al mondo fosse più bello del palazzo del sultano mio padre ma soltanto vedendo questa sala mi accorgo che mi ero ingannata principessa rispose aladino facendola sedere a tavola al posto che le era destinato ricevo come devo un così grande complimento ma so che cosa devo credere la principessa badrulbudura aladino e sua madre si misero a tavola e subito la musica dei più armoniosi strumenti accompagnati da bellissime voci di donna che appartenevano a fanciulle tutte di grande bellezza diedero inizio a un concerto che durò senza interruzione fino alla fine del pasto la principessa ne fu così conquistata che disse di non aver mai sentito niente di simile nel palazzo del sultano suo padre ma non sapeva che queste musiciste erano state scelte dal genio schiavo della lampada quando ebbero finito di cenare la tavola fu sparecchiata in fretta e un gruppo di danzatori e danzatrici subentrò alle musicanti ballavano parecchi tipi di danze figurate secondo il costume del paese e alla fine un danzatore e una danzatrice ballarono da soli con sorprendente lezzadria dimostrando ognuno tutta la delicata grazia e l'abilità di cui erano capaci era quasi mezzanotte quando secondo il costume di allora in cina aladino si alzò e offrì la mano alla principessa badrul budura per danzare insieme e mettere così termine alle cerimonie delle loro nozze danzarono con tanta grazia da suscitare l'ammirazione di tutti i presenti quando ebbero finito aladino non lasciò la mano della principessa e passarono insieme nell'appartamento dove era preparato il letto anuziale le ancelle della principessa la aiutarono a spogliarsi e a mettersi a letto e i valletti di aladino fecero lo stesso con lui poi si ritirarono tutti così terminarono le cerimonie e i festeggiamenti delle nozze di aladino con la principessa badrul budura il giorno dopo quando aladino fu sveglio i suoi valletti di camera si presentarono per vestirlo gli fecero indossare un abito diverso da quello del giorno delle nozze ma ugualmente ricco e magnifico poi egli si fece portare uno dei cavalli destinati al suo uso personale rimontò e andò al palazzo del sultano in mezzo ad una folta schiera di schiavi che camminavano davanti ai lati e dietro di lui il sultano lo ricevette con gli stessi onori della prima volta lo abbracciò e dopo averlo fatto sedere accanto a sé sul suo trono ordinò di servire la colazione sire gli disse aladino supplico vostra maestà di dispensarmi oggi da questo privilegio vengo a pregarvi di farmi l'onore di venire a pranzo nel palazzo della principessa insieme col gran visire e con i signori della corte il sultano gli accordò con piacere la grazia si alzò subito e poiché il percorso non era lungo volle andare a piedi perciò uscì con aladino alla sua destra e gran visire alla sua sinistra seguito dai suoi dignitari e preceduto dagli sciau e dai dignitari della casa quanto più il sultano si avvicinava al palazzo di aladino tanto più era colpito dalla sua bellezza poi una volta entrato non seppe più trattenersi le sue entusiastiche lodi si ripetevano in ogni stanza che vedeva ma quando arrivarono nel salone delle ventiquattro finestre dove aladino l'aveva invitato a salire quando ne ebbe visto gli ornamenti e soprattutto quando rivolto lo sguardo alle persiane arricchite da diamanti rubini e smeraldi tutte pietre perfette per la loro grandezza proporzionata e quando aladino gli ebbe fatto notare che esse erano ugualmente ricche anche all'esterno ne fu talmente stupito che restò come impietrito dopo essere rimasto per un po' in questo stato visir disse al ministro che era vicino a lui è possibile che nel mio regno e così vicino al mio palazzo ci sia un palazzo così splendido e che io l'abbia ignorato fino a questo momento vi ricordate maestà rispose il gran visir di aver accordato l'altro ieri ad Aradino che avevate appena conosciuto come genero il permesso di costruire un palazzo di fronte al vostro lo stesso giorno al tramonto non c'era ancora nessun palazzo in questo posto e ieri ebbi l'onore di annunciarvi per primo che il palazzo era fatto e terminato me ne ricordo disse il sultano ma non avrei mai immaginato che questo palazzo fosse una delle meraviglie del mondo dove si possono trovare in tutto l'universo palazzi costruiti con mattoni d'oro ed argento massizzi invece di mattoni di pietra o di marmo le cui finestre abbiano delle persiane cosparse di diamanti rubini e smeraldi mai al mondo è stata fatta menzione di niente di simile il sultano volle vedere e ammirare la bellezza delle ventiquattro persiane contandole si accorse che soltanto ventitré erano della stessa ricchezza e fu molto stupito vedendo che la ventiquattresima era rimasta incompiuta visir disse infatti visir si faceva un impegno di non abbandonarlo un minuto mi stupisce che un salone di questa magnificenza sia rimasto incompiuto in questo punto sire rispose il visir evidentemente Aladino aveva fretta e gli è mancato il tempo per rendere questa finestra simile alle altre ma dobbiamo immaginare che egli abbia le pietre necessarie e che la farà completare al più presto Aladino che aveva lasciato il sultano per dare alcuni ordini lo raggiunse in quel momento figlio mio gli disse il sultano questo è il salone più degno di ammirazione di tutti quelli che esistano al mondo una sola cosa mi stupisce vedere che questa persiana è rimasta incompiuta è per dimenticanza aggiunse per negligenza o perché gli operai non hanno avuto il tempo di dare l'ultima mano a un così bel pezzo di architettura sire risponde Aladino per nessuna di queste ragioni la persiana è rimasta nello stato in cui vostra maestà la vede la cosa è stata fatta di proposito e gli operai non l'hanno completata per mio ordine volevo che vostra maestà avesse la gloria di far terminare questo salone e il palazzo contemporaneamente vi supplico di voler gradire la mia buona intenzione affinché io possa ricordarmi del favore e della grazia che avrò ricevuto da voi se l'avete fatto con questa intenzione riprese il sultano ve ne sono molto grato in questo stesso momento vado a dare gli ordini necessari infatti ordinò di far venire i gioiellieri più forniti di pietre preziose e gli olafi più abidi della sua capitale intanto il sultano lasciò il salone e Aladino lo portò in quello dove il giorno delle nozze aveva offerto il banchetto alla principessa Badrul Budura la principessa arrivò un momento dopo ricevette il sultano suo padre con un'aria che gli fece capire quanto lei fosse contenta del suo matrimonio due tavole erano imbandite con i cibi più delicati tutti serviti in vasellame d'oro il sultano sedette alla prima e mangiò con la principessa sua figlia Aladino e Gran Vizir tutti i signori della corte furono serviti alla seconda tavola che era molto lunga il sultano trovò i cibi di suo gusto e confessò di non aver mai mangiato niente di più squisito disse la stessa cosa del vino che in effetti era delizioso più di ogni cosa ammirò quattro grandi credenze fornite e cariche a profusioni di bottiglie vassoie e coppe d'oro massiccio il tutto ornato di pietre preziose fu anche deliziato dai cori di musica che erano disposti nel salone mentre le fanfare delle trombe accompagnate da timpani e da tamburi risuonavano all'esterno alla giusta distanza perché se ne gustasse tutto il piacere il sultano si era appena alzato da tavola quando lo avvisarono che i gioiellieri e gli orafi chiamati per suo ordine erano arrivati egli risalì nel salone delle ventiquattro finestre e arrivatovi fece vedere ai gioiellieri e agli orafi che l'avevano seguito la finestra incompiuta e disse vi ho fatto venire affinché completiate questa finestra e la rendiate perfetta come le altre esaminatele e non perdete tempo a rendere questa del tutto simile alle altre i gioiellieri e gli orafi esaminarono con grande attenzione le altre ventitré ma dopo essersi consultati tra di loro e avere stabilito in che modo ognuno potesse contribuire a quest'opera tornarono a presentarsi al sultano e il gioielliere personale del palazzo gli disse sire siamo pronti a impiegare le nostre cure e la nostra arte per ubbidire a vostra maestà ma tutti noi nella nostra professione non abbiamo pietre altrettanto preziose e tanto numerose da bastare per un così importante lavoro io ne ho disse il sultano e più di quante ne servano venite al mio palazzo vi faciliterò il compito e voi sceglierete quando il sultano fu di ritorno al suo palazzo fece portare tutte le pietre preziose e i gioiellieri ne presero una grandissima quantità particolarmente fra quelle che facevano parte del dono di aladino le utilizzarono senza dimostrare di aver molto progledito nel loro lavoro tornarono a prenderne altre a più riprese e in un mese non avevano finito neanche la metà dell'opera impiegarono tutte le pietre del sultano insieme con quelle che gli prestò il visir e con tutto ciò quello che riuscirono a fare fu al massimo di completare mezza finestra aladino che seppe che il sultano si sforzava inutilmente di rendere la persiana simile alle altre e che non avrebbe mai avuto successo fece venire gli orafi e disse loro non soltanto di interrompere il lavoro ma anche di disfare tutto quello che avevano fatto e di riportare al sultano tutte le sue pietre insieme con quelle prestategli dal visir l'opera alla quale i gioiellieri e gli orafi avevano lavorato più di sei settimane fu distrutta in poche ore essi si ritirarono e lasciarono aladino solo nel salone e gli prese la lampada che portava addosso e la strofinò subito si presentò il genio genio gli disse aladino io ti avevo ordinato di lasciare incompiuta una delle ventiquattro finestre di questo salone e tu avevi eseguito il mio ordine ora ti ho fatto venire per dirti che voglio che tu la renda simile alle altre il genio sparì e aladino lasciò il salone quando pochi minuti dopo vi ritornò trovò la persiana nello stato che aveva desiderato e uguale alle altre intanto i gioiellieri e gli orafi arrivarono a palazzo e furono introdotti e presentati al sultano nel suo appartamento il primo gioielliere restituendogli le pietre disse al sultano a nome di tutti Sire vostra maestà sa da quanto tempo lavoriamo con tutta la nostra solerzia per finire il lavoro che ci ha affidato era già a buon punto quando aladino ci ha costretti non solo a interrompere il lavoro ma anche a disfare tutto quello che avevamo fatto e a riportarvi queste pietre e quelle del gran visir il sultano chiese se aladino non avesse detto loro la ragione e non appena essi gli abbiano precisato che lui non ne aveva data nessuna il sultano ordinò subito che gli portassero un cavallo glielo portano ci sale su e parte senza altro seguito tranne il domestico che lo accompagna a piedi arriva al palazzo di aladino e scende a terra ai piedi della scala che conduceva al salone delle ventiquattro finestre sale senza fare avvertire aladino ma aladino fortunatamente vi si trovava ed ebbe appena il tempo di ricevere il sultano sulla porta il sultano senza dare ad aladino il tempo di addurre qualche cortese rimostranza per non averlo fatto avvertire del suo arrivo costringendolo perciò a venire meno al suo dovere gli disse figlio mio vengo a chiedervi di persone per quale ragione avete voluto lasciare in compiuto un salone così magnifico e così singolare come quello del vostro palazzo aladino nascose la vera ragione quella cioè che il sultano non possedesse abbastanza pietre preziose per una spesa così forte ma per fargli capire quanto il palazzo così come era superava non solo quello del sultano ma anche ogni altro palazzo del mondo poiché egli non era riuscito a finirlo nella più piccola delle sue parti gli rispose sire è vero che vostra maestà ha visto questo salone incompiuto ma vi supplico di vedere se ora manca qualcosa il sultano andò spedito alla finestra di cui aveva visto la persiana incompiuta e quando ebbe notato che era uguale alle altre pensò di essersi ingannato esaminò non solo le due finestre che erano ai lati le guardò persino tutte una dopo l'altra e quando fu convinto che la persiana intorno alla quale aveva fatto lavorare per tanto tempo e che era costata tante giornate di manodopera era stata finita in così breve tempo come gli era noto abbracciò Aladino e lo baciò in fronte fra gli occhi figlio mio gli disse pieno di stupore che uomo siete voi che fate cose tanto stupefacenti e quasi in un batter d'occhio voi non avete simili al mondo e più vi conosco più vi giudico straordinario Aladino accolse le lodi del sultano con grande modestia e gli rispose in questi termini sì re è una grande gloria per me meritare la benevolenza e l'approvazione di vostra maestà posso assicurarvi in ogni caso che non tralascerò niente per meritarle entrambe sempre di più il sultano tornò al suo palazzo nel modo in cui era venuto senza permettere ad Aladino di accompagnarlo arrivando trovò il gran vizir che lo aspettava il sultano ancora in preda all'ammirazione per la meraviglia alla quale aveva assistito gliene fece il racconto in termini tali da non far dubitare al ministro che la cosa fosse veramente come il sultano gliela raccontava ma questo fatto confermò l'opinione del visir che il palazzo di Aladino fosse l'effetto di un incantesimo opinione che aveva comunicato al sultano quasi nello stesso momento in cui il palazzo era apparso voglio ripetergliela ancora visir gli disse il sultano interrompendolo ne avete già detto la stessa cosa ma vedo bene che non avete ancora dimenticato il matrimonio di mia figlia con vostro figlio il gran visir capì che il sultano era prevenuto non volle discutere con lui e lo lasciò nella sua opinione tutti i giorni regolarmente appena il sultano si alzava non mancava mai di andare in uno stanzino da dove si vedeva tutto il palazzo di Aladino e vi ritornava parecchie volte durante la giornata per contemplarlo ed ammirarlo Aladino non rimaneva chiuso nel suo palazzo aveva cura di farsi vedere in città più di una volta alla settimana sia che andasse a recitare la sua preghiera in una moschea o nell'altra sia che di tanto in tanto andasse a visitare il gran visir che andava con ostentazione a presentargli i suoi omaggi nei giorni stabiliti o che rendesse ai notabili che invitava spesso a pranzo nel suo palazzo l'onore di andarli a trovare a casa loro ogni volta che usciva faceva lanciare da due degli schiavi che camminavano in gruppo intorno al suo cavallo manciate di monete d'oro nelle vie e nelle piazze per le quali passava e dove il popolo andava sempre numeroso d'altronde non c'era povero che si presentasse alla porta del suo palazzo che non se ne tornasse contento della liberalità fatta per suo ordine poiché Ladino aveva diviso il suo tempo in modo che non c'era settimana in cui non andasse almeno una volta a caccia ora nei dintorni della città ora più lontano egli esercitava la stessa liberalità nelle strade di campagna e nei villaggi questa generosa tendenza fece sì che tutto il popolo gli mandasse mille benedizioni e avesse una cieca fiducia in lui insomma senza dare nessuna ombra al sultano al quale dimostrava molto regolarmente la devozione si può dire che Ladino si fosse attirato con le sue maniere affabili e liberali tutto l'affetto del popolo e che in genere fosse più amato dello stesso sultano che gli aggiunse a tutte queste belle qualità un valore e uno zelo per il bene dello stato che non si potrebbero lodare a sufficienza ne diede anche segni in occasione di una rivolta scoppiata verso i confini del regno appena seppe che il sultano arruolava un esercito per soffocarla lo supplicò di affidargli nel comando non fatico molto a ottenerlo appena fu alla testa dell'esercito lo fece marciare contro i rivoltosi e in tutta questa spedizione si comportò con tanto zelo che il sultano seppe che i rivoltosi erano stati sconfitti puniti o dispersi prima di aver raggiunto l'esercito questa azione che rese il suo nome celebre per tutto il regno non cambiò affatto il suo cuore tornò vittorioso ma affabile come era sempre stato già da molti anni Aradino si comportava come abbiamo detto quando il mago che gli aveva dato senza pensarci il mezzo di elevarsi a una così alta fortuna si ricordò di lui in Africa dove era tornato anche se fino a quel momento era stato convinto che Aradino era miseramente morto nel sotterraneo dove l'aveva lasciato gli venne tuttavia in mente di scoprire precisamente quale fosse stata la sua fine poiché era un abile geomante tirò fuori da un armadio una quadrella a forma di scatola chiusa della quale si serviva per fare le sue osservazioni di geomanzia si siede sul divano si mette la quadrella davanti la apre e dopo aver preparato e livellato la sabbia con l'intenzione di sapere se Aradino fosse morto nel sotterraneo stabilisce i punti da cui tracciare le figure e ne ottiene l'oroscopo esaminando l'oroscopo per conoscere il risultato invece di scoprire che Aradino era morto nel sotterraneo scopre che ne era uscito e viveva in un grande splendore immensamente ricco marito di una principessa onorato e rispettato il mago africano appena ebbe saputo grazie alle formule magiche della sua arte diabolica che Aradino aveva raggiunto una condizione così elevato provò un'ira feroce per la rabbia disse tra sé quel miserabile figlio di Sarto ha scoperto il segreto e la virtù della lampada avevo creduto la sua morte sicura ed ecco invece che gode il frutto delle mie fatiche e delle mie veglie impedirò di goderne ancora o morirò non persa molto tempo a decidere che cosa fare la mattina dopo salì in sella un cavallo berbero che aveva in scuderia e si mise in viaggio di città in città di provincia in provincia fermandosi solo lo stretto necessario per non stancare troppo il suo cavallo arrivò in Cina e ben presto nella capitale del sultano di cui Aladino aveva sposato la figlia scese in un can o pubblico albergo dove prese in affitto una camera vi rimase il resto del giorno e la notte seguente per rimettersi dalla fatica del viaggio il giorno dopo prima di ogni cosa il mago africano volle sapere che cosa si diceva di Aladino andando in giro per la città entrò nel luogo più famoso e più frequentato dalle persone di grande distinzione dove si riuniva per bere una certa bevanda calda che egli aveva gustato durante il suo primo viaggio non aveva ancora preso posto che gli versarono una tazza di questa bevanda e gliela porsero prendendola poiché ascoltava a destra e a sinistra sentì che stavano parlando del palazzo di Aladino quando ebbe finito di bere si avvicinò a uno di quelli che ne parlavano e cogliendo il momento opportuno gli chiese a voce bassa che mai fosse quel palazzo del quale si parlava con tanta ammirazione ma da dove venite gli chiese quello al quale si era rivolto dovete essere proprio un nuovo venuto se non avete visto il palazzo del principe Aladino o piuttosto se non ne avete ancora sentito parlare da quando Aladino aveva sposato la principessa Badrul Budura era chiamato soltanto con quell'appellativo non vi dico continuò l'uomo che è una delle meraviglie del mondo vi dico che è l'unica meraviglia che esista al mondo non si è mai visto niente di così grande di così ricco e di così magnifico dovete venire da ben lontano se non ne avete ancora sentito parlare infatti da quando è stato costruito se ne deve parlare in tutto il mondo andatelo a vedere e giudicherete se io vi ho letto la verità perdonate la mia ignoranza riprese il mago africano sono arrivato solo ieri ed effettivamente vengo da così lontano voglio dire dall'estremità dell'Africa che la sua fama non era ancora arrivata fino a là quando ne sono partito e poiché per l'affare urgente che mi porta qui durante il mio viaggio ad altro non ho pensato se non ad arrivare al più presto senza fermarmi e senza fare nessuna conoscenza non ne sapevo niente finché voi non me ne avete parlato ma non mancherò di andare a vederlo l'impazienza che ne provo è tanto grande che voglio soddisfare subito la mia curiosità se volete farmi la grazia di indicarmi la strada quello al quale si era rivolto il mago africano fu contento di insegnargli la strada per la quale bisognava passare per arrivare al palazzo di Aladino e il mago africano si alzò e uscì immediatamente quando fu arrivato ed ebbe esaminato il palazzo da vicino e da tutti i lati non ebbe più dubbi che Aladino si fosse servito della lampada per farlo costruire senza volersi soffermare sulla pochezza di Aladino figlio di un semplice sarto egli sapeva bene che simili meraviglie potevano farle solo dei geni schiavi della lampada di cui non era potuto entrare in possesso punto sul vivo dalla fortuna e dalla potenza di Aladino che egli metteva quasi sullo stesso piano di quella del sultano ritornò al camp dove aveva preso alloggio si trattava di sapere dove fosse la lampada se Aladino la portasse con sé o in che posto la custodisse questo il mago doveva scoprirlo con un'operazione di geomazia appena arrivato al suo alloggio prese la sua quadrella e la sabbia che portava con sé in tutti i viaggi finita l'operazione seppe che la lampada era nel palazzo di Aladino e fu così felice di questa scoperta che a malapena si sentiva in sé l'avrò questa lampada disse e sfido Aladino a impedirmi di portargli la via e di farlo ricadere nella bassa condizione da dove ha preso un volo così alto Aladino per sua disgrazia in quel frattempo era andato a caccia per otto giorni ed era partito soltanto da tre ed ecco il modo in cui il mago africano ne fu informato dopo aver fatto l'operazione che gli procurò tanta gioia andò dal portineio del can col pretesto di chiacchierare un po' con lui e aveva un pretesto così naturale che non era necessario ricorrere a giri di parole gli disse che tornava dall'aver visto il palazzo di Aladino e dopo avergli decantato tutto quello che aveva notato di più stupefacente e che più lo aveva colpito e che in genere colpiva tutti aggiunse la mia curiosità mi spinge più lontano e non sarò soddisfatto finché non avrò visto il padrone di un edificio così meraviglioso non vi sarà difficile vederlo rispose il portinaio quasi ogni giorno egli ne offre l'occasione quando si trova in città ma da tre giorni è partito per una grande caccia che ne deve durare otto il mago africano non volle sapere altro si congetò dal portinaio e andando via disse tra sé questo è il momento di agire non devo lasciarmelo scappare andò nella bottega di uno che fabbricava e vendeva lampade maestro gli disse ho bisogno di una dozzina di lampade di rame potete fornirmele l'artigiano gli disse di non averle tutte ma che se voleva aver pazienza fino al giorno dopo gliele avrebbe fornite tutte per l'ora desiderata il mago accettò gli raccomandò che fossero pulite e ben lucidate e dopo avergli promesso di pagarlo bene ritornò al suo can il giorno dopo le dodici lampade furono consegnate al mago africano che le pagò al prezzo richiesto senza chiedere sconti le mise in un paniere che aveva portato espressamente con sé e col paniere infilato nel braccio andò verso il palazzo di Aladino e avvicinandosi si mise a gridare chi vuol cambiare vecchie lampade con nuove via via che avanzava i bambini che giocavano nella piazza appena lo sentirono da lontano cursero e si riunirono intorno a lui schiamazzando e scambiandolo per un pazzo anche i passanti ridevano di quella che credevano la sua stoltezza deve proprio aver perso il senno dicevano per offrire lampade nuove in cambio di vecchie il mago africano non si stupì né degli schiamazzi dei bambini né di tutto quello che si poteva dire di lui e per snerciare la sua roba continuò a gridare chi vuol cambiare vecchie lampade con nuove ripetì così spesso la stessa cosa andando e venendo nella piazza davanti e intorno al palazzo che la principessa Badrul Budura che in quel momento era nel salone delle ventiquattro finestre sentì la voce di un uomo ma non potendo distinguere le sue parole a causa degli schiamazzi dei bambini che lo seguivano e che diventavano sempre più numerosi mandò una delle sue schiave che la era più vicina per vedere che cosa fosse quello schiamazzo la schiava non tardò molto a risalire entrò nel salone ridendo sonoramente rideva così schiettamente che la principessa non poteva evitare di ridere anche lei guardandola ebbene pazza disse la principessa vuoi dirmi perché ridi principessa rispose la schiava continuando a ridere chi potrebbe trattenersi da ridere vedendo un folle con un paniere infilato nel braccio pieno di belle lampade nuovissime che non chiede di venderle ma di cambiarle con delle vecchie i bambini lo circondano così numerosi che a fatica egli riesce a camminare sono loro a fare tutto il chiasso che sentiamo burlandosi di lui a questo racconto un'altra schiava intervenne per dire a proposito di vecchie lampade non so se la principessa abbia notato che ce n'è una qui sulla cornice colui a cui essa appartiene non sarà scontento di trovarne una nuova al posto di questa vecchia se la principessa vuole può provare il piacere di rendersi conto se questo pazzo è veramente così pazzo da dare una lampada nuova in cambio di una vecchia senza chiedere altro la lampada di cui parlava la schiava era la lampada meravigliosa di cui si era servito Aladino per innalzarsi alla grandezza alla quale era giunto l'aveva messa proprio lui sulla cornice prima di partire per la caccia temendo di perderla e aveva preso la stessa precauzione tutte le altre volte che vi era andato ma nelle schiave negli eunuchi nella stessa principessa vi avevano mai fatto caso fino ad allora durante la sua assenza infatti eccetto che nei periodi di caccia la portava sempre su di sé si potrà dire che la precauzione di Aladino era saggia ma che almeno avrebbe dovuto richiudere la lampada è vero ma errori simili si sono commessi in tutti i tempi se ne fanno ancora oggi e non si smetterà mai di farne la principessa Badrul Budura ignorando che la lampada fosse così preziosa e che Aladino pur senza averne mai parlato avesse un grandissimo interesse che non fosse mai toccata e che fosse conservata stette allo scherzo e ordinò a un eunuco di prenderla e di andare a fare il cambio l'eunuco obbidì sese dal salone e appena uscito dalla porta del palazzo vide il mago africano lo chiamò e quando gli si fu avvicinato mostrandogli la lampada gli disse dammi una lampada nuova al posto di questa il mago africano fu certo che si trattava della lampada che egli cercava non potevano essercene altre nel palazzo di Aladino dove tutto il vasellame era solo d'oro o d'argento la prese subito dalla mano dell'eunuco e dopo essersela cacciata bene in fondo al petto gli presentò il cesto e gli disse di scegliere quella che gli piaceva l'eunuco scelse e dopo aver lasciato il mago portò la lampada nuova dalla principessa Badrul Budura ma non appena avvenuto lo scambio i ragazzi fecero rintronare la piazza del più grande schiamazzo che non avessero ancora fatto burlandosi di quella che essi credevano la stoltezza del mago il mago africano si lasciò strillare a volontà ma senza restare ancora nelle vicinanze del palazzo di Aladino se ne allontanò notevolmente e senza chiasso cioè senza gridare e senza parlare ulteriormente di cambiare lampade nuove con vecchie non ne volle altre se non quella ottenuta e il suo silenzio fece in modo che i ragazzi si allontanassero e lo lasciassero andare non appena fuori della piazza che divideva i due palazzi se la svignò lungo le strade meno frequentate e poiché non aveva più bisogno delle altre lampade né del cesto posò cesto e lampade in mezzo a una strada in cui vide che non c'era nessuno allora dopo aver imboccato un'altra strada allungò il passo finché raggiunse una porta della città continuando a camminare nei soborghi che non erano molto estesi prima di uscire fece delle provviste quando ebbe raggiunta la campagna abbandonò la strada per un luogo appartato fuori di vista dove restò fino al momento che ritenne opportuno per portare a compimento il disegno che l'aveva guidato lì non rimpianse il cavallo berbero che aveva lasciato nel can dove aveva preso alloggio si considerò ben ricompensato dal tesoro che aveva appena conquistato il mago africano passò il resto della giornata in quel posto fino a un'ora della notte in cui le tenebre furono fitte allora tirò fuori la lampada dal seno e la strofinò a questo richiamo comparva il genio che vuoi richiese sono pronto a obbedirti come tuo schiavo e schiavo di tutti quelli che hanno la lampada in mano io e gli altri schiavi della lampada ti ordino rispose il mago africano di portare via immediatamente il palazzo che tu o gli altri schiavi della lampada avete costruito in questa città così com'è con tutte le persone che ci sono dentro e di trasportarlo insieme con me nel tal punto dell'Africa senza risponderci il genio con l'aiuto di altri geni schiavi della lampada come lui trasportò in pochissimo tempo lui e l'intero palazzo nel posto esatto dell'Africa che gli era stato indicato lascieremo il mago africano e il palazzo con la principessa Badrul Budura in Africa per parlare dello sbalordimento del sultano appena il sultano si fu alzato non mancò come al solito di andare nello stanzino aperto per avere il piacere di contemplare e ammirare il palazzo di Aladino rivolse lo sguardo verso il punto in cui aveva l'abitudine di vedere il palazzo e vide solo un'area vuota così come era prima che il palazzo fosse costruito pensò di ingannarsi e si strofinò gli occhi ma non vide niente di più della prima volta anche se il tempo era sereno il cielo limpido e l'aurora che cominciava a spuntare rendesse tutti gli oggetti molto distinti guardò attraverso le due aperture a destra e a sinistra e vide quello che era al solito vedere dai due lati il suo stupore fu così grande che restò a lungo nello stesso posto con gli occhi rivolti verso il punto in cui era stato il palazzo e dove non lo vedeva più cercando quello che non poteva comprendere cioè com'era possibile che un palazzo così grande e così appariscente come quello di Aladino che egli aveva visto quasi ogni giorno da quando era stato costruito con il suo permesso e anche molto di recente il giorno prima fosse sparito in modo tale che non ne restava la minima traccia non mi inganno diceva tra sé era proprio in questa piazza se fosse crollato vi sarebbero mucchi di macerie e se la terra l'avesse inghiottito se ne vedrebbe qualche segno in qualunque modo ciò fosse avvenuto e sebbene convinto che il palazzo non ci fosse più tuttavia aspettò lo stesso ancora un po' di tempo per vedere se veramente non si sbagliava infine si ritirò e dopo essersi guardato ancora indietro prima di allontanarsi ritornò nel suo appartamento ordinò di fargli venire il gran visir in tutta fretta e intanto si sedette con l'animo turbato da pensieri tanto diversi da non sapere quale decisione prendere il gran visir non fece aspettare il sultano venne anzi con tanta precipitazione che né lui né i suoi uomini notarono passando che il palazzo dell'Adino non era più al suo posto anche i portinai avrendo la porta del palazzo non se ne erano accorti avvicinandosi al sultano il gran visir gli disse sire la sollecitudine con la quale vostra maestà mi ha fatto chiamare mi fa pensare che debba essere successo qualcosa di ben straordinario poiché voi non ignorate che oggi è il giorno di consiglio e che tra poco sarei dovuto venire a svolgere il mio dovere ciò che è successo è veramente straordinario come tu dici me ne converrai con me dimmi dov'è il palazzo di Aladino il palazzo di Aladino sire rispose il gran visir con stupore ci sono appena passato davanti e mi è sembrato che fosse al suo posto edifici solidi come quello non cambiano posto tanto facilmente va a vedere nello stanzino rispose il sultano e poi vieni a dirmi se l'hai visto il gran visir andò nello stanzino aperto e gli capitò la stessa cosa che abitata al sultano quando si fu ben assicurato che il palazzo di Aladino non era più dove era stato fino ad allora e che non ce n'era la minima trazza ritornò a presentarsi al sultano ebbene hai visto il palazzo di Aladino gli chiese il sultano sire rispose il gran visir vostra maestà può ricordarsi che ho avuto l'onore di dirle che quel palazzo che era oggetto della vostra ammirazione con le sue immense ricchezze era solo un'opera di magia e di un mago la vostra maestà non ha voluto prestarvi attenzione il sultano non potendo negare quello che il gran visir gli faceva notare fu preso da una collera tanto più violenta in quanto non poteva sconfessare la sua incredulità dov'è disse quell'impostore quello scellerato voglio fargli tagliare la testa sire rispose il gran visir qualche giorno fa è venuto a congedarsi da vostra maestà bisogna mandargli a chiedere dov'è il suo palazzo egli dovrebbe saperlo significherebbe trattarlo con troppa indulgenza replicò il sultano vai a ordinare a trenta dei miei cavalieri di portarmelo incatenato il gran visir andò a dare l'ordine del sultano ai cavalieri e informò il loro ufficiale in che modo dovevano agire affinché egli non sfuggisse loro essi partirono e incontrarono aladino a cinque o sei leghe dalla città che tornava cacciando l'ufficiale gli disse avvicinandogli sì che il sultano impaziente di rivederlo li aveva inviati per manifestarglielo o per accompagnarlo da lui aladino non ebbe il minimo sospetto del vero motivo che aveva condotto lì quel distaccamento della guardia del sultano durante il ritorno continuò a cacciare ma quando fu a una mezza lega dalla città le guardie lo circondarono e l'ufficiale ruppe il silenzio per dirgli principe aladino con grande rammarico vi comunichiamo l'ordine impartitoci dal sultano di arrestarvi e di portarvi da lui come criminale di stato vi supplichiamo di permetterci di eseguire il nostro dovere e di perdonarcelo questa dichiarazione fu motivo di grande stupore per aladino e si sentiva innocente chiese all'ufficiale se sapeva di quale crimine fosse accusato e questi rispose che né lui né i suoi uomini sapevano niente aladino vedendo che i suoi uomini erano molto meno numerosi delle guardie del sultano e che si allontanavano perfino scese da cavallo ecco mi disse eseguite l'ordine che vi è stato dato tuttavia posso dire che non mi sento colpevole di nessun crimine né verso la persona del sultano né verso lo stato subito gli passarono intorno al collo una catena molto grossa e lunga con la quale lo legarono fino a metà corpo in modo che non avesse le braccia libere quando l'ufficiale si fu messo alla testa delle sue truppe un cavaliere prese le estremità della catena e seguendo l'ufficiale trascinò aladino che fu costretto a seguirlo a piedi e in quello stato fu portato verso la città quando i cavalieri furono entrati nei soborghi le prime persone che videro aladino trascinato come criminale di stato furono certe che stavano per tagliargli la gola poiché era amato da tutti alcuni presero le sciabole e altre armi e quelli che non ne avevano si armarono di pietre e seguirono i cavalieri alcuni di questi ultimi che erano in coda fecero dietro front facendo l'atto di volerli disperdere ma presto il popolo diventò così numeroso che i cavalieri presero la decisione di fingere considerandosi molto fortunati se fossero riusciti ad arrivare fino al palazzo del sultano senza che aladino fosse loro sottratto per riuscirvi secondo che le strade fossero più o meno larghe furono molto attenti a occupare tutto lo spazio libero a volte allargandosi a volte restringendosi in questo modo arrivarono alla piazza del palazzo dove si schierarono tutti in un'unica fila di fronte alla plebaglia armata finché il loro ufficiale e il cavaliere che portava aladino non furono entrati nel palazzo e finché i portinai non ebbero chiuso la porta per impedire al popolo di entrare aladino fu portato davanti al sultano che lo aspettava sul balcone accompagnato dal gran visir e che appena lo vide ordinò al boia che aveva avuto l'ordine di trovarsi lì di tagliargli la testa senza vorrerlo ascoltare e senza chiedergli nessuna spiegazione quando il boia ebbe afferrato aladino gli tolse la catena che aveva al collo e intorno al corpo e dopo aver steso a terra un pezzo di cuoio macchiato di sangue di un'infinità di criminali da lui uccisi ve lo fece mettere in ginocchio e gli bendò gli occhi allora sguainò la sciabola prese la misura per fibrare il colpo sedendosi e facendo balenare la sciabola in aria per tre volte e aspettò che il sultano desse il segnale per tagliare la testa ad aladino in quel momento il gran vizir si accorse che la plebaglia che aveva superato i cavalieri aveva riempito la piazza aveva scalato le mura del palazzo in diversi punti e cominciava a demolirle per fare una brezza prima che il sultano desse il segnale gli disse sire supplico vostra maestà di pensare attentamente a quello che sta per fare correreste il rischio di vedere il vostro palazzo forzato e se capita questa sventura l'avvenimento potrebbe essere funesto il mio palazzo forzato rispose il sultano chi può avere questa audacia sire replicò il gran vizir prego vostra maestà di guardare verso le mura del vostro palazzo e verso la piazza verificherete la verità di ciò che vi dico lo spavento del sultano fu così grande quando ebbe visto una sommossa tanto violenta e tumultuosa che immediatamente ordinò al boia di rimettere la sua sciabola nella guaina di togliere la benda dagli occhi di aladino e di lasciarlo libero e ad anche l'ordine agli sciau di proclamare che il sultano gli concedeva la grazia e che tutti si ritirassero allora tutti quelli che erano già saliti sui muri del palazzo testimoni di quanto vi stava cadendo abbandonarono il loro progetto scesero in pochi istanti e pieni di gioia per aver salvato la vita a un uomo che amavano sinceramente comunicarono questa notizia a tutti quelli che li circondavano essa passò in breve a tutta la plebaglia che era nella piazza del palazzo e i bandi degli sciau che annunciavano la stessa cosa dall'alto delle terrazze dove erano saliti finirono di diffonderla la giustizia che il sultano aveva reso ad aladino facendogli la grazia disarmò la plebaglia fece cessare il tumulto e a poco a poco tutti se ne tornarono a casa quando aladino si vide libero alzò la testa verso il balcone e vedendo il sultano gli disse alzando la voce in modo commovente fire supplico vostra maestà di aggiungere un'altra grazia a quella che mi ha ora concesso di volermi dire cioè qual è il mio crimine qual è il tuo crimine rispose il sultano non lo conosci sali qui continuò te lo farò conoscere aladino salì e quando si fu presentato il sultano gli disse seguimi precedendolo senza guardarlo lo portò fino allo stanzino aperto e arrivato sulla porta entra gli disse il sultano tu devi sapere dov'era il tuo palazzo guarda da ogni parte e dimmi dov'è andato a finire aladino guardò e non vide niente vide tutta l'area prima occupata dal suo palazzo ma non riuscendo a capire come fosse potuto scomparire questo avvenimento straordinario e stupefacente lo gettò in una confusione e in uno stupore che gli impedirono di rispondere una sola parola al sultano il sultano impaziente ripete ad aladino dimmi dunque dov'è il tuo palazzo e dov'è mia figlia allora aladino ruppe il silenzio si redisse vedo bene e ammetto che il palazzo che ho fatto costruire non è più al posto dove era prima vedo che è scomparso e non posso dire a vostra maestà dove sia ma posso assicurare che non ho nessuna colpa in questo avvenimento io non mi preoccupo per la sparizione del tuo palazzo riprese il sultano considero mia figlia un milione di volte più importante voglio che tu me la ritrovi altrimenti ti farò tagliare la testa e nessuna considerazione me lo impedirà sire replicò aladino supplico a vostra maestà di accortarmi 40 giorni per trovare la principessa e se non ci riesco entro questo termine io vi do la mia parola che porterò la mia testa ai piedi del vostro trono affinché possiate disporne a vostra volontà ti concedo i 40 giorni che mi chiedi gli disse il sultano ma non credere di abusare della grazia che ti faccio pensando di sfuggire al mio risentimento in qualunque posto della terra tu possa essere saprò ben ritrovarti aladino si allontano dal sultano in preda a una grande umiliazione e in uno stato da far pietà attraversò i cortili del palazzo con la testa bassa senza usare alzare gli occhi tanto era confuso e i quanti dignitari della corte a nessuno dei quali egli aveva mai usato scortesie invece di avvicinargli si per consolarlo offrì di ospitalità in casa loro gli girarono le spalle sia per fingere di non vederlo sia per non farsi riconoscere ma anche se gli si fossero avvicinati per dirgli qualcosa di consolante o per offrirgli il loro aiuto non avrebbero riconosciuto aladino neanche lui si riconosceva più e non aveva più il dominio di se stesso lo dimostrò chiaramente quando fu uscito dal palazzo infatti senza pensare a quello che faceva chiedeva di porta in porta e a tutti quelli che incontrava se avessero visto il suo palazzo o se potessero dargliene qualche notizia queste domande fecero pensare a tutti che aladino fosse impazzito alcuni si accontentarono di ridere ma le persone più ragionevoli e in particolare quelli che erano stati in amicizia o in rapporti con lui furono veramente presi da compassione restò tre giorni in città andando ora da una parte e ora dall'altra mangiando solo quello che gli offrivano per carità e senza prendere nessuna decisione infine non potendo più restare nell'infelice stato in cui si vedeva in una città dove era diventato così famoso ne uscì e si avviò verso la campagna lasciò le strade principali e dopo aver attraversato parecchie campagne in preda a un'orribile incertezza arrivò infine sul fare della notte in riba a un fiume là fu preso da un pensiero disperato dove andrò a cercare il mio palazzo disse fra sé in che provincia in che paese in che parte del mondo lo troverò insieme con la mia cara principessa che il sultano mi richiede non ci riuscirò mai è dunque meglio che io mi liberi da tante fatiche che non giungeranno a niente e da tutte le cocenti sofferenze che mi rodono stava per gettarsi nel fiume mettendo in atto la decisione che aveva preso ma credette da buon musulmano fedele alla sua religione di non poterlo fare senza prima aver recitato la sua preghiera preparandosi a farlo si afficinò alla riva per lavarsi le mani e il viso secondo il costume del paese ma poiché quel punto era un po' scosceso e bagnato dall'acqua che vi batteva scivolò e sarebbe caduto nel fiume se non si fosse afferrato a una piccola roccia che spuntava dalla terra per circa due piedi fortunatamente per lui portava ancora l'anello che il mago africano gli aveva messo al dito prima che scendesse nel sotterraneo per andare a prendere la preziosa lampada che ora gli era stata portata via nell'afferrarsi alla roccia vi strofinò l'anello con una certa violenza subito lo stesso genio apparso gli nel sotterraneo dove l'aveva rinchiuso il mago africano apparve di nuovo che vuoi gli disse il genio sono pronto a obbedirti come tuo schiavo e schiavo di tutti quelli che portano l'anello al dito io e gli altri schiavi dell'anello paradino piacevolmente stupito da un'apparizione tanto inaspettata mentre era in preda a tanta disperazione rispose genio salvami la vita una seconda volta indicandomi dov'è il palazzo che ho fatto costruire o facendo in modo che sia subito riportato al suo posto quello che mi chiedi riprese il genio non è nelle mie facoltà io sono solo schiavo dell'anello rivolgiti allo schiavo della lampada se è così disse aladino ti ordino dunque grazie alla potenza dell'anello di trasportarmi nel posto dove è il mio palazzo in qualunque posto della terra si trovi e di depormi sotto le finestre della principessa Badrul Budura appena egli ebbe finito di parlare il genio lo trasportò in Africa in mezzo a una prateria dove sorgeva il palazzo poco lontano da una grande città e lo depose proprio sotto le finestre dell'appartamento della principessa dove lo lasciò tutto ciò accadde in un attimo nonostante l'oscurità della notte aladino riconobbe perfettamente il suo palazzo e l'appartamento della principessa Badrul Badura ma poiché era notte fonda e tutto era tranquillo nel palazzo si mise un po' in disparte e si sedette ai piedi di un albero là pieno di speranza riflettendo sulla sua fortuna che doveva un puro caso si trovò in una situazione tranquilla per la prima volta dal momento in cui lo avevano arrestato portato alla presenza del sultano e liberato dall'imminente pericolo di perdere la vita stette per un po' assorto in questi piacevoli pensieri ma infine poiché non dormiva da cinque o sei giorni non poteva evitare di abbandonarsi al sonno che lo primeva e si addormentò ai piedi dell'albero la mattina dopo appena cominciò a far giorno aladino fu svegliato piacevolmente dal cinguettio degli uccelli che avevano passato la notte non soltanto sull'albero sotto il quale egli era colicato ma anche sui frondosi alberi del giardino del suo palazzo egli guardò per prima cosa quel mirabile edificio e si sentì allora in preda una gioia inesprimibile pensando che tra breve ne sarebbe ridiventato il padrone e nello stesso tempo avrebbe posseduto ancora una volta la sua cara principessa Badrul Badura si alzò e si avvicinò all'appartamento della principessa passeggiò per un po' sotto le sue finestre aspettando che la luce raggiungesse il suo appartamento e potessero vederlo in questa attesa cercava fra sé quale potesse essere stata la causa della sua sventura ma dopo aver ben riflettuto non dubitò più che la sua disgrazia fosse dipesa dal fatto di aver perso di vista la sua lampada accusò se stesso di negligenza e della poca cura che aveva avuto di non lasciarla un solo istante la cosa che più lo imbarazzava era di non riuscire a immaginare chi fosse geloso della sua fortuna lo avrebbe capito subito se avesse saputo che lui e il suo palazzo in quel momento si trovavano in Africa ma il genio schiavo dell'anello non gli aveva detto niente e neppure lui se n'era informato il solo nome di Africa gli avrebbe riportato alla memoria il mago africano suo dichiarato nemico la principessa Badrul Badura si alzava prima del solito da quando era stata rapita e trasportata in Africa per l'artificio del mago africano del quale fino a quel momento era stata costretta a sopportare la vista una volta al giorno perché egli era il padrone del palazzo ma lei lo aveva trattato ogni volta con tanta durezza che egli non aveva ancora osato essere tanto ardito da andarci ad abitare quando fu vestita una delle sue schiave guardando attraverso una persiana vide Aladino corre subito ad avvertire la sua padrona la principessa che non poteva credere a questa notizia si affaccia subito alla finestra e vede Aladino apre la persiana al rumore che fa nell'aprirla Aladino alza la testa la riconosce e la saluta con aria che esprime la sua immensa gioia per non perdere tempo gli dice la principessa stanno venendo ad aprirvi la porta segreta entrate e salite e richiude la persiana la porta segreta si trovava sotto l'appartamento della principessa Aladino la trovò aperta e salì nell'appartamento della principessa non è possibile esprimere la gioia che provarono i due sposi rivedendosi dopo essersi creduti separati per sempre si abbracciarono parecchie volte e si scambiarono tutte le manifestazioni d'amore e di tenerezza immaginabili dopo una separazione tanto triste inaspettata come la loro dopo questi abbracci mescolati a lacrime di gioia si sedettero e Aladino cominciando a parlare le disse principessa prima di dirvi altro vi supplico in nome di dio sia per il vostro interesse sia per quello del sultano vostro rispettabile padre sia in special modo per il mio di dirmi che fine ha fatto una vecchia lampada che avevo messo sulla cornice nel salone delle ventiquattro finestre prima di andare a caccia ah caro sposo rispose la principessa avevo immaginato che la nostra disgrazia derivasse da quella lampada ma quello che più mi addolora è il fatto che io stessa ne sono la causa principessa riprese Aladino non attribuitevene la colpa questa è tutta mia e avrai dovuto aver maggior cura nel conservarla pensiamo solo a porre rimedio a questa perdita e perciò fatemi la grazia di raccontarmi com'è avvenuto il fatto e in che mani è caduta allora la principessa Badrul Budura raccontò ad Aladino com'era avvenuto lo scambio della lampada vecchia con la nuova che lei fece portare per mostrargliela e come la notte seguente dopo essersi accorta che il palazzo veniva trasportato si era trovata in quel paese sconosciuto dove in quel momento gli stava parlando e che era l'Africa particolare che lei aveva saputo dalla stessa bocca del traditore che ve l'aveva fatta trasportare con la sua arte magica principessa disse Aladino interrompendola mi avete fatto conoscere il traditore dicendomi che ci troviamo in Africa è il più perfido di tutti gli uomini ma non è nel momento né luogo per farvi un quadro più ampio delle sue malvagità vi prego solo di dirmi che cosa ha fatto della lampada e dove l'ha messa la porta in petto avvolta con molta cura rispose la principessa e posso assicurarvelo poiché egli l'ha tirata fuori e svolta da un panno in mia presenza per inorgogliersene con me mia cara principessa disse allora Aladino non vogliatemene per tutte le domande con cui vi stanco e se sono importanti tanto per voi quanto per me per venire a ciò che maggiormente mi interessa ditemi ve ne scongiuro come vi tratta quell'uomo così cattivo e perfido da quando sono qui rispose la principessa è venuto da me soltanto una volta al giorno e sono sicura che la poca soddisfazione che ottiene dalle sue visite lo induce a non importunarmi più spesso tutti i discorsi che ogni volta mi fa vogliono solo convincermi di rompere la fede che vi ho data e di sposarlo volendo darmi a intendere che non devo più sperare di rivedervi e che voi non siete più in vita e che il sultano mio padre vi ha fatto tagliare la testa aggiunge nel giustificarsi che siete un ingrato che la vostra fortuna è derivata solo da lui e mille altre cose che io gli lascio dire poiché non riceve da me altra soddisfazione se non i miei tristi sospiri e le mie lacrime è costretto a ritirarsi così poco soddisfatto come quando arriva non dubito però che la sua intenzione sia di lasciar passare i miei dolori più vivi con la speranza che cambierò idea e infine di usarmi violenza se continuerò a resistergli ma caro sposo la vostra presenza ha già dissipato le mie inquietudini principessa interruppe Aladino spero che non si siano dissipate in vano e credo di aver trovato il mezzo per liberarci dal vostro e mio nemico per questo è necessario però che io vada in città sarò di ritorno verso mezzogiorno e allora vi comunicherò il mio progetto e che cosa dovete fare per contribuire alla sua buona riuscita ma finché non ve ne avrò messo a conoscenza non stupitevi di vedermi ritornare con un altro abito e date ordine che al primo colpo che busserò alla porta segreta non mi facciano non mi facciano aspettare la principessa gli promise che l'avrebbe aspettato alla porta e sarebbero stati pronti ad aprirgli quando Aladino fu sceso dall'appartamento della principessa e uscito dalla stessa porta si guardò intorno e vede un contadino che si avviava verso la campagna poiché il contadino passava più in là del palazzo ed era un po' lontano Aladino frettò il passo e quando l'ebbe raggiunto gli propose di scambiarsi i vestiti e tanto fece che il contadino consentì lo scambio avvenne al riparo di un cespuglio e quando si furono separati Aladino si diresse verso la città appena vi fu entrato infilò una strada che sboccava alla porta e evitando le strade più frequentate arrivò nel quartiere dove ogni specie di mercanti e di artigiani avevano la propria strada particolare entrò in quella dei drogheri e rivolgendosi alla bottega più grande e meglio fornita chiese al mercante se avesse una certa polvere di cui gli disse il nome il mercante giudicando il suo abito pensò che Aladino fosse povero e che non avesse abbastanza denaro per pagarla gli disse perciò di averla ma che era cara Aladino intui il pensiero del mercante tirò fuori la sua borsa e mostrandogli dell'oro gli chiese una mezza dramma di quella polvere il mercante la pesò ne fece un involto e porgendolo ad Aladino gli chiese una moneta d'oro Aladino gliela ficcò in mano e fermandosi nella città solo il tempo necessario per mangiare qualcosa ritornò al suo palazzo non dovete aspettare alla porta segreta gli fu subito aperto e salì nell'appartamento della principessa Badrul Budura principessa le disse l'avversione che come mi avete detto provate per il vostro rapitore vi farà forse trovare qualche difficoltà a seguire il consiglio che devo darvi ma permettetemi di dirvi che è opportuno che voi fingiate e che facciate anche uno sforzo su voi stessa se volete liberarvi dalla sua persecuzione e dare al sultano vostro padre e mio signore la soddisfazione di rivedervi se volete dunque seguire il mio consiglio continuò Aladino dovete cominciare subito con l'indossare uno dei vostri abiti più belli e quando arriverà il mago africano non fate difficoltà a riceverlo con la migliore accoglienza possibile senza ostentazione e con naturalezza con il viso sereno in modo tale però che se vi resta qualche impronta di tristezza egli possa accorgersi che con il tempo si dissiperà durante la conversazione dategli a intendere che vi state sforzando di dimenticarmi e affinché si convinca maggiormente della vostra sincerità invitatelo a cena con voi e ditegli che vi piacerebbe gustare un po' del miglior vino del suo paese ed egli vi lascerà certamente per andarlo a prendere allora aspettando il suo ritorno quando le vivande saranno pronte mettete questa polvere in uno dei bicchieri nei quali siete soliti a bere e mettendolo da parte avvertite l'ancella che vi serve da bere di portarvelo pieno di vino a un vostro cenno che stabilirete con lei e di stare molto attenta a non sbagliare quando il mago sarà tornato mentre state insieme a tavola dopo aver mangiato e bevuto tanti bicchieri quanti giudicherete opportuni fatevi portare il bicchiere contenente da polvere e scambiate il vostro bicchiere con il suo egli giudicherà questo favore così grande che non lo rifiuterà berrà senza lasciare neppure una goccia nel bicchiere e appena l'avrà vuotato lo vedrete cadere a terra se vi ripugna bere nel suo bicchiere fingete di bere potete farlo senza timore l'effetto della polvere sarà così rapido che egli non avrà il tempo di fare caso se bevete o no quando Aladino ebbe finito la principessa gli disse vi confesso che devo fare un grande sforzo per acconsentire a rivolgere al mago quegli allettamenti che mi rendo conto è necessario fare quale decisione non si prenderebbe contro un crudele nemico farò dunque quello che mi consigliate poiché da questo dipende la mia pace non meno della vostra prese queste misure con la principessa Aladino si congedò da lei e andò a passare il resto del giorno nelle vicinanze del palazzo aspettando la notte per riavvicinarsi alla porta segreta la principessa Badrul Budura inconsolabile vedendosi separata non solo dal suo caro sposo Aladino che lei aveva subito amato e continuava ad amare ancora più per inclinazione che per dovere ma anche dal sultano suo padre al quale voleva bene e che l'amava teneramente aveva trascurato sempre la sua persona dal momento di questa dolorosa separazione aveva anche dimenticato per così dire la pulizia che tanto si addisce alle persone del suo sesso soprattutto da quando il mago africano si era presentato per la prima volta da lei e da quando aveva saputo dalle sue schiave le quali lo avevano riconosciuto che era stato lui a prendere la vecchia lampada in cambio della nuova e per questa grande furfanteria lei era venuto in orrore ma l'occasione di vendicarsi come meritava e più presto di quanto lei avesse osato sperare fece sì che decidesse ad accontentare aladino perciò appena gli fu andato via si mise davanti alla specchiera si fece pettinare dalle sue schiave nel modo che più le donava e indossò l'abito più ricco e più adatto al suo piano la cintura con la quale si cinse la vita era soltanto di oro e diamanti incastonati i più grossi e meglio assortiti e accompagnò la cintura con una collana di sole perle sei per parte così proporzionate da quella centrale che era la più grossa e la più preziosa che le più grandi sultane e le più grandi regine si sarebbero ritenute fortunate di avere una collana di perle grosse come le due più piccole di quella della principessa i braccialetti formati da diamanti e rubini rispondevano meravigliosamente alla ricchezza della cintura e della collana quando la principessa Badrul Budura fu completamente vestita consultò il suo specchio e chiese il parere delle ancelle su tutto il suo abbigliamento quindi dopo aver visto che non le mancava niente di tutte le attrattive che potevano lusingare la folle passione del mago africano si sedette sul divano aspettando il suo arrivo il mago africano non mancò di venire alla solita ora appena la principessa lo vide entrare nel salone delle ventiquattro finestre dove lo aspettava si alzò con tutti i suoi ornamenti di bellezza e di grazia e gli indicò con la mano il posto d'onore dove lei aspettò che si mettesse per sedersi contemporaneamente a lui considerevole cortesia che non gli aveva ancora mai riservato il mago africano più abbagliato dallo splendore dei vegli occhi della principessa che dal fulgore delle gemme che l'ornavano fu molto stupito il suo aspetto maestoso e una certa aria graziosa con la quale lei lo accoglieva così diversa dallo sdegno con il quale lo aveva accolto fino a quel momento la resero impacciato all'inizio volle sedersi sull'orlo del divano ma vedendo che la principessa non voleva prendere posto finché non si fosse seduto dove lei desiderava ubbidì quando il mago africano ebbe preso posto la principessa per tirarlo fuori dall'imbarazzo in cui lo vedeva ruppe il silenzio guardandolo in modo da fargli credere che egli non le fosse più odioso come gli aveva fatto capire fino a quel momento e gli disse vi stupirete certamente vedendomi oggi completamente diversa da come mi avete visto fino ad ora ma non ne sarete più stupito quando vi avrò detto che il mio temperamento è così opposto alla tristezza alla malinconia ai dolori alle inquietudini che cerco di dimenticarli al più presto possibile appena vedo che la causa che li provocava non esiste più ho riflettuto su quello che mi avete detto sulla sorte di aladino e conoscendo il carattere di mio padre sono convinta come voi che egli non avrà potuto evitare il terribile effetto della sua collera perciò anche se mi ostinassi a piangerlo per tutta la vita capisco bene che le mie lacrime non riuscirebbero a farlo risuscitare quindi dopo avergli reso anche fino alla tomba i doveri che il mio amore esigeva che gli rendessi mi è sembrato opportuno cercare i mezzi per consolarmi ecco le ragioni del mio cambiamento che vedete in me per cominciare dunque ad allontanare ogni motivo di tristezza decisa a bandirla completamente e sicura che voi vorrete tenermi compagnia ho ordinato che ci preparassero una cena ma poiché ho solo vino della Cina e mi trovo in Africa desidererei assaggiare quello prodotto da questa terra e credo che se ce n'è voi possiate procurarmi quello migliore il mago africano che aveva considerato impossibile la fortuna di entrare così presto e così facilmente nelle grazie della principessa Badrul Budura le dichiarò che non trovava parole abbastanza efficaci per dimostrarle quanto apprezzasse le sue gentilezze e infatti per porre fine al più presto a una conversazione nella quale avrebbe faticato a cavarsela se si fosse impegnato oltre si cettò sul vino dell'Africa del quale lei gli aveva appena parlato e disse che tra i vantaggi di cui l'Africa poteva vantarsi uno dei principali era quello di produrre un vino eccellente soprattutto nella regione in cui lei si trovava che egli ne aveva una botte di sette anni non ancora cominciata e che senza volerlo sopravvalutare era un vino superiore ai più squisiti del mondo se la mia principessa aggiunse vuole permettermelo andrò a prenderne due bottiglie e tornerò subito mi dispiace darvi questo fastidio gli disse la principessa sarebbe meglio mandare qualcuno devo andarsi di persona replicò il mago africano nessuno tranne me sa dov'è la chiave della cantina e nessuno conosce il segreto per aprirla dando così le cose disse la principessa andate e tornate presto più tempo impiegherete più grande sarà la mia impazienza di rivedervi ci metteremo a tavola appena sarete di ritorno il mago africano pieno di speranza per la sua pretesa felicità non corse a cercare il suo vino di sette anni piuttosto volò e tornò quasi subito la principessa che era sicura che gli avrebbe fatto molto in fretta aveva già gettato la polvere portata lì da ladino in un bicchiere che aveva messo da parte e che aveva fatto preparare si misero a tavola una di fronte all'altro in modo che il mago avesse la schiena rivolta alla credenza offrendogli quello che c'era di migliore la principessa gli disse se volete vi darò il piacere di ascoltare un concerto di voci e strumenti ma poiché siamo solo voi ed io penso che la conversazione ci darà maggior piacere il mago considerò questa scelta della principessa come un nuovo favore dopo aver mangiato qualche boccone la principessa chiese da bere beve alla salute del mago e dopo aver bevuto avevate ragione disse di fare l'elogio del vostro vino non ne avevo mai bevuto di così delizioso affascinante principessa rispose il mago tenendo in mano il bicchiere che lei gli aveva offerto il mio vino acquista una nuova bontà con il gradimento che voi gli riservate bevete alla mia salute riprese la principessa vedrete voi stesso che me ne intendo e gli beve alla salute della principessa e rendendo il bicchiere disse principessa mi considero fortunato per aver riservato questa botte per una così bella occasione io stesso devo ammettere che non ho mai bevuto in vita mia nessuna specie di vino così eccellente quando ebbero mangiato e bevuto ancora tre altri bicchieri la principessa che aveva affascinato completamente il mago africano con le sue cortesie e le sue maniere gentili diede finalmente il segnale alla schiava che serviva da bere dicendo nello stesso tempo di portarle il suo bicchiere pieno di vino e di riempire anche quello del mago africano e di portarglielo quando ebbero ognuno il loro bicchiere disse al mago africano non so quale sia il vostro costume quando ci si ama e si beve insieme come stiamo facendo noi da noi in cina i due amanti si offrono scambievolmente i loro bicchieri e così bevono l'uno alla salute dell'altra nello stesso tempo gli diede il bicchiere che teneva in mano tendendo l'altra mano per prendere il suo il mago africano si affrettò a fare questo scambio con tanto più piacere in quanto considerò questo favore come il segno più certo di aver conquistato completamente il cuore della principessa il che portò al culmine la sua felicità prima di bere con il bicchiere in mano disse principessa a noi africani manca molto per diventare così raffinati nell'arte di condire l'amore con tutti i suoi piaceri come fanno i cinesi e imparando una lezione che ignoravo apprendo anche a che punto devo apprezzare la grazia che ricevo non la dimenticherò mai amabile principessa ho ritrovato bevendo nel vostro bicchiere una vita della quale avrai perso la speranza se la vostra crudeltà fosse continuata la principessa Badrul Budura annoiata dal prolisso discorso del mago africano disse interrompendolo beviamo riprenderete dopo ciò che volete dirmi nello stesso tempo si portò alla bocca il bicchiere toccandolo solo con la punta delle labbra mentre il mago africano fece un tale sforzo per prevenirla da vuotare il suo senza lasciarne una goccia quando ebbe finito di bere poiché aveva piegato un po' la testa all'indietro per mostrare la sua premura restò per un po' in questa posizione finché la principessa che aveva sempre l'orlo del bicchiere sulle labbra lo vide stralunare gli occhi e cadere a terra privo di sensi la principessa la principessa non ebbe bisogno di ordinare che andassero ad aprire ad Aladino la porta segreta le sue schiave che lo sapevano si erano sistemate a una certa distanza una dall'altra dal salone fino in fondo alla scala in modo che appena il mago africano fu caduto in terra la porta gli fu aperta quasi subito Aladino salì ed entrò nel salone appena ebbe visto il mago africano steso sul divano fermò la principessa Badrul Budura che si era alzata e gli andava incontro per dimostrargli la sua gioia abbracciandolo principessa disse non è ancora il momento vi prego di ritirarvi nel vostro appartamento e fate in modo che mi lasciano solo mentre io mi darò da fare per farvi tornare in Cina con la stessa fretta con la quale ne siete stata allontanata infatti quando la principessa fu uscita dal salone con le sue ancelle e i suoi unuchi Aladino chiusa la porta e dopo essersi avvicinato al cadavere del mago africano che era rimasto senza vita gli aprì la veste e ne prese la lampada che era avvolta come la principessa gli aveva detto la svolse e la strofinò subito gli si presentò il genio con il solito complimento genio gli disse Aladino ti ho chiamato per ordinarti da parte della lampada tua buona padrona di fare in modo che questo palazzo sia riportato subito in Cina nello stesso luogo e allo stesso posto da dove è stato portato qui il genio dopo aver manifestato con un cenno del capo che avrebbe ubbidito scomparve infatti lo spostamento avvenne e lo si avvertì solo da due leggerissime scosse la prima quando fu sollevato dal luogo dove era in Africa e l'altra quando fu deposto in Cina proprio di fronte al palazzo del sultano il che accade in un brevissimo spazio di tempo Aladino scese nell'appartamento della principessa e finalmente abbracciandola le disse principessa posso assicurarvi che la vostra gioia e la mia saranno complete domani mattina poiché la principessa non aveva finito di cenare e Aladino aveva bisogno di mangiare la principessa fece portare dal salone delle ventiquattro finestre i cibi che erano stati serviti e che non erano stati quasi toccati la principessa e Aladino mangiarono insieme e bevero il buon vino vecchio del mago africano dopodiché senza parlare della loro conversazione che altro non poteva essere se non soddisfacentissima si ritirarono nel loro appartamento da quando il palazzo di Aladino e la principessa Badrul Budura erano stati portati via il sultano padre della principessa era inconsolabile per averla perduta come immaginava non dormiva quasi né notte né giorno e invece di evitare tutto quello che poteva ricordargli il suo dolore lo cercava anzi con maggior cura perciò mentre prima andava nello stanzino aperto del suo palazzo solo la mattina per rallegrarsi di quella vista di cui non poteva saziarsi ora ci andava parecchie volte al giorno a rinnovare le sue lacrime e a immergersi sempre più nel suo profondo dolore pensando di non vedere mai più ciò che gli era tanto piaciuto e di aver perso quello che aveva di più caro al mondo l'alba stava spuntando quando il sultano andò nello stanzino la mattina stessa in cui il palazzo di Aladino era appena stato riportato al suo posto entrandovi era così assorto e così preso dal suo dolore che rivolse lo sguardo tristemente verso il lato della piazza dove credeva di vedere solo lo spazio vuoto senza scorgere il palazzo ma appena vide che questo spazio era occupato all'inizio immaginò che fosse l'effetto della nebbia guardò con più attenzione e riconobbe senza ombra di dubbio il palazzo di Aladino allora la gioia e la commozione subentrarono ai dolori e alla tristezza ritorna nel suo appartamento affrettando il passo e ordina di sellargli e portargli un cavallo glielo portano e gli sale in sella parte e gli sembra che non arriverà mai abbastanza in fretta al palazzo di Aladino Aladino che aveva previsto ciò che poteva succedere si era alzato fin dalle prime luci dell'alba e subito dopo aver indossato uno dei vestiti più magnifici del suo guardaroba era salito nel salone delle ventiquattro finestre da dove vide arrivare il sultano scese e fece in tempo a riceverlo ai piedi dello scalone e ad aiutarlo a scendere da cavallo Aladino gli disse al sultano non posso parlarvi finché non avrò visto e abbracciato mia figlia Aladino portò il sultano nell'appartamento della principessa Badrul Budura e la principessa che Aladino prima di alzarsi aveva avvertito di ricordarsi che non era più in Africa ma in Cina e nella capitale del sultano suo padre vicino al suo palazzo aveva appena finito di vestirsi il sultano l'abbracciò più volte con il viso bagnato di lacrime di gioia e la principessa da parte sua gli manifestò in tutti i modi il grande piacere che sentiva rivedendolo il sultano stette un bel po' senza poter aprire bocca per parlare tanto era commosso per aver ritrovato la sua cara figlia dopo averla sinceramente pianta come perduta e anche la principessa era tutta in lacrime per la gioia di rivedere il sultano suo padre il sultano prese infine la parola e disse figlia mia voglio credere che sia la gioia che provate rivedendomi a farvi sembrare ai miei occhi così poco combinata come se non vi fosse successo niente dispiacevole sono convinto tuttavia che avete molto sofferto non si è trasportati insieme con un intero palazzo così improvvisamente come è successo a voi senza sentire molta paura e terribili angosce voglio che mi raccontiate che cosa è successo che non mi nascondiate niente la principessa fu felice di dare al sultano suo padre la soddisfazione che chiedeva sire disse sembro così poco cambiata supplico a vostra maestà di considerare che ho cominciato di nuovo a respirare solo ieri di buon mattino grazie alla presenza di aladino mio caro sposo e liberatore che avevo considerato ai pianto come perduto per me e la felicità che ho provato riabbracciandolo mi rimette a poco a poco nello stato in cui ero prima però a dire la verità tutta la mia pena è stata solo quella di vedermi strappata a vostra maestà e al mio caro sposo non solo per l'amore che ho per lui ma anche per l'inquietudine con cui ero circa i tristi effetti della collera di vostra maestà alla quale ero sicura che egli sarebbe stato esposto per quanto fosse innocente ho sofferto meno per l'insolenza del mio rapitore che mi ha fatto dei discorsi che non mi piacevano io li ho respinti solo grazie al potere che ho saputo acquistare su di lui per il resto ero così poco costretta come adesso per quanto riguarda il mio rapimento Aladino non c'entra per niente è solo solo io la causa ma innocentissima per convincere il sultano che diceva la verità gli raccontò con tutti i particolari il travestimento del mago africano da mercante di lampade nuove da scambiare con delle vecchie e la distrazione che lei aveva voluto prendersi scambiando la lampada di Aladino della quale ignorava il segreto e l'importanza e il trasporto dopo questo scambio del palazzo e di lei stessa in Africa col mago africano che era stato riconosciuto da due schiave e dall'eunuco che aveva fatto lo scambio della lampada quando egli aveva avuto il coraggio di venire a presentarsi da lei per la prima volta dopo il successo della sua audace impresa e di farle la proposta di sposarlo infine la persecuzione che aveva sopportato fino all'arrivo di Aladino la decisione che avevano preso insieme per togliergli la lampada che egli portava addosso in che modo vi erano riusciti lei soprattutto prendendo la decisione di fingere con il mago invitandolo a cena con lei infine gli raccontò del bicchiere con il veleno che lei gli aveva dato quanto al resto aggiunse lascio ad Aladino di rendervene conto Aladino ebbe poco da dire al sultano quando disse mi ebbero aperto la porta segreta e fui salito nel salone delle ventiquattro finestre e quando ebbi visto il traditore steso morto sul sofà grazie alla violenza della polvere poiché non era conveniente che la principessa rimanesse oltre le pregai di scendere nel suo appartamento insieme con le sue ancelle e i suoi eunuchi io restai solo e dopo aver preso la lampada dal petto del mago mi servì dello stesso segreto di cui si era servito lui per portare via questo palazzo e rapire la principessa ho fatto in modo che il palazzo tornasse al suo posto e ho avuto fortuna sire di riportare la principessa come mi avete ordinato non vi inganno maestà e se volete prendervi la pena di raggiungere il salone vedrete il mago punito come meritava per assicurarsi completamente della verità il sultano si alzò e salì e quando ebbe visto il mago africano morto con la faccia già livida per la virulenza del veleno abbracciò Aladino con molta tenerezza dicendogli figlio mio non me ne vogliate per il provvedimento che avevo preso contro di voi l'amore paterno mi ci ha costretto e merito che voi mi perdoniate l'eccesso al quale sono giunto sire rispogge Aladino non ho il minimo motivo di lagnarmi della condotta di vostra maestà voi avete fatto solo quello che dovevate fare questo mago questo infame quest'infimo uomo è l'unica causa della mia disgrazia maestà quando ne avrete il tempo vi racconterò un'altra nefandezza che lui mi ha fatto non meno infame di questa e dalla quale mi sono salvato per una grazia di Dio tutta particolare mi prenderò appositamente quanto prima il tempo necessario replicò il sultano ma pensiamo a star contenti e fate togliere questa cosa odiosa Aladino fece togliere il cadavere del mago africano con l'ordine di gettarlo nell'immondezzaio affinché servisse da pasto agli animali e agli uccelli intanto il sultano dopo aver ordinato che i tamburi i timpani e le trombe e gli altri strumenti annunciassero la pubblica gioia fece proclamare una festa di dieci giorni per rallegrarsi del ritorno della principessa Badrul Budura e di Aladino con il suo palazzo in questo modo Aladino sfuggì per la seconda volta al pericolo quasi inevitabile di perdere la vita ma non fu l'ultimo ne corse un terzo del quale ora racconteremo le circostanze il mago africano aveva un fratello minore non meno abile di lui nell'arte magica si può dire addirittura che lo superasse in malvagità e in artifici terribili poiché essi non abitavano sempre insieme o nella stessa città e spesso uno si trovava a Levante mentre l'altro era a Ponente non mancavano ogni anno di informarsi tramite la geomanzia in che parte del mondo fossero in quali condizioni si trovassero e se non avessero bisogno l'uno dell'aiuto dell'altro poco tempo dopo che il mago africano era stato sconfitto nella sua impresa contro la felicità di Aladino suo fratello che non aveva sue notizie da un anno e che era non in Africa ma in un paese lontanissimo volle sapere in che parte della terra si trovasse come stesse e cosa facesse e in qualunque posto andasse portava sempre con sé la quadrella geometrica come faceva suo fratello prende la quadrella sistema la sabbia fissa i punti ne ricava le figure e infine forma l'oloscopo osservando ogni figura scopre che il suo fratello non è più al mondo che è stato avvelenato e che è morto sul colpo che questo è successo in Cina e che è successo in una capitale della Cina sita in un certo posto e infine che colui dal quale suo fratello fu avvelenato è un uomo di umile origine che ha sposato una principessa figlia di un sultano quando il mago ebbe saputo in questo modo qual era stato il triste destino di suo fratello non persa tempo in rimpianti che non gli avrebbero ridato la vita presa immediatamente la decisione di vendicarne la morte sale a cavallo e si mette in viaggio dirigendosi verso la Cina attraversa pianure fiume montagne e deserti e dopo un lungo viaggio senza fermarsi in nessun posto con incredibili fatiche arriva finalmente in Cina e dopo nella capitale indicatagli dalla zeomanzia sicuro di non essersi sbagliato e di non avere scambiato un regno con un altro si ferma nella capitale e vi prende alloggio il giorno dopo il suo arrivo il mago uscì e girovagando per la città non tanto per ammirarne le bellezze che gli erano completamente indifferenti quanto con l'intenzione di cominciare a studiare l'esecuzione del suo terribile piano si introdusse nei posti più frequentati e ascoltò ciò che si diceva in un posto in cui si passava il tempo facendo diversi giochi e dove mentre alcuni giocavano altri si intrattenevano parlando chi delle notizie degli affari del momento e chi dei loro propri affari egli sentì che si chiacchierava e si raccontavano meraviglie della virtù e della pietà di una donna chiamata Fatima che viveva ritirata dal mondo e che faceva perfino dei miracoli pensando che questa donna potesse essere utile in qualche modo per quello che aveva in animo tirò in disparte uno di quelli della compagnia e lo pregò di volergli dire con più particolari chi fosse questa santa donna e che genere di miracoli facesse come disse l'uomo non avete ancora visto questa donna né sentito parlare di lei e la suscita l'ammirazione di tutta la città con i suoi digiuni con le sue austerità e con il suo buon esempio tranne il lunedì e il venerdì non esce mai dal suo piccolo aeremo e i giorni in cui compare in città compie infinite opere buone e non c'è persona afflitta da mal di testa che non ottenga la guarigione dall'imposizione delle sue mani il mago non volle sapere di più sull'argomento chiese solo allo stesso uomo in che quartiere della città si trovasse l'eremo di quella santa donna l'uomo glielo indicò al che una volta concepito e stabilito il detestabile piano di cui presto parleremo con lo scopo di conoscere meglio il luogo osservò tutti i movimenti della donna il primo giorno in cui lei uscì dopo che aveva fatto questa indagine senza perderla di vista fino a sera quando la vide rientrare nel suo eremo quando ebbe ben osservato il luogo andò in uno di quei locali che abbiamo descritto in cui si beveva una certa bevanda calda e dove se si voleva si poteva passare la notte particolarmente nei periodi di gran caldo durante i quali in quei paesi si preferisce dormire sulla stuoia piuttosto che in un letto dopo aver soddisfatto il padrone del posto pagandogli il poco che aveva consumato il mago uscì verso mezzanotte e andò dritto all'eremo di Fatima la santa donna come era chiamata in tutta la città non ebbe difficoltà ad aprire la porta che era chiusa solo da un salicendi una volta entrato la riaccostò senza far rumore e al chiarore della luna vide Fatima che dormiva su un divano guarnito da una brutta stuoia appoggiato alla sua cella e si avvicinò e dopo aver estratto un pugnale che portava al fianco la svegliò aprendo gli occhi la povera Fatima fu molto stupita vedendo un uomo pronto a pugnalarla appoggiandole il pugnale contro il cuore pronto ad affonderlo e gli le disse se gridi o fa il minimo rumore ti ammazzo alzati invece e fa quello che ti dirò Fatima che dormiva vestita si alzò tremando di terrore non aver paura le disse il mago ti chiedo solo il tuo vestito dammelo e prendi il mio gli scambiarono i vestiti e quando il mago ebbe indossato quello di Fatima le disse dipingimi il viso come il tuo in modo che io ti somigli e che il colore non si cancelli vedendo che quella ancora tremava affinché facesse con più sicurezza ciò che le chiedeva le disse non aver paura glielo dico ancora una volta ti giuro sul nome di dio che non ti ucciderò Fatima lo fece entrare nella propria cella accese la lampada e prendendo con un pennello un certo liquido da un vaso glielo strofinò sul viso e gli assicurò che il colore non sarebbe cambiato e che aveva il viso dello stesso colore del suo senza nessuna differenza gli mise poi la propria acconciatura sulla testa con un velo insegnandogli in che modo dovesse nascondersi il viso andando in giro per la città infine dopo avergli messo intorno al collo una grossa corona che gli pendeva davanti fino a metà del corpo gli mise in mano lo stesso bastone che lei portava di solito e dandogli uno specchio disse guardate vedrete che non potreste assomigliarmi di più il mago si vide come aveva sperato ma non mantenne il giuramento che aveva così solennemente fatto alla buona Fatima affinché non si vedesse del sangue invece di trafiggerla con il pugnale la strangolò e quando vide che aveva reso l'anima le trasinò il cadavere per i piedi fino alla cisterna dell'eremo e ve la gettò dentro il mago travestito così da Fatima la santa donna passò il resto della notte nell'eremo dopo essersi macchiato di un delitto così orribile il giorno dopo verso l'una o le due del mattino sebbene fosse un giorno in cui la santa donna non aveva l'abitudine di uscire egli non tralasciò di farlo ben convinto che non gliene avrebbero chiesto la ragione tuttavia se questo fosse successo aveva già pronta la risposta poiché una delle prime cose che aveva fatto arrivando era stata quella di andare a vedere il palazzo di Aladino dove aveva progettato di recitare la sua parte prese quella direzione appena ebbero riconosciuto la santa donna come tutti pensavano il mago fu presto circondato da un grande accorrere di gente gli uni si raccomandavano alle sue preghiere altri gli baciavano la mano altri più riservati gli baciavano solo l'orlo della veste e altri sia che avessero mal di testa o che avessero l'intenzione di esserne preservati si chinavano davanti a lui affinché egli ponesse le mani sul loro capo cosa che egli faceva borbottando qualche parola a mo' di preghiera e imitava così bene la santa donna che tutti lo scambiavano per lei dopo essersi fermato parecchie volte per accentuare questo genere di persone che non ricevevano né bene né male da questa specie di imposizione delle mani arrivò infine nella piazza del palazzo di Aladino dove poiché l'affluenza aumentò vi fu ancora maggiore ressa di persone che volevano avvicinarsi a lui i più forti e zelanti rompevano la calca nel farsi posto e perciò nacquero discussioni il cui frastuono si fece sentire nel salone delle ventiquattro finestre dove si trovava la principessa Badrul Budura la principessa chiese che cosa fosse quel chiasso e poiché nessuno seppe dirgliene a niente ordinò di andare a vedere e di venire a riferirglielo senza uscire dal salone un'ancella guardò attraverso la persiana e tornò a dirle che il chiasso era causato da una folla che circondava la santa donna per farsi guarire dal mal di testa con l'imposizione delle mani la principessa che da molto tempo aveva sentito dire un gran bene della santa donna ma che non l'aveva ancora vista provò la curiosità di conoscerla e di parlarle appena ebbe manifestato il suo desiderio il capo degli eunuchi che era presente le disse che se lo desiderava era facile farla venire e doveva solo ordinarlo la principessa consentì e subito egli mandò quattro eunuchi con l'ordine di condurre la pretesa santa donna appena gli eunuchi furono usciti dalla porta del palazzo di aladino e la gente vide che si dirigevano verso il punto in cui era il mago travestito la folla si dissipò e quello quando fu libero ed ebbe visto che venivano verso di lui andò loro incontro con gioia tanto maggiore in quanto vedeva che la sua astuzia stava funzionando le eunuco che prese la parola gli disse fanta donna la principessa vuole vedervi venite seguiteci la principessa mi fa un grande onore rispose la finta Fatima sono pronta a ubbidirle e nello stesso tempo seguì gli eunuchi che avevano già preso la strada del palazzo quando il mago il quale sotto un abito di santità nascondeva un cuore diabolico fu introdotto nel salone delle ventiquattro finestre e vide la principessa esordì con una preghiera che comprendeva una lunga enumerazione di voti e di auguri per la sua salute per la sua prosperità e per il compiersi di tutto quanto lei potesse desiderare ricorse quindi a tutta la sua retorica di impostore e di ipocrita per insinuarsi nell'animo della principessa sotto il manto di una grande pietà e gli fu tanto più facile riuscirvi in quanto la principessa che era buona per natura era convinta che tutti fossero buoni come lei soprattutto quelli che facevano professione di servire Dio con una vita ritirata quando la falsa Fatima ebbe finito la sua lunga tiritera la principessa le disse mia buona donna vi ringrazio per le vostre sante preghiere ho molta fiducia in esse e spero che Dio le esaudisca avvicinatevi sedetevi vicino a me la falsa Fatima si sedette con un'astinata modestia e allora la principessa riprendendo a parlare disse mia buona donna vi chiedo una cosa che dovete accordarmi non negatemela ve ne prego vi chiedo cioè di restare con me affinché mi parliate della vostra vita e che io apprenda da voi e dai vostri buoni esempi come debbo servire Dio principessa disse allora la finta Fatima vi supplico di non pretendere da me una cosa alla quale non posso consentire senza distogliermi e distrarmi dalle mie preghiere e dalle mie pratiche di devozione questo non deve preoccuparvi riprese la principessa ho parecchi appartamenti liberi potete scegliere quello che più vi piacerà e vi farete tutte le vostre devozioni con la stessa libertà che avreste nel vostro eremo il mago che non aveva altro scopo se non quello di introdursi nel palazzo di Aladino dove gli sarebbe stato più facile mettere in atto la malvagità che progettava abitandovi sotto gli auspici e la protezione della principessa piuttosto che essere costretto ad andare e venire dall'eremo al palazzo e dal palazzo all'eremo non fece più resistenza ad accettare la cortese offerta della principessa principessa disse nonostante la decisione che una donna povere miserabile come me ha preso di rinunciare al mondo ai suoi fasti alle sue grandezze non oso prendermi l'ordire di resistere alla volontà e all'ordine di una principessa così pia e così caritatevole a questa risposta del mago la principessa alzandosi per prima gli disse alzatevi e venite con me vi farò vedere gli appartamenti vuoti che ci sono affinché possiate scegliere egli seguì la principessa Badrul Budura e fra tutti gli appartamenti che lei gli mostrò che erano elegantissimi e molto ben arredati scelse quello che gli sembrò meno lussuoso degli altri dicendo ipocritamente che era troppo per lei e lo sceglieva solo per far piacere alla principessa la principessa volle riportare quel furfante nel salone delle ventiquattro finestre per farlo cenare con lei ma poiché per mangiare egli avrebbe dovuto scoprirsi il viso che fino ad allora aveva sempre tenuto velato e temeva perciò che la principessa si accorgesse che non era Fatima la santa donna come lei credeva la pregò con tanta insistenza di dispensarla dicendole che lei mangiava solo pane e qualche frutto secco e di permetterle di consumare quel modesto pasto nel suo appartamento che la principessa glielo accordò mia buona donna le disse voi siete libera fate come se foste nel vostro eremo vi farò portare da mangiare ma ricordatevi che vi aspetto non appena avrete finito la principessa cenò e la falsa Fatima non mancò di ritornare da lei appena ebbe saputo da un eunuco che aveva pregato di avvertirla che si era alzata da tavola mia buona donna le disse la principessa sono felice di avere una donna santa come voi che sarà la benedizione di questo palazzo a proposito di questo palazzo che ve ne sembra ma prima che io ve lo faccia vedere stanza per stanza ditemi che cosa pensate di questo salone a questa domanda la falsa Fatima che per meglio recitare la sua parte era rimasta ostentatamente con la testa bassa fino a quel momento senza alzarla neppure per guardare da una parte o dall'altra infine la sollevò e percorse con lo sguardo il salone da un capo all'altro e quando l'ebbe bene osservato disse principessa questo salone è veramente ammirevole e di grande bellezza tuttavia per quel tanto che può giudicarne un'eremita mi sembra che vi manchi una cosa che cosa mia buona donna chiese la principessa Badrul Budura ditemelo ve lo scongiuro quanto a me ho creduto e ho sentito dire così che non vi mancasse niente se vi manca qualcosa vi farò porre rimedio principessa replicò la falsa Fatima con grande ipocrisia perdonatemi la libertà che mi prendo il mio parere se può avere qualche importanza sarebbe che se in alto o al centro di questa cupola vi fosse sospeso un uovo di rock questo salone non avrebbe uguali nelle quattro parti del mondo e il vostro palazzo sarebbe la meraviglia dell'universo mia buona donna chiese la principessa che uccello è il rock e dove si potrebbe trovare un suo uovo principessa rispose la falsa Fatima è un uccello di grandezza prodigiosa che abita nella parte più alta del monte caucaso l'architetto del vostro palazzo può trovarvene uno dopo aver ringraziato la falsa Fatima del suo buon consiglio come lei lo riteneva la principessa Badrul Budura continuò a intrattenersi con lei su altri argomenti ma non dimenticò l'uovo di rock e pensò di parlarne ad Aladino appena fosse rientrato dalla caccia egli vi era andato da sei giorni e il mago che non lo ignorava aveva voluto approfittare della sua assenza Aladino tornò quello stesso giorno verso sera mentre la falsa Fatima si era appena congedata dalla principessa e ritirata nel suo appartamento arrivando salì nell'appartamento della principessa che vi era appena entrata lo salutò e l'abbracciò ma gli sembrò che lei lo accogliesse un po' freddamente mia principessa disse non noto in voi quell'allegria che sono solito vedere è successo qualcosa durante la mia assenza che vi sia dispiaciuto e che vi abbia causato qualche contrarietà o qualche pena in nome di Dio non nascondetemelo non c'è niente che non farei per liberarvene sei in mio potere è una piccolezza rispose la principessa e mi preoccupa così poco che non pensavo che si riflettesse sul mio viso tanto di farvene accorgere ma poiché contrariamente a quanto mi aspettavo voi vi notate un certo turbamento non ve ne nasconderò la causa che è di pochissima importanza avevo creduto come voi continuò la principessa Badrul Budura che il nostro palazzo fosse il più splendido il più magnifico il più perfetto del mondo vi dirò però quello che mi è venuto in mente dopo aver bene esaminato il salone delle ventiquattro feste non credete come me che non ci sarebbe altro da desiderare se un uovo di rock fosse sospeso in mezzo alla volta della cupola principessa rispose Radino basta che voi crediate che vi manchi un uovo di rock perché anch'io vi noti lo stesso difetto vedrete dalla premura con la quale vi metterò rimedio che non c'è niente che io non sia disposto a fare per amor vostro subito Aladino lasciò la principessa Badrul Budura salì nel salone delle ventiquattro feste e là dopo aver tirato fuori del seno la lampada che portava sempre su di sé in qualunque posto andasse dopo il pericolo che aveva corso per aver tralasciato di prendere questa precauzione la strofinò subito gli si presentò il genio genio gli disse Aladino a questa cupola manca un uovo di rock sospeso in mezzo alla volta ti chiedo in nome della lampada che ho tra le mani di fare in modo di porre rimedio a questo difetto Aladino non aveva ancora finito di pronunciare queste parole quando il genio lanciò un grido così acuto e così spaventoso che il salone ne fu scosso e Aladino vacillò e fu sul punto di cadere lungo disteso che infame gli disse il genio con una voce da far tremare l'uomo più coraggioso non ti basta che i miei compagni e io abbiamo fatto tutto per riguardo a te per chiedermi con un'ingratitudine senza pari che io ti porti il mio padrone e che lo sospenda in mezzo alla volta di questa cupola questo attentato meriterebbe che voi foste ridotti in cenere al distante tu tua moglie e il tuo palazzo ma sei fortunato perché non ne sei tu l'autore e la richiesta non viene direttamente da te sappi chi ne è il vero autore è il fratello del mago africano il tuo nemico che ha esterminato come meritava egli è nel tuo palazzo travestito con le vesti di Fatima la santa donna che lui ha assassinato ed è stato lui a suggerire a tua moglie di fare la terribile domanda che mi hai rivolto il suo piano è di ucciderti tocca a te starne in guardia dette queste parole sparì aladino non perse una sola delle ultime parole del genio egli aveva sentito parlare di Fatima la santa donna e non ignorava in che modo lei guarisse il mal di testa a quanto si affermava ritornò nell'appartamento della principessa e senza parlare di quello che gli era accaduto si sedette appoggiandosi la mano sulla fronte e disse che improvvisamente gli era venuto un gran mal di testa la principessa ordinò subito di far venire la santa donna e mentre andavano a chiamarla raccontò ad aladino per quale circostanza Fatima si trovasse nel palazzo in cui lei le aveva assegnato un appartamento la falsa Fatima arrivò e appena entrata aladino le disse venite buona donna sono molto lieto di vedervi e di avere la fortuna che vi troviate qui sono tormentato da un terribile mal di testa che mi ha appena colto chiedo il vostro aiuto avendo molta fiducia nelle vostre buone preghiere e spero che non mi negherete la grazia che fate a tanti afflitti da questo male dette queste parole si alzò piegando la testa e la falsa Fatima avanzò verso di lui ma portando la mano su un pugnale che aveva infilato nella cintura sotto la veste aladino che lo osservava mi afferrò la mano prima che lo avesse estratto e trafiggendole il cuore col proprio pugnale la gettò morta sul pavimento mio caro sposo che avete fatto esclamò la principessa in preda allo stupore avete ucciso la santa donna no mia principessa rispose aladino senza scomporsi non ho ucciso Fatima ma uno scellerato che stava per assassinarmi se non l'avessi prevenuto è stato questo uomo malvagio giunse togliendogli il velo a strangolare Fatima che avete creduto di rimpiangere accusandomi della sua morte egli si era camuffato con il suo abito per pugnalarmi e affinché lo conosciate meglio sappiate che era fratello del mago africano vostro rapitore aladino le raccontò poi in che modo avesse saputo questi particolari dopodiché fece portare via il cadavere in questo modo aladino fu liberato dalla persecuzione dei due fratelli maghi pochi anni dopo il sultano morì molto vecchio non lasciando figli maschi la principessa Badrul Budura come era ed è legittima gli succedette e conferì i piani poteri ad aladino essi regnarono insieme lunghi anni e lasciarono un'illustre discendenza un'illustre 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 un'illustre